Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio dio raga guardate Cosa cavolo è successo Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la povera faccia Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha in casa mia Masha e orso ripresi nella vita reale E questo è un video che viene da una videocamera di sorveglianza di un negozio Sono videocamere che riprendono a frame E come vedete c'è qualcuno di molto simile a Masha Che si appresta ad entrare nel negozio Altri video in questo periodo sono stati diffusi in rete Ma sono tutti video fatti da telecamere che vanno a fotogrammi Come questo per esempio Che sta riprendendo la porta di casa sua E si vede una persona che assomiglia tantissimo a Masha Che si avvicina alla porta di casa sua Bussa e se ne va via alle 3 di notte Io però ho scoperto tramite il dark web un modo per evocare Masha e orso nella vita reale Una candela rigorosamente per far partire queste cose Un vasetto di miele per orsi E anche un foglio per le risposte Perché se non riesce a comunicare con la voce Lo farà con le cose paranormali Ed io oggi voglio che seguiate il video fino alla fine Perché voglio smascherare Masha Perché secondo me non è la vera Masha Quella che si aggira nella vita reale Secondo voi chi è? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi sta arrivando una videochiamata Pronto Masha? Da quanto tempo che non ti sento? Hai delle novità per me? Sì Masha che ho delle novità per te Ho preso la tua pozione dal dark web e ti voglio evocare nella vita reale Tu sei disposta a venire fin qua? Stavolta fai sul serio vedo Allora farò anche io sul serio sai Fino ad oggi non mi sono mai mostrata per quella che sono davvero Cosa intendi Masha che non ti sei mai mostrata per quella che sei? Non mi dire che c'è nascosto altro Lo so sono spaventosa ma non guardarmi Lo hai fatto lo stesso e adesso mi hai costretto a venire a mangiarti Io non sono un cibo Masha Attaccato Ma questa minaccia se ne va Lasciamo perdere le minacce di Masha Adesso l'importante è verificare che non sia già dentro casa nostra Perché potrebbe già essere entrata Vediamo se effettivamente Masha è entrata in casa nostra e se effettivamente ha fatto quello che ha detto Ok ci siamo Ragazzi sul tavolo ci sono delle cose che io non avevo visto prima Sul tavolo come potete vedere abbiamo la pozione di Masha Che è blu E non mi chiedete il perché non lo so E' un mistero anche per me nella vita non si può sapere tutto ma si possono imparare più cose possibili Oltre questo abbiamo il miele che per orso il miele è come l'orsacchiotto di Granny Guardate sentite i battiti di orso Lo devo lasciare perché se no arriva orso eh I battiti di orso ci sono Poi abbiamo la candela che a quanto pare qualcuno ce l'ha già portata qui E ho portato il foglio per le domande E abbiamo anche i panini con ketchup umano Voi sapete che cosa intendo Queste sono tutte cose che sicuramente arrivano dal dark web ma una tra tutte mi interessa di più Ed è la pozione di Masha perché tramite questa si attiverà tutto quindi io direi beviamola E vediamo cosa succede Vado eh La vedi la mia testa da teschio? Non lasciami pace non ti scrivi in tre prossimi tre secondi Masha.exe ti mangerà stanotte Era un filtro quello stavo scherzando Per il momento non ha avuto effetti particolari Raga la mano Guarda la mano è rossa Si è andata Oh mio Raga mi sa che il veleno può essere blu secondo voi? Non è che mi ha avvelenato questa? Sto un po' meglio ragazzi Ragazzi questa è l'allarme di casa Questa è l'allarme di casa Raga si è accesa la tv C'è l'allarme di casa È partito Che c'è scritto? Allerta Intruso rilevato dal sistema di sicurezza della casa Le autorità sono state avvertite Arriveranno tra 30 minuti Nel frattempo nascondetevi E funziona anche se non c'è l'audio Funziona ancora Questo significa che c'è qualcuno in casa Ma io non ho visto nessuno Voi avete visto qualcuno? O mio dietro forse? Secondo me lei è da qualche parte Io non l'ho vista Se voi l'avete vista scrivetemelo nei commenti Ragazzi ma voi veramente vi pensate che mi mangio questa roba? Ma non è che credete di chiedere un po' troppo? Cioè io questa roba non la tocco Ma neanche se mi paga Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha in casa mia? Secondo me è venuta L'hai letto il mio libro? Raga Non risponde Mi sa che non lo apprezza Lo sapevo che li aveva fatti lei Sono proprio buoni Se quando l'ho finito non mi risponde ragazzi Ti rifaccio ingoiare lei L'ho finito Masha sei buona o cattiva? Raga ma si è mangiato il foglio Ma si è mangiato il foglio Ragazzi non pensavo che funzionasse davvero solo nei guai Cosa facciamo? La televisione raga Guarda sulla tv C'è la statica Si è attivata con la statica Non funziona Oh Raga non funziona Ma Masha dove è andata? Ma fino al secondo fa era lì Ma questa statica non si toglie Raga ma è partita Masha È partito il cartone di Masha Lei non è più lì Ma è qui Avete visto gli occhi di Masha Come erano diventati? Tornate nei suoi video per vederli Se non l'avete visti Ma che cavolo sta succedendo stasera? Si è spenta Sta chiamando e mi è partita da sola ragazzi Ciao Frostinox Perché mi hai videochiamato? Siamo su Discord Ragazzi non mi sente? Però mi senti? Ma è che ho dei problemi io ragazzi E non so il perché mi è partita sta videochiamata davvero La sua videochiamata ha greciato Ma non mi sente? Ragazzi scrivetegli qualcosa anche voi Non mi sente Ma che è successo? Che è successo? Ragazzi continuo a non sentirmi Sta parlando da solo Ma non è che Mi è sembrato di vedere qualcosa dietro eh Mi è sembrato di vedere qualcosa Non sono sicuro Ti ha lampeggiato la luce? Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Io spero Spero che non arrivi anche qua E la chiamata si è interrotta Secondo me cosa gli ha fatto? Io non credo che abbia fatto una bella fine Oddio Hai visto? Torna dietro con il video se non l'hai visti C'erano due occhi qua che si illuminavano Io li ho visti dalla telecamera Li ho visti qui Che sia lei che è diventata indemoniata adesso Mi sta videochiamando di nuovo no? Devo rispondere però Anche se ho paura devo rispondere Ok rispondiamo Hai lasciato che i tuoi amici venissero mangiati Ma non ti senti nemmeno un po' in colpa? Sei stato lì senza fare niente Ma se non potevo fare niente? Eravamo in videochiamata Masha Mi hai tenuto con le mani legate Gli hai fatto tutto in videochiamata In modo che io non potessi fare niente Quindi cosa vuoi da me adesso? Adesso però è il tuo turno Non sono qua perché me lo hai chiesto tu Sono qua perché io voglio mangiarti Voglio sacciarmi E tanto che non faccio un pasto Tu provaci Ma io ti smaschererò prima Perché devo scoprire chi sei in realtà Lo farò e ti smaschererò davanti a tutti quanti Adesso vedremo cosa sai fare contro di me Che intendi? Raga Attaccato Dobbiamo andarla a cercare ragazzi A questo punto Non ci ha lasciato altra scelta Ricordati che il libro tu lo trovi in libreria Nel link in descrizione La scuola dei mostri Ti protegge da tutti i mostri Ragazzi secondo me non è tanto lontana Masha Raga Raga era dietro Era dietro Io me ne vado qua Spero che non ci abbia visti Dobbiamo scoprire che cosa ha in mente Ragazzi Masha è uscita Dobbiamo assolutamente scoprire chi è Io la devo inseguire Chissà dove si è cacciata Masha ora Ragazzi è dietro L'avete visto? Guardate se ne va Se ne va Devo seguirla in qualche modo La dobbiamo trovare Ragazzi non c'è più Ragazzi guardate per terra Ci sono le impronte di Masha e Orso Le vedete? Sono qui Io le devo seguire assolutamente Se ne seguiamo Arriveremo sicuramente Nel nascondiglio segreto di Masha Guardate sicuramente Dietro questo c'è spuglio Ragazzi ma quella è Masha Ricordi col giacchetto Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la tua vera faccia Vediamo Adesso ti smaschero Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'è la Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guardala Hai fame To Orribile E' svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe dalla foto però eh Ci fanno queste vespe E vabbè E vabbè le lapi stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio Dio si è aperta la finestra Lo sapevo che è entrato qualcuno No c'è qualcos'altro signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Ma cosa c'è? Si Però l'acqua come l'ho toccata è esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare it Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva it Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire Anche gli altri personaggi Ma qua orse è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli Giustamente È buio Io sento dei versi orribili Di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma raga mi sto Mi sto spaventando Direi di sì Masha Che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite Ma mi sembra di sentire versi di orsi Oh mio dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me Voi però eh Oh mio Basta non indago più Basta ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso? Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto di Agiwagi Ti consiglio di correre a prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato? Non ha portato a termine il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Mascia e orso? No ne ho visti anche troppi Mascia Non ci tengo a vedere un altro episodio di Mascia e orso No ragazzi guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo che ti obbligo a vederlo Smetti la Mascia Smetti la Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Sì mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Mascia? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Mascia.ex E adesso iscriviti se non vuoi che ti venga a mangiare Guardate orso che faccia orribile che ha Oh mio dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guarda hai fame to Orribile È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Per favore Dicci la tua età E per attivare L'easter egg Dobbiamo mettere L'età 666 Che non compare il terzo 6 giustamente Ma per noi è come se fosse comparso Andiamo Eccoci Iscriviti e gioca senza la pubblicità Oh Orso si sta davvero trascurando Portalo alla doccia Così può Grazie al cavolo che orso si sta trascurando Con una roba come Mascia Che cosa possiamo usare per far fuori Mascia Ci avranno fornito qualche oggetto Ma quanto è brutta Mascia Uh il cibo Vediamo vediamo Forse riesco a farla avvelenare Allora questa carne non mi sembra che abbia un bel aspetto Buono Mascia Mmm Ma è andata male A me non sembra che ti faccia tanto bene sto cibo Ma com'è già contenta È davvero buono Adesso è ora di giocare No Mascia Anzi si adesso è ora di giocare Dobbiamo cercare la bicicletta ragazzi Eccola Ragazzi anche a voi Mascia ricorda solo l'enigmista così Scrivetemelo nei commenti che sono curioso Ma dove è andata Mascia Dobbiamo Dobbiamo correre più veloci del panda Vai Mascia Vai ti schianti Se la faccio schiantare può fare una brutta fine No niente Non si è schiantata Speravo si schiantasse Invece è contenta Con una faccia un po' creepy Uh Chi è questa ragazzi Io non lo so chi è Forse ce la darà lei l'oggetto per far fuori Mascia Una chiave Vediamo E ci sono altri due pacchetti regalo Con altre due chiavi Una è una pistola ragazzi Quindi forse effettivamente ce l'abbiamo degli oggetti per farla fuori E cosa me ne faccio di questa roba Si è sbloccata la chitarra E adesso si sblocca anche la pistola Un aspirapolvere Possiamo sbloccare la prossima volta E una pistola non ad acqua Quanti oggetti che stanno comparendo nella casa di Mascia Ragazzi questo è Mascia.ex Mascia.ex deve andare in bagno ragazzi Sembra il bagno di Shrek Mascia invece deve andare a dormire Vediamo se compare Mascia.ex qua Lascio mi piace scritto dentro prossimi 3 secondi oppure Mascia.ex ti mangerà stanotte Guardate Orso che faccia orribile che ha Ce l'ha tolto per metterci tutte le animazioni Ma penso che voi lo abbiate visto Hai fame di Mascia Orso? Andiamo a mangiarci Mascia Oh c'era qualcuno dentro l'armadio l'ho visto eh Si era mosso l'armadio prima ragazzi l'avete visto Mascia ha dormito Vieni Orso andiamoci a mangiare Mascia Guardate Orso si avvicina molto Creepy E c'è la testa di Mascia qua Tieni Orso Gnam Che verso orribile che ha fatto Ragazzi è stato spaventoso Secondo me alla fine sarà Orso che farà fuori Mascia Dov'è Mascia? Ciao Mascia 1 e Mascia 2 sono insieme Non credo che sia una bella situazione questa eh Credo che tu abbia bisogno di dormire Orso vai Buonanotte Ma non ha bisogno di dormire a quanto pare Ma chi è questo ragazzi? Mascia deve far fuori una tigre Speriamo che però sia la tigre a far fuori Mascia qui Sì la bomba vabbè ho capito Mi fai giocare e devi scassare le scatole ancora Abbiamo preso gli orsi cattivi che si introducono in casa nostra No quella è una bomba Guarda pure un leone c'è Abbiamo un sacco di nemici però Questo è l'importante Quindi Mascia se non la facciamo fuori noi sicuramente qualcuno ci sarà che la fa fuori No ha preso la bomba Guardate lo schermo inizia a essere tutto rotto Mi sa che Mascia sta soffrendo qua eh Per via della bomba Però abbiamo vinto Non credo che faccia ricadere lo sfondo Ragazzi? Avete visto cosa c'era nella foto? Mascia non sta bene eh Guardate che c'è tutto cibo avariato Adesso glielo do Speriamo che si senta male stavolta eh Guarda hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto? Si sta ricaricando però Quindi Mascia può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Mascia.exe dalla foto però eh Oh mio dio Guardate nella televisione Si vede qualcosa Non so chi sia quello della televisione Però si vede qualcosa Se n'è andato Volevo vedere dagli occhi di orso Se qualcuno ci sta spiando Oppure dagli occhi di questa Mascia strana Guardate Però mi sembra Guarda negli occhi Si è vista una faccia mi sa eh Guardate bene che in questa foto Si vede la faccia Anche il gioco me lo dice Sto facendo un ottimo lavoro Sto scoprendo delle cose Che non dovrei scoprire Mmm Sta pubblicità Però guardate Sembra tipo Mascia Prima di diventare .exe Dopo .exe Cioè tipo l'evoluzione Alla fine ste pubblicità Non è vero che non servono a niente A te ti devo Vieni che ti curo Cosa facciamo Una bella puntura Totti da TV Questo e buonanotte Perfetto Stai bene adesso Benissimo Ma non hai fatto niente Come fai a essere completamente Pulisci Vabbè ti metto a letto Ogni volta che passo con orso Si vede qualcuno Che ti arriva da dentro l'armadio Allora nel gioco Sembra Mascia normale Ma nella foto che la rappresenta C'è Mascia.exe Secondo me questo significa qualcosa Guardate qua dietro Sembra di vedere degli occhi In lontananza però eh Sta arrivando Mascia Quella cattiva stregona Te c'entri qualcosa Vero Se riusciamo a prendere tutti gli ingredienti Che ci servono Possiamo fare una roba Per curare Mascia Come abbiamo fatto per Tolkien Joan Una bella pozione di cura Uh lui aveva un cuore L'abbiamo preso Quindi il cuore ce l'abbiamo Ho vinto Guardate Mascia.exe con orso Che aspetta i regali E orso Sembra un po' Cattivo Non sembra contento Di questa cosa Vediamo I pattini abbiamo ricevuto Vedete che si muove Forse ci tengono qualcuno Si sentono anche delle canzoncine strane Di sottofondo Prendiamo Mascia streghetta Mascia baby Guardate i suoi occhi Stanno cambiando Sta tornando normale Sai qual è il libro Che tiene lontana Mascia.exe Il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti protegge da tutti i mostri E ti insegna a superare Le tue paure E ci sono anche delle avventure epiche È tornata normale per fortuna Anche se ha fatto una luce verde Strana che sembra che puzza Ha distrutto ragazzi Il frigorifero Avete visto cosa aveva combinato Ad orso Mascia Adesso sono tornati tutti normali Eccoci Che è questo gioco Dove ci fa vedere La notte di Mascia e orso Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Però intanto vi faccio vedere Il primo pezzo A Mascia piace tanto disegnare Prima di andare a morire Ma chi è che sta parlando Come una madre russia Ho creato un'ambulanza Sicuramente sarà per me Dopo la fine di questo video E c'è un lupo Che sicuramente sarò io Dopo la fine di questo video E c'è un altro ancora Stanno mangiando Quella è Mascia ragazzi È solo l'interiore a di Mascia Se le stanno a mangiare Ma state scherzando È un gioco per bimbi Guardate che bello Cosa dovremmo disegnare Guardate che bel disegno Abbiamo completato La casa di Mascia Ma cosa salti Non lo vedi che sotto il tuo letto C'è un mostro Cosa ridi A parte che anche sopra il tuo letto C'è un mostro Visto la faccia che ti hanno fatto Ragazzi è bruttissimo Guardate che brutto C'è il temporale Oh mio dio C'era Jeff the Killer fuori Mascia è scomparsa Oh io non ho visto dove è andata Forse voi lo sapete È andata da orso E allora va a svegliare orso Orso Non usa le candele Già il paura è di mio Poi usi le candele Per andare a trovare Jeff the Killer Ma usa qualcos'altro Guardate Era entrata una cosa Dalla finestra C'è una vespa Ma era entrato Jeff the Killer Cos'è successo questa volta? Non lo so Signora russa Cosa ci fanno queste vespe? E vabbè Le lapi stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che era entrato qualcuno No C'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Mascia dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è? Però l'acqua come l'ho toccata E' esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora rusa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo? Non è un canale adatto a Mascia vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Mascia non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Mascia Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma cos'è questa risata orribile? Bravo Mangiatene così Sei tranquillo Che devo fare? E vabbè Ma chi è che è entrato dentro il frigo Ha fatto sto schifo però Non è che se il frigo era ridotto così Non potete Ecco Ora possiamo dormire Con queste bambole brutte Come la fame Guarda là Sono delle bambole maledette queste Dormi dentro il ca... Eh dormi qua Dentro il... Qua Dentro il cappello Coniglio Che devo fare i libri? Eh qui Dentro il cappello Te l'ho detto Sono più intelligenti di te Dormi dentro il cappello Vai coniglio Ciao Vai ti spengo la luce Perché sennò non ti lascia dormire Cioè dobbiamo aiutare a sopravvivere A Jeff the Killer Dobbiamo aiutare a sopravviverli Adesso faccio l'ultimo livello Poi ragazzi lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Questi sono degli scoiattolini Che dobbiamo fare? Guardate che faccio orribile Nella finestra Ma perché compaiono queste facce? Sarà forse l'orario A cui sto giocando Che fa comparire sta roba? Perché sto giocando A luna di notte Oh Puliamo le fa... Questa qua con orso No dammi quella con orso Che sono curioso di vedere Cosa è successo Guardate qua orso è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli Giustamente È buio Io sento dei versi orribili Di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda... Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il tovagliolo Ma è normale Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite? Pensi che sopravviverai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Mazzirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai i tuoi iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina Molto molto cattiva E sono vedi Alla porta di casa tua Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Perché sarai diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Hello Sono tornato dal McDonald's King Burger Mega Galattico Perché ho preso Gli Happy Meal Di Masha e Orso Questo è l'Happy Meal di Orso Non lo voglio Non voglio sapere cosa c'è dentro E qua c'è l'Happy Meal di Masha Che è molto carina Io direi Iniziamo subito Ad aprire l'Happy Meal di Masha Perché forse è meglio Abbiamo anche la Coca Cola Che possiamo Con la cannuccia corta corta Che la possiamo bere dopo Ovviamente Magari dentro il nostro bicchiere Quello horror Quello qua Coi teschi Questo è Gianfranco Luigi Mattia E Antonella Perché non hanno messo mi piace Quindi mettilo Perché sennò farei questa fine Andiamo ad aprire l'Happy Meal di Masha Ragazzi ma Guardate Si sono mossi gli occhi Si sono mossi gli occhi di Masha Sei viva Ora non più sicuramente Andiamo ad aprirlo E vediamo cosa c'è dentro Ma è normalissimo ragazzi Prima volta che ordino un Happy Meal Maledetto ed è normale Abbiamo Guardate Abbiamo queste Che sono le nuggets di pollo E poi abbiamo Le mega patatine chips Ragazzi a questo punto Direi Lasciamo l'Happy Meal qua E andiamo subito a provare La mega coca cola Che sicuramente sarà gustosa E sicuramente voi Non vedete l'ora di vederla Ragazzi ma Mi è sembrato di sentire qualcosa Guarda là dietro Sembra che si vede un'ombra Ma dove c'è la porta Sembra che si vede un'ombra Forse è un effetto visivo mio Andiamo a vedere la coca cola Facciamo finta che Masha Non l'abbiamo vista Se l'hai vista Scrivilo nei commenti Facciamo finta di niente Ok Proviamo Ragazzi È tutto buono per una volta Ma che Oh mio dio Ragazzi Che botta Sto bene Raga Oh mio dio Oh mio dio Guarda È cambiato È un altro Happy Meal Scusa se t'ho sputato Ma sto spaventato È un altro Happy Meal Ma state scherzando Ma non è credibile Sta cosa Guarda Hai occhi diversi Adesso Oh mio dio Sembra di sentirla ridere Quasi Vero Ok Apriamo Eccole Happy Meal Guardate Ora lo apriamo Questa era la giusta Punizione Per non aver usato Il nostro bicchiere Fantomatico Della gente Che non metti Mi piace Andiamo Ad aprire Più E vediamo Cosa c'è dentro Stavolta Raga C'è quello Che mi manca Un cervello Forse il cervello Di orso Può essere un cervello Di orso Grande così Tra l'altro Non è fresco È duro L'ha fatto fuori Prima di venire qua Guarda È bruttissimo Sembra Impacchettato Da qualcuno Di orribile No io non ce la faccio Ragazzi Raga non ce la faccio A me fanno paura A me fanno paura I ragni Guarda Ci sono finti per fortuna Però mi fanno paura Fate cacare Brutti esseri Orribili Ci sono le sue Ragni Con i figli Guarda C'è il mondo Ma perché hanno fatto Tutto questo Non dirmi che Ma questi mi sa che sono Di mascia Hanno litigato Mascia e orso Mi sa Non sono stato io Polizia Se stai guardando Sto video Me l'hanno mandato Guarda Deve essere stata Deve essere stato orso Magari Mascia L'ha fatto Andare di fuori Lui ha detto Basta Infatti in questa foto Non è che sia tanto carino Da vedere Poi abbiamo Un altro dito di mascia Poi abbiamo Delle pozioni horror Questo abbiamo Proprio buttarlo via Guarda Sono pozioni horror Io non ne provo neanche una Ma se raggiungiamo i mille Mi piace Le provo E questo chi sembra Sembra lo zio fester Ma non hai capelli Devono essere delle pozioni maledette Queste Guardate come si muovono tutte Questo ragazzi Sappiamo che cos'è Non lo posso dire Perché youtube è cattivo Ma sappiamo cos'è Poi c'è Aia Questo è vero però Avete visto i denti rossi Guarda cosa mi ha fatto Che schifo Speriamo che non sia venenoso Secondo voi che tipo di ragno è? Secondo me è il ragno tombino Sono quei ragni che arrivano Da dentro i tombini E ti fanno Buffettete Fanno schifo Sti ragni Adesso mettiamo Tutta la roba Che non ci serve dentro Tanto questo l'abbiamo visto Passiamo Al prossimo Happy meal Che è quello di orso Raga Ma si sente ridere Oh mio dio ragazzi Sembra che c'è il terremoto Guardate No raga Non è normale Guarda C'è Masha C'è Masha L'ho ripresa ragazzi L'ho ripresa Ce l'abbiamo fatta Riprendere Masha.ex Però è vero Mi sono scassi Per la coca cola Di quell'happy meal Ecco perché si è arrabbiata così E dobbiamo berla qua Perché io ve l'avevo promesso Che l'avrei bevuta qua Quindi Guardate Non ha un bel aspetto Guardate ragazzi Questa potrebbe essere Una pozione È brutta È orribile Io la vado a bere Siete pronti? 3 2 1 Sta appena di plastica Guardate ragazzi Guarda Il naso Un'altra volta Ha fatto di nuovo questa cosa Guarda Col naso che va a giro È bruttissimo Sto effetto Ragazzi Guarda Oh mio dio Sembro Dumbo Guardate Se non ti scrive Non lascia Mi faccio In tre secondi Vengo in casa tua Stanotte Con un'arma Da fuoco Nuove pill Questa volta Questa volta Perché ad altri Potrebbe fare brutto E questo ragazzi Ce l'ho davvero È il mio pappagallo Chris Oh mio dio Mi è sembrato Di sentire qualcuno Che si muoveva Tu stai qua Anzi guarda Guardatelo attentamente Perché a me ogni tanto Sembra che si muove Non lo so se vedete Se gli si muovono gli occhi O qualcosa A me ogni tanto Sembra che si muove Lui Boh Lo terremo qua Lo terremo qua In bella vista E andiamo avanti Con gli happy meal Ma prima Se vuoi sopravvivere A tutti i mostri E non essere mangiato Da mash.ex stanotte Compra il nuovo libro Di game time Che trovi in libreria In le mie descrizioni Ci sono tutti i segreti Su come faccio A sopravvivere ai mostri E come sopravvivere Alle tue paure Mi raccomando Link in descrizione In libreria Richiedi La scuola dei mostri Apriamo l'happy meal Non vi ho ancora Fatto vedere niente Abbiamo Guardate Sono le chicken nuggets Di prima Sono ketchupate Di umani E poi abbiamo anche Cioè Sono mangiate No però Io pago E io pago E io pago E io pago Cioè Ragazzi Questi Allora non so voi A me non sembra pollo Però Non so da dove arrivi Sta roba Ma non mi sembra pollo E questo non mi sembra ketchup O è un polo di tre giorni Ma guardate dentro È strano Sembra più gatto Ragazzi Cioè Non l'ho mai mangiato Non mi sono mai informato Però Ragazzi questo mi sa che ha un occhio Lo mangio Ma voi dovete lasciare Mi piace Perché se no mi sento male 3 2 1 E poi fanno anche le pubblicità del mcdonald Alle tre di notte Dove c'è uno che fa Questo è il my selection Vieni a provarlo E poi ci trovi sto schifo dentro Scusatemi Io vado avanti Patatine Di quattro giorni fa Non so se neanche se sono patatine Se sono pezzi di legno Travestiti da patatine Anche qua ketchup Si vedono anche i nervetti ragazzi Oltre a quelli che mi stanno salendo a me A mangiare questo schifo Aia Raga fu malissimo sta roba Fu malissimo sta roba Raga mi sento qualcosa che mi scorre Oh cavolo Non mi dire di nuovo È che l'ha rifatto Però deve essermi torto tutto Non mi dire che l'ha rifatto di nuovo Anche l'altra volta Ha fatto uguale Masha Secondo voi ce l'ha preparata Masha sta roba Ragazzi mi ero scordato una cosa da parte C'era veramente anche lui Sono stupido Me l'ero scordato E c'è veramente Freddy ragazzi Di FNAF Perché è l'Happy Meal degli orsi Il prossimo Happy Meal potrebbe essere quello di FNAF Vado ad aprire l'ultima cosa del nostro Happy Meal Che è questo A molti di voi potrà sembrare un occhio vero Ma sappiamo benissimo che non è così Sappiamo bene che questi sono i famosi trolli Infatti quest'occhio non è vivo Non si muove Ma che E invece si è mosso O è una mia impressione Si è mosso Forse mi hanno stordito un pochino Le caramelle dentro l'Happy Meal Ragazzi Guardate Si muove Però non si apre questa roba E allora io la lascerei qua Direi andare a provare la Coca Cola Di quest'altro Happy Meal Non credo che ci faccia un bel effetto Ma io la provo uguale Tanto oramai siamo in ballo Per giocare no? Direi ragazzi che per oggi Gli Happy Meal di Mascia e Orso Sono fini Mi sta suonando il telefono E Mascia rispondo Ciao Mascia Ciao hai mangiato il mio happy meal vero? Sei Mascia che l'ho mangiato Era molto disgustoso Ma tu adesso cosa vuoi da me? Ma sai cosa voglio? Ciò che tu un'altra volta non mi hai dato Io voglio una tua anima E come pensi di prendertela se io non te la do? La metterai molto presto Imparo a guardarti in alto ogni tanto Cosa intendi Mascia? Attaccato ragazzi E' veramente incredibile sta qua eh Ragazzi ma Mascia cosa intendi? Oh mio dio Se l'è corsa via L'avete vista che è piombata dal tetto? No raga dove cavolo se ne sarà andata? Oh mio dio Dove caspita se n'è andata? Mascia.ex Secondo me è andata di qua Andiamo ragazzi Si è pure preso il mio pappagallo Voi non l'avete mai visto E non siete neanche riusciti a vederlo Sto oltre che se l'è preso Secondo me nelle vicinanze pronti eh 3 2 1 Eccola No Non è qua Allora significa che Secondo me se ne è andata in camera ragazzi Andiamo? Sentite come ride Se la sta ridendo questa sotto i baffi Dov'è? Guardati in basso Cosa intendi per guardarmi? Oh no Era lì sotto Gli ulli che si sentono Lo show continuerà Con l'assenza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai tu iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non mi oddio è passato Guarda cosa mi ha fatto Video chiama Mascia.ex Ti prego rispondi Mascia Non vedo l'ora di parlarti Non risponde ragazzi Ho aspettato 30 secondi buoni Ancora non ha risposto Dai Mascia rispondimi Ti prego Voglio parlare con te Voglio scoprire i tuoi segreti Ma mi è sembrato di sentire un sussurro Sembrava che sussurrava I see you Ma se non ha risposto Come faccio a sentirlo? Mi ha attaccato Sta scrivendo però L'abbiamo disturbata bene questa volta La devo videochiamare assolutamente Voglio scoprire i suoi segreti Pensavi che ti avrei risposto Mi dispiace per te Ma non rispondo quando vuoi tu Peperina E allora cosa posso fare Per farmi rispondere Mascia Qualcosa da proporti Di interessante Dovrei videochiamare anche Orso Potrei provare a videochiamare lui Effettivamente adesso Magari se prendiamo lui come ostaggio Lei ci risponde Mi ricordo bene chi sei E non ho intenzione Di assecondarti Ma magari Orso sì Perché non provi a videochiamare lui Eccoci Videochiamiamo Orso Che faccia orribile Che ha ragazzi Questo è Orso nella vita reale Ragazzi mi ha risposto Ma questi sono episodi Di Mascia e Orso messi strani Ragazzi ha risposto Guardate gli episodi di Mascia e Orso Ci sono delle parole che accompagnano su schermo Orso Povero Orso Era un orso felice Prima del mio arrivo Che cosa significa? E continua a glicciare Tutto strano Poi è diventato un bambino Cattivo Orso non è cattivo Sei tu che gli fai due maroni Così in Mascia Sei lei che sta parlando Secondo voi chi sta parlando? Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Molto Cattivo Dovevo fare qualcosa Guardare la tv Mascia no? È questo che succede ai bambini cattivi Che intendi? Mascia oh mio dio Ragazzi guardate Oh mio dio Gli urli che si sentono Che fine avrà fatto Orso? Dovevo fare qualcosa Orso stai bene Basta Ci sarà luce dietro L'avete visto? Mi sono spaventato di brutto Si è accesa da sola Si accende e si spenge Guarda Guarda dietro Si accende e si spenge La vedete? Io sono fermo Si accende e si spenge Ha smesso? Adesso rimane acceso Mi sono spaventatissimo La chiamata è terminata Sta scrivendo Orso Ma non l'ha fatto fuori ragazzi Non è strana questa cosa Che ha scritto Orso E infatti è lei Non ha fatto una bella fine Se vieni Ti spiego perché Mascia sei molto cattiva oggi Perché ha fatto questo secondo voi? Questa è una foto di Mascia? Questa è una foto di Mascia ragazzi Se questa è Mascia.ex Valigine Ce ne andiamo in spiaggia ragazzi Lasciamo No a parte c'è la neve in spiaggia adesso Lasciamo tutto ai professionisti Io non mi intrometto Mi dispiace Perché hai fatto tutto questo Mascia? Dobbiamo capirlo ragazzi Perché se no non capiremo mai Perché lei fa questo Hai visto che fine fanno i bambini cattivi? È la stessa fine che farei tu Mascia Perché tu sei una bambina cattiva Secondo voi Mascia è buona cattiva? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi raccomando Dobbiamo indagare su questa cosa Tutti insieme Perché più siamo e meglio è Credo di sapere come possiamo risolvere Le nostre divergenze Ti sfido a fare due cose Se le farai bene Ti videochiamerò Ci stai? C'è te? Non ti conosco neanche Mi vuoi sfidare? No No che non mi faccio sfidare da Mascia Che magari mi sfida a fare cose orribili Non dovete accettare mai le sfide Di chi vi scrive Se Mascia.exe vi scrive Non gli rispondete Io lo sto facendo Per farvi vedere che cosa fa Ma non gli rispondete voi Credi che io Non sia abbastanza potente? Non l'ho mai detto È proprio per quello Che non accetto Perché ho paura Della sua potenza Ti ho ferito Senza nemmeno toccarti Non è vero ragazzi Io non sento niente Non mi hai ferito Mascia Non mi sembra che mi abbia fatto qualcosa Siamo seri? Scusate il taglio Sono dovuto andare a lavarmi la faccia Mi sono spaventato ragazzi Mi sono spaventato Chissà la quanta che ce l'avevo questa cosa Bene Perfetto La prima sfida che ti do È di mangiare quel cioccolatino Che trovi in salotto Sul tavolo vicino ad una boccetta Prendi pure quella Che dopo ti servirà Scritto malissimo Va bene A bambina ragazzi Andiamo Sono andato in salotto E ho trovato il cioccolatino Con questo Guardate Che orribile Un bicchiere con dei teschi Cosa significa ragazzi Questo significa Iscritti Lascia mi piace Oppure verrò a mangiarti stanotte Mascia Ho fatto tutto quello che mi avevi chiesto E ora? Voglio sapere da dove partire Perché è un'indagine da fare Brava Adesso mangia Sono diventata game time Ma non game time adesso Sono diventato femmina Scusa Quanto sei fiscale Con i diavoletti Il cioccolatino in questione è questo Io lo vado ad assaggiare Guardate Allora vado Mi raccomando il mi piace Per questa cosa Ha una cosa strana dentro Guardate Sopra in alto Ha una cosa strana Sa di spugna Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma Non di nuovo però Mi hai riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Masha sei normale A fare una cosa del genere Ovviamente no Perché è una bimba cattiva ragazzi Noi lo sappiamo benissimo Bene Sono contenta Per quello che ti è successo Alla lingua Parli troppo Adesso bevi la fiala No che non la bevo Dammi un motivo per farlo Il motivo potrebbe anche essere Che viene a farmi fuori Guardate ragazzi Cosa c'è dentro la fiala È orribile Guarda Questo ragazzi Diventerà il nostro bicchiere Per le pozioni eh A me non me ne frega niente Se volete le pozioni scrivetemelo nei commenti Anche di chi le volete Ma questo qua diventa il mio bicchiere Per le pozioni Non me ne sbatte niente Vado eh Sapevo di plastica ragazzi Non bevete mai la plastica Mi raccomando Perché sennò vi fa male Oh mio dio Oh mio dio Guardate Oh mio dio Guarda il naso Ma smetterà prima o poi Vero Dovrebbe smettere Ragazzi Credo che questa roba qua Faccia degli effetti troppo strani Ha smesso mi sa Ma mi sembra di vedere qualcuno dietro Non c'è nessuno Ma a me sembra di vedere qualcuno Se l'avete visto voi scrivetemelo Mi raccomando Mi sembra di aver visto qualcuno È stato troppo spettacolare Adesso riceverai il tuo premio Quale sarebbe La videochiamata forse Finalmente Ma che Che vabbè Però dai Mercoledì Sì vabbè Mi confondo pure Se tu tutti uguali Brutti come la fame e cattivi Spaventato Dovresti E tu dovresti fare un riposino Non è l'ora del riposino Le tre di notte Che poi tra l'altro Qua fuori c'è gente Che tiene la luce A palla delle macchine Sembra giorno Ragazzi Ci sta videochiamando Oh mio dio Sono pronto Sono pronto Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite Pensi che sopravviderai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggiori tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerei Ti iscritti piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardarà Toccarli Non ti azzardare Masha forse Stai esagerando Un po' troppo Stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina Molto molto Cattiva E sono Di una foto Di casa tua Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Sei soddisfatto Della videochiamata? Non è finita Io sono qui Per un motivo Ben preciso Rompere le scatole Masha Ci sei riuscita Perfettamente Che crudeltà Che ha questa Ragazzi Sono qui Per la tua anima Sono molto ansiosa Di prenderla Ma sono Ma sono solo Una ragazzina Non posso sporcarmi Io le mani Cosa intendi? Ci sta mandando Un sicario? Lo farà orso Per me Senti dei rumori In casa? Avete sentito? No raga Mi sto Mi sto spaventando Direi di sì Masha Che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi Lo sentite? Ma mi sembra Di sentire versi Di orsi Oh mio dio È passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me Voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna E mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso? Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Aghiwagi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Sì mi obblighi Io sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tutto a mirare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio dio raga Guardate Cosa cavolo è successo Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la povera faccia Vediamo Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha In casa mia Masha e orso Ripresi nella vita reale E questo è un video Che viene da una videocamera Di sorveglianza Di un negozio Sono videocamere Che riprendono a frame E come vedete C'è qualcuno di molto simile A Masha Che si appresta ad entrare Nel negozio Altri video in questo periodo Sono stati diffusi In rete Ma sono tutti video Fatti da telecamere Che vanno a fotogrammi Come questo per esempio Che sta riprendendo La porta di casa sua E si vede Una persona che assomiglia Tantissimo a Masha Che si avvicina Alla porta di casa sua Bussa E se ne va via Alle 3 di notte Io però ho scoperto Tramite il dark web Un modo Per evocare Masha e orso Nella vita reale Una candela Rigorosamente Per far partire Queste cose Un vasetto di miele Per orsi E anche un foglio Per le risposte Perché se non riesce A comunicare Con la voce Lo farà Con le cose paranormali Ed io oggi Voglio che seguiate Il video Fino alla fine Perché voglio Smascherare Masha Perché secondo me Non è la vera Masha Quella che si aggira Nella vita reale Secondo voi chi è? Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Mi sta arrivando Una videochiamata Pronto Masha? Da quanto tempo Che non ti sento Hai delle novità Per me? Sì Masha Che ho delle novità Per te Ho preso la tua pozione Dal dark web E ti voglio Evocare nella vita reale Tu sei disposta A venire fin qua? Stavolta Fai sul cerio Vedo Allora farò anche io Sul cerio Sai Fino ad oggi Non mi sono mai mostrata Per quella che sono davvero Cosa intendi Masha Che non ti sei mai mostrata Per quella che sei? Non mi dire Che c'è nascosto altro Lo so Sono spaventosa Ma non guardarmi Lo hai fatto lo stesso E adesso Mi hai costretto A venire a mangiarti Io non sono un cibo Masha Attaccato Ma questa minaccia Se ne va Lasciamo perdere Le minacce di Masha Adesso l'importante È verificare Che non sia già Dentro casa nostra Perché potrebbe Già essere entrata Vediamo se effettivamente Masha è entrata In casa nostra E se effettivamente Ha fatto quello che ha detto Ok ci siamo Ragazzi sul tavolo Ci sono delle cose Che io non avevo visto prima Sul tavolo Come potete vedere Abbiamo la pozione Di Masha Che è Blu E non mi chiedete Il perché Non lo so È un mistero Anche per me Nella vita Non si può sapere tutto Ma si possono imparare Più cose possibili Oltre questo Abbiamo Il miele Che per orso Il miele È come l'orzacchiotto Di granny Guardate Sentite I battiti di orso Lo devo lasciare Perché se no arriva orso Eh I battiti di orso Ci sono Poi abbiamo La candela Che a quanto pare Qualcuno ce l'ha già portata Qui Ho portato Il foglio Per le domande Abbiamo anche i panini Con ketchup umano Voi sapete che cosa intendo Queste sono tutte cose Che sicuramente Arrivano dal dark web Ma una tra tutte Mi interessa di più Ed è la pozione di Masha Perché tramite questa Si attiverà tutto Quindi io direi Beviamola E vediamo cosa succede Vado eh La vedi la mia testa da teschio Se non lasciami facendo Ti scrivi Nel prossimi 3 secondi Masha.exe Ti mangerà stanotte Era un filtro quello Stavo scherzando Per il momento Non ha avuto effetti particolari Raga La mano Guarda la mano È rossa Si è andata Oh mio Raga Mi sa che Il veleno può essere blu Secondo voi Non è che mi ha avvelenato questa Sto un po' meglio ragazzi Ragazzi Questa è l'allarme di casa Questa è l'allarme di casa Raga Si è accesa la tv C'è l'allarme di casa È partito Che c'è scritto Allerta Intruso rilevato dal sistema Di sicurezza della casa Le autorità sono state avvertite Arriveranno tra 30 minuti Nel frattempo Nascondetevi E funziona anche se Non c'è L'audio Funziona ancora Questo significa che c'è qualcuno in casa Ma io non ho visto nessuno Voi avete visto qualcuno? Oh mio Dietro forse Secondo me lei è da qualche parte Io non l'ho vista Se voi l'avete vista Scrivetemelo nei commenti Ragazzi Ma voi veramente vi pensate Che mi mangio questa roba? Ma non è che credete di chiedere un po' troppo? Cioè Io questa roba Non la tocco Ma neanche se mi paga Ragazzi Ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha In casa mia? Secondo me è venuta L'hai letto il mio libro? Ragazzi Non risponde Mi sa che non lo apprezza Lo sapevo che gli aveva fatti lei Mmm Sono proprio buoni Se quando l'ho finito Non mi risponde Ragazzi Ti rifaccio ingoiarle L'ho finito Masha Sei buona o cattiva? Raga Ma si è mangiato il foglio? Ma si è mangiato il foglio? Ragazzi Non pensavo che funzionasse davvero Solo nei guai Cosa facciamo? La televisione raga Guarda sulla tv C'è la statica Si è attivata con la statica Non funziona Oh Raga Non funziona Ma Masha dove è andata? Ma fino al secondo fa era lì Ma questa statica non si toglie Raga ma è partita Masha È partito il cartone di Masha Lei non è più lì Ma è qui Avete visto gli occhi di Masha? Come erano diventati? Tornate nei suoi cloni del video Per vederli se non l'avete visti Ma che cavolo sta succedendo stasera? Si è spenta Sto chiamando il mio partito da solo ragazzi Ciao Frostinox Perché mi hai videochiamato? Siamo su Discord Ragazzi non mi senti? Fro Mi senti? Ma ho dei problemi io ragazzi E non so il perché mi è partita sta videochiamata davvero La sua videochiamata ha glicciato Ma non mi sente? Ragazzi scrivetegli qualcosa anche voi Non mi sente Ma che è successo? Che è successo? Ragazzi continuo a non sentirmi Sta parlando da solo ma non è che Mi è sembrato di vedere qualcosa dietro eh Mi è sembrato di vedere qualcosa Non sono sicuro Ti ha lampeggiato la luce? Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Io spero Spero che non arrivi anche qua E la chiamata si è interrotta Secondo me cosa gli ha fatto? Io non credo che abbia fatto una bella fine Oddio Hai visto? Torna dietro con i video se non li hai visti C'erano due occhi qua che si illuminavano Io li ho visti dalla telecamera Li ho visti qui Che sia lei che è diventata indemoniata adesso Mi sta videochiamando di nuovo no? Devo rispondere però Anche se ho paura devo rispondere Ok rispondiamo Hai lasciato che i tuoi amici venissero mangiati Ma non ti senti nemmeno un po' in colpa Sei stato lì senza fare niente Ma se non potevo fare niente Eravamo in videochiamata Masha Mi hai tenuto con le mani legate Gli hai fatto tutto in videochiamata In modo che io non potessi fare niente Quindi cosa vuoi da me adesso? Adesso però è il tuo turno Non sono qua perché me lo hai chiesto tu Sono qua perché io voglio mangiarti Voglio sacciarmi E tanto che non faccio un pasto Tu provaci Ma io ti smaschererò prima Perché devo scoprire chi sei in realtà Lo farò e ti smaschererò davanti a tutti quanti Adesso vedremo cosa sai fare contro di me Che intendi? Raga Attaccato Dobbiamo andarla a cercare ragazzi a questo punto Non ci ha lasciato altra scelta Ricordati che il libro tu lo trovi in libreria Nel link in descrizione La scuola dei mostri Ti protegge da tutti i mostri Ragazzi secondo me non è tanto lontana Masha Raga Raga era dietro Era dietro Io me ne vado qua Spero che non ci abbia visti Dobbiamo scoprire che cosa ha in mente Ragazzi Masha è uscita Dobbiamo assolutamente scoprire chi è Io la devo inseguire Chissà dove si è cacciata Masha ora Ragazzi è dietro L'avete visto? Guardate se ne va se ne va Devo seguirla in qualche modo La dobbiamo trovare Ragazzi non c'è più Ragazzi guardate per terra Ci sono le impronte di Masha e Orso Le vedete sono qui Io le devo seguire assolutamente Se le seguiamo arriveremo sicuramente Nel nascondiglio segreto di Masha Guardate sicuramente dietro questo c'è spuglio Ragazzi ma quella è Masha Ricordo il giacchetto Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la tua vera faccia Vediamo Adesso ti smaschero Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guardala Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando a Masha.exe dalla foto però eh Ci fanno queste vespe E vabbè Delle api stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio Dio si è aperta la finestra Lo sapevo che è entrato qualcuno No c'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Sì Però l'acqua come l'ho toccata È esplosa quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma qua Orso è spaventato Che è successo Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli giustamente È buio Io sento dei versi orribili di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma raga mi sto Mi sto spaventando eh Direi di sì Masha Che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite Ma mi sembra di sentire versi di orsi Oh mio dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera Sentite che ci sono rumori Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me Voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna Mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta In tempo Sai come ho fermato orso Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Aghiwaghi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio Di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio Di Masha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così non lo guardo Sì mi obblighi Io sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Marsha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Guardate Orso Che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile Nella finestra Guarda Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Per favore Dici la tua età E per attivare L'easter egg Dobbiamo mettere L'età 666 Che non compare il terzo 6 giustamente Ma per noi è come se fosse comparso Andiamo Eccoci Iscriviti e gioca senza la pubblicità Oh Orso si sta davvero trascurando Portalo alla doccia Così può Grazie al cavolo che orso si sta trascurando Con una roba come Masha Che cosa possiamo usare per far fuori Masha Ci avranno fornito qualche oggetto Ma quanto è brutta Masha Uh cibo Vediamo vediamo Forse riesco a farla avvelenare Allora questa carne non mi sembra che abbia un bel aspetto Buono Masha Mmm Ma è andata male A me non sembra che ti faccia tanto bene sto cibo Ma com'è già contenta È davvero buono Adesso è ora di giocare No Masha No Anzi si Adesso è ora di giocare Dobbiamo cercare la bicicletta ragazzi Eccola Ragazzi anche a voi Masha ricorda solo l'enigmista così Scrivetemelo nei commenti che sono curioso Ma Dove è andata Masha Dobbiamo Dobbiamo correre più veloci del panda Vai Masha Vai ti schianti Se la facevo schiantare può fare una brutta fine No niente Non si è schiantata Speravo si schiantasse Invece è contenta con una faccia un po' creepy Uh Chi è questa ragazzi Io non lo so chi è Forse ce la darà lei l'oggetto per far fuori Masha Una chiave Vediamo E ci sono altri due pacchetti regalo Con altre due chiavi Una è una pistola ragazzi Quindi forse effettivamente ce l'abbiamo degli oggetti per farla fuori E cosa me ne faccio di questa roba Si è sbloccata la chitarra E adesso si sblocca anche la pistola Un'aspirapolvere Possiamo sbloccare la prossima volta E una pistola non ad acqua Quanti oggetti che stanno comparendo nella casa di Masha Ragazzi questo è Masha.ex Masha.ex deve andare in bagno ragazzi Sembra il bagno di Shrek Masha invece deve andare a dormire Vediamo se compare Masha.ex qua Lascia un'impiace scritto entro i prossimi 3 secondi Oppure Masha.ex ti mangerà stanotte Guardate Orso che faccia orribile che ha Ce l'ha tolto per metterci tutte le animazioni Ma penso che voi lo abbiate visto Hai fame di Masha Orso? Andiamo a mangiarci Masha Oh c'era qualcuno dentro l'armadio l'ho visto eh Si era mosso l'armadio prima ragazzi avete visto Masha ha dormito Vieni Orso andiamoci a mangiare Masha Guardate Orso si avvicina molto creepy E c'è la testa di Masha qua Tieni Orso Gnam che verso orribile che ha fatto Ragazzi è stato spaventoso Secondo me alla fine sarà Orso che farà fuori Masha Dov'è Masha? Ciao Masha 1 e Masha 2 sono insieme Non credo che sia una bella situazione questa eh Credo che tu abbia bisogno di dormire Orso Vai buonanotte Ma non ha bisogno di dormire a quanto pare Ma chi è questo ragazzi? Masha deve far fuori una tigre Speriamo che però sia la tigre a far fuori Masha Sì la bomba vabbè ho capito Mi fai giocare devi scassare le scatole ancora Abbiamo preso gli orsi cattivi che si introducono in casa nostra No quella è una bomba Guarda pure un leone c'è Abbiamo un sacco di nemici però Questo è l'importante Quindi Masha se non la facciamo fuori noi Sicuramente qualcuno ci sarà che la fa fuori No ha preso la bomba Guardate lo schermo inizia a essere tutto rotto Mi sa che Masha sta soffrendo qua eh Per via della bomba Però abbiamo vinto Non credo che faccia ricaricare lo sfondo Ragazzi Avete visto cosa c'era nella foto? Masha non sta bene Guardate che c'è tutto cibo avariato Adesso glielo do Speriamo che si senta male stavolta eh Guardala hai fame toh Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto? Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando a Masha.exe dalla foto però eh Oh mio dio Guardate nella televisione Si vede qualcosa Non so chi sia quello della televisione Però si vede qualcosa Si è andato Voglio vedere dagli occhi di orso se qualcuno ci sta spiando Oppure dagli occhi di questa Masha strana Guardate Però mi sembra Guarda negli occhi Si è vista una faccia mi sa eh Guardate bene che in questa foto si vede la faccia Anche il gioco me lo dice sto facendo un ottimo lavoro Sto scoprendo delle cose che non dovrei scoprire Mmm sta pubblicità Però guardate sembra tipo Masha Prima di diventare .exe dopo .exe Cioè tipo l'evoluzione Alla fine ste pubblicità non è vero che non servono a niente A te ti devo Vieni che ti curo Cosa facciamo? Una bella puntura Totti da TV Questo è buonanotte Perfetto Stai bene adesso? Benissimo Ma non hai fatto niente? Come fa a essere completamente... Pulisci? Vabbè ti metto a letto Ogni volta che passo con orso si vede qualcuno che ti arriva da dentro l'armadio Allora nel gioco sembra Masha normale Ma nella foto che la rappresenta c'è Masha.exe Secondo me questo significa qualcosa Guardate qua dietro Sembra di vedere degli occhi in lontananza però eh Sta arrivando Masha quella cattiva stregonda Te c'entri qualcosa vero? Se riusciamo a prendere tutti gli ingredienti che ci servono Possiamo fare una roba per curare Masha Come abbiamo fatto per TolkienJuan Una bella pozione di cura Uh lui aveva un cuore L'abbiamo preso Quindi il cuore ce l'abbiamo Ho vinto Guardate Masha.exe con orso Che aspetta i regali E orso sembra un po' cattivo Non sembra contento di questa cosa Vediamo I pattini abbiamo ricevuto Vedete che si muove Forse ci tengono qualcuno Si sentono anche delle canzoncine strane di sottofondo Prendiamo Masha streghetta Portiamola al cibo E vediamo di fargli fare una bella pozione Vieni Perfetto Allora Usa il cuoricino E tira fuori sta cavolo di boccetta Grazie Masha per fare la pozione Totti da da mangiare ma tu falla però È svenuta pure lei Ma vi sembra normale che questi quando mangiano svengono Ce l'abbiamo fatta? Guardate Le pozioni si stanno creando Si è creata la pozione Lei è svenuta dalla paura della pozione Perché è molto strana eh Masha Bevi Ti sta cavolo di pozione E non scassare più eh Eccola la pozione Vai Masha Bevi Guardate i suoi occhi Stanno cambiando Sta tornando normale Sai qual è il libro Che tiene lontano a Masha.exe Il nuovo libro di Game Time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti protegge da tutti i mostri E ti insegna a superare le tue paure E ci sono anche delle avventure epiche È tornata normale per fortuna Anche se ha fatto una luce verde Strana che sembra che puzza Ha distrutto ragazzi Il frigorifero Avete visto cosa aveva combinato ad Orso Masha? Adesso sono tornati tutti normali Eccoci Che è questo gioco Dove ci fa vedere la notte di Masha e Orso Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Però intanto vi faccio vedere il primo pezzo A Masha piace tanto disegnare Prima di andare a morire Ma chi è che sta parlando come una madre russia Ho creato un'ambulanza Sicuramente sarà per me dopo la fine di questo video E c'è un lupo Che sicuramente sarò io dopo la fine di questo video E c'è un altro ancora Stanno mangiando Quella è Masha ragazzi È solo l'interiore di Masha Se stanno a mangiare Ma state scherzando È un gioco per bimbi Guardate che bel disegno Abbiamo completato la casa di Masha Ma cosa salti Non lo vedi che sotto il tuo letto c'è un mostro Cosa ridi A parte che anche sopra il tuo letto c'è un mostro Visto la faccia che ti hanno fatto Ragazzi è bruttissimo Guardate che brutto C'è il temporale Oh mio dio C'era Jeff the Killer fuori Masha è scomparsa Oh io non ho visto dove è andata Forse voi lo sapete È andata da Orso E allora va a svegliare Orso Orso Non usa le candele Già paura di mio Poi usi le candele per andare a trovare Jeff the Killer Ma usa qualcos'altro Guardate Era entrata una cosa dalla finestra C'è una vespa Ma era entrato Jeff the Killer Cos'è è successo questa volta? Non lo so Signora russa Cosa ci fanno queste vespe? E vabbè Delle api stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che era entrato qualcuno No C'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è? Sì Però l'acqua come l'ho toccata È esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo? Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma cos'è questa risata orribile? Bravo Mangiatene così Sei tranquillo Che devo fare? Eh vabbè Ma chi è che è entrato dentro il frigo Ha fatto sto schifo però Non è che se il frigo era ridotto così Non potete Ecco Ora possiamo dormire Con queste bambole brutte Come la fame Guarda là Sono delle bambole maledette queste Dormi dentro il ca... Eh dormi qua Dentro il... Qua Dentro il cappello Coniglio Che devo fare i libri? Eh qui Dentro il cappello Te l'ho detto Sono più intelligenti di te Dormi dentro il cappello Vai coniglio Ciao Vai ti spengo la luce Perché se no Non ti lascia dormire Cioè dobbiamo aiutare a sopravvivere A Jeff the Killer Dobbiamo aiutare a sopravviverli Adesso faccio l'ultimo livello Poi ragazzi lo continuiamo Nei prossimi video Se vi interessa Questi sono degli scoiattolini Che dobbiamo fare? Guardate che faccio orribile Nella finestra Ma perché compaiono queste facce? Sarà forse l'orario A cui sto giocando Che fa comparire sta roba? Perché sto giocando A luna di notte Oh Puliamo le fa... Questa qua con orso No dammi quella con orso Che sono curioso di vedere Cosa è successo Guardate qua orso è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli giustamente È buio Io sento dei versi orribili sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate Ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite Pensi che sopravviverai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggiro ai tuoi amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai tu iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina Molto molto cattiva E ci azzardare a toccarli Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Perché sarà diventato Io Mascia.exe E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Hello Sono tornato dal McDonald's King Burger Mega Galattico Perché ho preso Gli Happy Meal di Mascia e Orso Questo è l'Happy Meal di Orso Non lo voglio Non voglio sapere cosa c'è dentro E qua c'è l'Happy Meal di Mascia Che è molto carina Io direi iniziamo subito Ad aprire l'Happy Meal di Mascia Perché forse è meglio Abbiamo anche la Coca Cola Che possiamo Con la cannuccia corta corta Che la possiamo bere dopo Ovviamente magari dentro Il nostro bicchiere Quello horror Quello qua Coi teschi Questo è Gianfranco Luigi Mattia E Antonella Perché non hanno messo Mi piace Quindi mettilo Perché se no farai questa fine Andiamo ad aprire L'Happy Meal di Mascia Ragazzi ma Guardate Si sono mossi gli occhi Si sono mossi gli occhi Di Mascia Sei viva Ora non più sicuramente Andiamo ad aprirlo E vediamo cosa c'è dentro Ma è normalissimo ragazzi Prima volta che ordino Un Happy Meal Maledetto Ed è normale Abbiamo Guardate Abbiamo queste Che sono le nuggets Di pollo E poi abbiamo Le mega patatine chips Ragazzi a questo punto Direi Lasciamo l'Happy Meal qua E andiamo subito A provare La mega Coca Cola Che sicuramente Sarà gustosa E sicuramente Voi non vedete l'ora Di vederla Ragazzi ma Mi è sembrato di sentire qualcosa Guarda là dietro Sembra che si vede un'ombra Ma dove c'è la porta Sembra che si vede un'ombra Forse è un effetto visivo mio Andiamo a vedere la Coca Cola Facciamo finta che Mascio Non l'abbiamo vista Se l'hai vista Scrivilo nei commenti Facciamo finta di niente Ok proviamo Ragazzi È tutto buono per una volta Ma che Oh mio dio Ragazzi che botta Sto bene Raga Oh mio dio Oh mio dio Guarda È cambiato È un altro Happy Meal Scusa se l'ho sputato Ma sono spaventato È un altro Happy Meal Ma state scherzando Ma non è credibile Sta cosa Guarda Ha gli occhi diversi adesso Oh mio dio Sembra di sentirla ridere quasi Vero? Ok apriamo Ecco l'Happy Meal Guardate Ora lo apriamo Questa era la giusta punizione Per non aver usato Il nostro bicchiere fantomatico Della gente che non metti mi piace Andiamo ad aprire il Happy Meal E vediamo cosa c'è dentro stavolta Raga C'è quello che mi manca Un cervello Forse il cervello di orso Può essere un cervello di orso Grande così? Tra l'altro Non è fresco È duro L'ha fatto fuori Prima di venire qua Guarda È bruttissimo Sembra Impacchettato da qualcuno di orribile No io non ce la faccio ragazzi Raga non ce la faccio A me fanno paura A me fanno paura i ragni Guarda Ci sono finti per fortuna Però mi fanno paura Fate cacare Brutti esseri orribili Ci sono le sue ragni a tele con i figli Guarda C'è il mondo Ma perché hanno fatto tutto questo? Non dirmi che Ma questi mi sa che sono di Mascia Hanno litigato Mascia e Orso Mi sa Non sono stato io polizia Se stai guardando sto video Me l'hanno mandato Guarda Deve essere stato Deve essere stato Orso Magari Mascia L'ha fatto andare di fuori E lui ha detto Basta Infatti in questa foto Non è che sia tanto carino Da vedere Poi abbiamo Un altro dito di Mascia Poi abbiamo Delle pozioni horror Questo mi ha proprio buttato via Guarda Sono pozioni horror Io non ne provo neanche una Ma se raggiungiamo i mille Mi piace le provo E questo chi sembra? Sembra lo zio Fester Ma non ha i capelli? Devono essere delle pozioni maledette queste Guardate come si muovono tutte Questo ragazzi Sappiamo che cos'è Non lo posso dire Perché YouTube è cattivo Ma sappiamo cos'è Poi c'è Aia Questo è vero però Avete visto i denti rossi? Guarda cosa mi ha fatto Che schifo Speriamo che non sia venenoso Secondo voi che tipo di ragno è? Secondo me è il ragno tombino Sono quei ragni che arrivano da dentro i tombini E ti fanno Buutette Fanno schifo Sti ragni Adesso mettiamo tutta la roba Che non ci serve dentro Tanto questo l'abbiamo visto Passiamo al prossimo Happy Meal Che è quello di orzo Raga Ma si sente ridere Oh mio dio ragazzi Sembra che c'è il terremoto Guardate No raga Non è normale Guarda C'è Masha C'è Masha L'ho ripresa ragazzi L'ho ripresa Ce l'abbiamo fatta Riprendere Masha.ex Però è vero Mi sono scassato Di mettere la Coca Cola Di quell'Happy Meal Ecco perché si è arrabbiata così E dobbiamo berla qua Perché io ve l'avevo promesso Che l'avrei bevuta qua Quindi Guardate Non ha un bel aspetto Guardate ragazzi Questa potrebbe essere Una pozione È brutta È orribile Io la vado a bere Siete pronti? 3 2 1 Sta appena di plastica Guardate ragazzi Guarda Il naso Un'altra volta Ha fatto di nuovo questa cosa Guarda Col naso che va a giro È bruttissima Sto effetto ragazzi Guarda Oh mio dio Sembro Dumbo Guardate Se non ti scrivi Non lasci mi faccio Nel prossimo 3 secondi Vengo in casa tua stanotte Con un'arma da fuoco Nuove pill Questa volta invece Abbiamo orzo E infatti ragazzi Dentro ho trovato questo Fuori ho trovato questo E Guardate Sono I Action figure di FNAF Perché l'ho trovato proprio Nell'Happy Meal di orzo Secondo voi Perché c'è anche lui C'è anche lui E io giustamente Ho trovato il mio preferito Che è Foxy Ma quello è un castoro È un castoro Vabbè È il chip Ragazzi fatemi sapere Qual è il vostro animatronics Preferito nei commenti Il mio è Foxy Ma non fatevi influenzare Perché ad altri potrebbe far brutto E questo ragazzi Ce l'ho davvero È il mio pappagallo Chris Oh mio dio Mi è sembrato di sentire qualcuno Che si muoveva Tu stai qua Anzi guarda Guardatelo attentamente Perché a me ogni tanto Sembra che si muove Non lo so se vedete Se gli si muovono gli occhi O qualcosa A me ogni tanto Sembra che si muove lui Boh lo terremo qua Lo terremo qua in bella vista E andiamo avanti con gli happy meal Ma prima Se vuoi sopravvivere a tutti i mostri E non essere mangiato da Mascio.exe stanotte Compra il nuovo libro di game time Che trovi in libreria In link in descrizione Ci sono tutti i segreti Su come faccio a sopravvivere ai mostri E come sopravvivere alle tue paure Mi raccomando Link in descrizione In libreria Richiedi La scuola dei mostri Apriamo l'happy meal Non vi ho ancora fatto vedere niente Abbiamo Guardate Sono le chicken nuggets Di prima Sono che ci appate Di umani E poi abbiamo anche Cioè Sono mangiate No però Io pago E io pago E io pago E io pago Cioè Ragazzi queste Allora non so voi A me non sembra pollo però Non so da dove arrivi Sta roba Ma non mi sembra pollo E questo non mi sembra ketchup O è un pollo di tre giorni Ma guardate dentro È strano Sembra più gatto ragazzi Cioè Non ho mai mangiato Non mi sono mai informato però Ragazzi questo mi sa che ho un occhio Lo mangio Ma voi dovete lasciare mi piace Perché se no mi sento male 3 2 1 Che schifo E poi mi fanno anche le pubblicità Del Mc Donald Alle tre di notte Dove c'è uno che fa Questo è il my selection Vieni a provarlo E poi ci trovi sto schifo dentro Scusatemi Io vado avanti Patatine Di quattro giorni fa Non so se neanche se sono patatine Se sono pezzi di legno travestiti da patatine Anche qua ketchup Si vedono anche i nervetti ragazzi Oltre a quelli che mi stanno salendo a me a mangiare Questo schifo Aia Ragazzi fa malissimo sta roba Fa malissimo sta roba Ragazzi mi sento qualcosa che mi scorre Oh cavolo Non mi dire di nuovo E che l'ha rifatto Però deve essermi tolto tutto Non mi dire che l'ha rifatto di nuovo Anche l'altra volta ha fatto uguale Masha Secondo voi ce l'ha preparata Masha sta roba Ragazzi mi ero scordato una cosa da parte C'era veramente anche lui Sono stupido Me l'ero scordato E c'è veramente freddi ragazzi Di FNAF Perché è l'Happy Meal degli orsi Il prossimo Happy Meal potrebbe essere quello di FNAF Vado ad aprire L'ultima cosa del nostro Happy Meal Che è questo A molti di voi potrà sembrare un occhio vero Ma Sappiamo benissimo che non è così Sappiamo bene che questi sono I famosi trolli Infatti Quest'occhio non è vivo Non si muove Ma che E invece si è mosso O è una mia impressione o si è mosso Forse mi hanno Stordito un pochino Le caramelle dentro l'Happy Meal Ragazzi Guardate Si muove Però non si apre questa roba E allora io la lascerei qua Direi andare a provare la Coca Cola Di quest'altro Happy Meal Non credo che ci faccia un bel effetto Ma io la provo uguale Tanto oramai siamo in ballo per giocare No? Mmm 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 Direi ragazzi che per oggi Gli Happy Meal di Mascha e Orso Sono finì Mi sta suonando il telefono È Mascha Rispondo Ciao Mascha Ciao Hai mangiato il mio Happy Meal È vero? Sei Mascha che l'ho mangiato Ed era molto disgustoso Ma tu adesso cosa vuoi da me? Ma sai cosa voglio? Ciò che tu un'altra volta non mi hai dato Io voglio la tua anima E come pensi di prendertela Se io non te la do? Lo metterai molto presto Imparo a guardarti in alto Cosa intendi Mascha? Attaccato ragazzi È veramente incredibile sta qua eh Ragazzi ma Mascha cosa intendi Ma Oh mio Dio Se ne è corsa via Non avete visto che è piombata dal tetto? No raga dove cavolo se ne sarà andata? Oh mio Dio Dove caspita se ne è andata Mascha.ex? Secondo me è andata di qua Andiamo ragazzi Si è pure preso il mio pappagallo Voi non l'avete mai visto E non siete neanche riusciti a vederlo sto oltre che se l'è preso Secondo me nelle vicinanze pronti eh 3 2 1 Eccola No Non è qua Allora significa che Secondo me se ne è andata in camera ragazzi Andiamo? Sentite come ride Se la sta ridendo questa sotto i baffi Dov'è? Guardati in basso Cosa intendi per guardarmi Oh no Era lì sotto Gli ulli che si sentono Lo show continuerà con l'assenza di te Maggirai tre amici uno ad uno dopo di te E poi passerai tu iscritti piano piano Conquisterai un mondo Non mio Dio è passato Guarda cosa mi ha fatto Video chiamo a Mascha.ex Ti prego rispondi Mascha Non vedo l'ora di parlarti Non risponde ragazzi Ho aspettato 30 secondi buoni Ancora non ha risposto Dai Mascha rispondimi Ti prego Voglio parlare con te Voglio scoprire i tuoi segreti Ma mi è sembrato di sentire un sussurro Sembrava che sussurrava I see you Ma se non ha risposto Come faccio a sentirlo? Mi ha attaccato Sta scrivendo però L'abbiamo disturbata bene questa volta La devo videochiamare assolutamente Voglio scoprire i suoi segreti Pensavi che ti avrei risposto Mi dispiace per te Ma non rispondo quando vuoi tu Peperina E allora cosa posso fare per farmi rispondere? Mascha Qualcosa da proporti di interessante Dovrei videochiamare anche Orso Potrei provare a videochiamare lui Effettivamente adesso Magari se prendiamo lui come ostaggio Lei ci risponde Mi ricordo bene chi sei E non ho intenzione di assecondarti Ma magari Orso sì Perché non provi a videochiamare lui? Eccoci Videochiamiamo Orso Che faccia orribile che ha ragazzi Questo è Orso nella vita reale Ragazzi mi ha risposto Ma questi sono episodi di Mascha e Orso messi strani Ragazzi ha risposto Guardate gli episodi di Mascha e Orso Ci sono delle parole che accompagnano su schermo Orso Povero Orso Era un Orso felice prima del mio arrivo Che cosa significa? E continua a glicciare tutto strano Poi è diventato un bambino cattivo Orso non è cattivo Sei tu che gli fai due marroni così in Mascha Sei lei che sta parlando Secondo voi chi sta parlando? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Molto cattivo Dovevo fare qualcosa Guardare la tv o Mascha no? È questo che succede ai bambini cattivi Che intendi? Mascha oh mio dio Ragazzi guardate Oh mio dio Gli urli che si sentono Che fine avrà fatto Orso? Dovevo fare qualcosa Orso stai bene Basta Ci sarà luce dietro avete visto? Mi sono spaventato di brutto Si è accesa la sola Si accende e si spenge Guarda Guarda dietro Si accende e si spenge La vedete? Io sono fermo Si accende e si spenge Ha smesso? Adesso rimane acceso Mi sono spaventatissimo La chiamata è terminata Sta scrivendo Orso Ma non l'ha fatto fuori ragazzi Non è strana questa cosa Che ha scritto Orso E infatti è lei Non ha fatto una bella fine Se vieni ti spiego perché Mascha sei molto cattiva oggi Perché ha fatto questo secondo voi? Questa è una foto di Mascha? Questa è una foto di Mascha ragazzi Se questa è Mascha.ex Valigine Ce ne andiamo in spiaggia ragazzi Lasciamo No a parte c'è la neve in spiaggia adesso Lasciamo tutto ai professionisti Io non mi intrometto Mi dispiace Perché hai fatto tutto questo Mascha? Dobbiamo capirlo ragazzi Perché se no non capiremo mai Perché lei fa questo Hai visto che fine fanno i bambini cattivi? È la stessa fine che farei tu Mascha Perché tu sei una bambina cattiva Secondo voi Mascha è buona cattiva? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi raccomando Dobbiamo indagare su questa cosa Tutti insieme Perché più siamo e meglio è Credo di sapere come possiamo risolvere Le nostre divergenze Ti sfido a fare due cose Se le farai bene Ti videochiamerò Ci stai? Cioè te non ti conosco neanche Mi vuoi sfidare? No No che non mi faccio sfidare da Mascha Che magari mi sfida a fare cose orribili Non dovete accettare mai le sfide Di chi vi scrive Se Mascha.exe vi scrive Non gli rispondete Io lo sto facendo per farvi vedere Che cosa fa Ma non gli rispondete voi Credi che io non sia abbastanza potente? Non l'ho mai detto È proprio per quello che non accetto Perché ho paura della sua potenza Ti ho ferito senza nemmeno toccarti Non è vero ragazzi Io non sento niente Non mi hai ferito Mascha Non mi sembra che mi abbia fatto qualcosa Siamo seri? Scusate il taglio Sono dovuto andare a lavarmi la faccia Mi sono spaventato ragazzi Mi sono spaventato Chissà la quanta che ce l'avevo questa cosa Bene Perfetto La prima sfida che ti do È di mangiare quel cioccolatino Che trovi in salotto sul tavolo Vicino ad una boccetta Prendi pure quella Che dopo ti servirà Scritto malissimo Va bene A bambina ragazzi Andiamo Sono andato in salotto E ho trovato il cioccolatino Con questo Guardate Che orribile Un bicchiere con dei teschi Cosa significa ragazzi Questo significa Iscritti lascia mi piace Oppure verrò a mangiarti stanotte Mascha Ho fatto tutto quello che mi avevi chiesto E ora? Voglio sapere da dove partire Perché è un'indagine da fare Brava Adesso mangia Sono diventata game time Ma non game time adesso Sono diventato femmina Scusa quanto sei fiscale Con i diavoletti Il cioccolatino in questione è questo Io lo vado ad assaggiare Guardate Allora vado Mi raccomando il mi piace per questa cosa Ha una cosa strana dentro Guardate Sopra in alto Ha una cosa strana Sa di spugna Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Ma ho riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovaiolo Ma è normale Masha sei normale A fare una cosa del genere? Ovviamente no Perché è una bimba cattiva ragazzi Noi lo sappiamo benissimo Bene Sono contenta Per quello che ti è successo Alla lingua Parli troppo Adesso bevi la fiala No che non la bevo Dammi un motivo per farlo Il motivo potrebbe anche essere Che viene a farmi fuori Guardate ragazzi Cosa c'è dentro la fiala È orribile Guarda Questo ragazzi Diventerà il nostro bicchiere Per le pozioni eh A me non me ne frega niente Se volete le pozioni scrivetemelo nei commenti Anche di chi le volete Ma questo qua diventa il mio bicchiere Per le pozioni Non me ne sbatte niente Vado eh Sapevo di plastica ragazzi Non bevete mai la plastica Mi raccomando Perché sennò vi fa male Oh mio dio Oh mio dio Guardate Oh mio dio Guarda il naso Ma smetterà prima o poi Vero? Dovrebbe smettere Ragazzi Credo che questa roba qua Faccia degli effetti troppo strani Ha smesso mi sa Ma mi sembra di vedere qualcuno dietro Non c'è nessuno Ma a me sembra di vedere qualcuno Se l'avete visto voi scrivetemelo Mi raccomando Mi sembra di aver visto qualcuno È stato troppo spettacolare Adesso riceverai il tuo premio Quale sarebbe? La videochiamata forse Finalmente? Ma che Che vabbè però Dai Mercoledì Sì vabbè Mi confondo pure Se tu tutti uguali Brutti come la fame e cattivi Spaventato dovresti E tu dovresti fare un riposino Non è l'ora del riposino Le tre di notte Che poi tra l'altro qua fuori C'è gente che tiene la luce A palla delle macchine Sembra giorno Ragazzi ci sta videochiamando Oh mio dio Sono pronto Sono pronto Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite? Pensi che sopravviverai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggerrai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai Non ti iscritti piano piano Conquisterai il mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina Molto molto cattiva E sono E' riuscita perfettamente Che crudeltà Che ha questa ragazzi Sono qui per la tua anima Sono molto ansioso Di prenderla Ma sono Ma sono solo una ragazzina Non posso sporcarmi io le mani Cosa intendi? Ci sta mandando un sicario? Lo farà orso per me Senti dei rumori in casa? Avete sentito? No raga Mi sto spaventando eh Direi di si Masha Che li sento Bene E' stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire Versi di orsi Oh mio Dio E' passato E' passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso Vero sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me Voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso? Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto di Agiwagi Ti consiglio di correre a prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato? Non ha portato a termine il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così non lo guardo Sì mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti se non vuoi che ti venga a mangiare Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la povera patta Vediamo Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha In casa mia? Masha e orso ripresi nella vita reale E questo è un video che viene da una videocamera di sorveglianza di un negozio Sono videocamere che riprendono a frame E come vedete c'è qualcuno di molto simile a Masha Che si appresta ad entrare nel negozio Altri video in questo periodo sono stati diffusi in rete Ma sono tutti video fatti da telecamere che vanno a fotogrammi Come questo per esempio Che sta riprendendo la porta di casa sua E si vede una persona che assomiglia tantissimo a Masha Che si avvicina alla porta di casa sua Bussa e se ne va via alle 3 di notte Io però ho scoperto tramite il dark web Un modo per evocare Masha e orso nella vita reale Una candela rigorosamente per far partire queste cose Un vasetto di miele per orsi E anche un foglio per le risposte Perché se non riesce a comunicare con la voce Lo farà con le cose paranormali Ed io oggi voglio che seguiate il video fino alla fine Perché voglio smascherare Masha Perché secondo me non è la vera Masha Quella che si aggira nella vita reale Secondo voi chi è? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi sta arrivando una videochiamata Pronto Masha? Da quanto tempo che non ti sento? Hai delle novità per me? Sì Masha che ho delle novità per te Ho preso la tua pozione dal dark web E ti voglio evocare nella vita reale Tu sei disposta a venire fin qua? Stavolta fai sul serio vedo Allora farò anche io sul serio sai Fino ad oggi non mi sono mai mostrata Per quella che sono davvero Cosa intendi Masha che non ti sei mai mostrata Per quella che sei? Non mi dire che c'è nascosto altro Lo so sono spaventosa ma non guardarmi Lo hai fatto lo stesso e adesso mi hai costretto a venire a mangiarti Io non sono un cibo Masha Attaccato Ma questa minaccia se ne va Lasciamo perdere le minacce di Masha Adesso l'importante è verificare che non sia già dentro casa nostra Perché potrebbe già essere entrata Vediamo se effettivamente Masha è entrata in casa nostra e se effettivamente ha fatto quello che ha detto Ok ci siamo ragazzi sul tavolo ci sono delle cose che io non avevo visto prima Sul tavolo come potete vedere abbiamo la pozione di Masha Che è blu e non mi chiedete il perché non lo so È un mistero anche per me nella vita non si può sapere tutto ma si possono imparare più cose possibili Oltre questo abbiamo il miele che per orso il miele è come l'orsacchiotto di Granny Guardate sentite i battiti di orso Lo devo lasciare perché se no arriva orso eh I battiti di orso ci sono Poi abbiamo la candela che a quanto pare qualcuno ce l'ha già portata qui Ho portato il foglio per le domande E abbiamo anche i panini con ketchup umano Voi sapete che cosa intendo Queste sono tutte cose che sicuramente arrivano dal dark web Ma una tra tutte mi interessa di più Ed è la pozione di Masha perché tramite questa si attiverà tutto Quindi io direi beviamola E vediamo cosa succede Vado eh La vedi la mia testa da teschio Non lasciami in pace non ti scrivi in tre prossimi tre secondi Masha.exe ti mangerà stanotte Era un filtro quello stavo scherzando Per il momento non ha avuto effetti particolari Raga la mano Guarda la mano è rossa Si è andata Oh mio Raga mi sa che il veleno può essere blu secondo voi Non è che mi ha avvelenato questa Sto un po' meglio ragazzi Ragazzi questa è l'allarme di casa Questa è l'allarme di casa Raga si è accesa la tv C'è l'allarme di casa È partito Che c'è scritto Allerta Intruso rilevato dal sistema di sicurezza della casa Le autorità sono state avvertite Arriveranno tra 30 minuti Nel frattempo nascondetevi E funziona anche se non c'è l'audio Funziona ancora Questo significa che c'è qualcuno in casa Ma io non ho visto nessuno Voi avete visto qualcuno? O mio dietro forse? Secondo me lei è da qualche parte Io non l'ho vista Se voi l'avete vista scrivetemelo nei commenti Ragazzi ma voi veramente vi pensate che mi mangio questa roba? Ma non è che credete di chiedere un po' troppo? Cioè io questa roba non la tocco Ma neanche se mi paga Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha in casa mia? Secondo me è venuta L'hai letto il mio libro? Raga Non risponde mi sa che non l'apprezza Lo sapevo che li aveva fatti lei Mmm Sono proprio buoni Se quando l'ho finito non mi risponde ragazzi Ti rifaccio ingoiare lei L'ho finito Masha sei buona o cattiva? Raga ma si è mangiato al foglio Ma si è mangiato al foglio Ragazzi non pensavo che funzionasse davvero solo nei guai Cosa facciamo? La televisione raga Guarda sulla tv C'è la statica Si è attivata con la statica Non funziona Oh Raga non funziona Ma Masha dove è andata? Ma fino al secondo fa era lì Ma questa statica non si toglie Raga ma è partita Masha È partito il cartone di Masha Lei non è più lì Ma è qui Avete visto gli occhi di Masha come erano diventati? Tornate nei suoi cloni video per vederli se non l'avete visti Ma che cavolo sta succedendo stasera? Si è spenta Sta chiamato e mi è partita da sola ragazzi Ciao Frostinox Perché mi hai videochiamato? Siamo su Discord Ragazzi non mi sente? Però mi senti? Ma che ho dei problemi io ragazzi E non so perché mi è partita sta videochiamata davvero La sua videochiamata ha glicciato Ma non mi sente? Ragazzi scrivetegli qualcosa anche voi Non mi sente Ma che è successo? Che è successo? Ragazzi continua a non sentirmi Sta parlando da solo ma non è che Mi è sembrato di vedere qualcosa dietro eh Mi è sembrato di vedere qualcosa Non sono sicuro Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Io spero Spero che non arrivi anche qua E la chiamata si è interrotta Secondo me cosa gli ha fatto? Io non credo che abbia fatto una bella fine Oddio Hai visto? Torna dietro con il video se non l'hai visti C'erano due occhi qua che si illuminavano Io li ho visti dalla telecamera Li ho visti qui Che sia lei che è diventata indemoniata adesso Mi sta videochiamando di nuovo no? Devo rispondere però anche se ho paura devo rispondere Ok rispondiamo Hai lasciato che i tuoi amici venissero mangiati Ma non ti senti nemmeno un po' in colpa? Sei stato lì senza fare niente Ma se non potevo fare niente Eravamo in videochiamata Masha Mi hai tenuto con le mani legate Gli hai fatto tutto in videochiamata In modo che io non potessi fare niente Quindi cosa vuoi da me adesso? Adesso però è il tuo turno Non sono qua perché me lo hai chiesto tu Sono qua perché io voglio mangiarti Voglio sacciarmi E tanto che non faccio un pasto Tu provaci ma io ti smaschererò prima Perché devo scoprire chi sei in realtà Lo farò e ti smaschererò davanti a tutti quanti Adesso vedremo cosa sai fare contro di me Che intendi? Raga Ha attaccato Dobbiamo andarla a cercare ragazzi a questo punto Non ci ha lasciato altra scelta Ricordati che il libro tu lo trovi in libreria Nel link in descrizione alla scuola dei mostri Ti protegge da tutti i mostri Ragazzi secondo me non è tanto lontana Masha Raga Raga era dietro Era dietro Io me ne vado qua Spero che non ci abbia visti Dobbiamo scoprire che cosa ha in mente Ragazzi Masha è uscita Dobbiamo assolutamente scoprire chi è Io la devo inseguire Chissà dove si è cacciata Masha ora Ragazzi è dietro L'avete visto? Guardate se ne va Se ne va Devo seguirla in qualche modo La dobbiamo trovare Ragazzi non c'è più Ragazzi guardate per terra Ci sono le impronte di Masha e Orso Le vedete? Sono qui Io le devo seguire assolutamente Se le seguiamo arriveremo sicuramente Nel nascondiglio segreto di Masha Guardate sicuramente dietro questo c'è spuglio Ragazzi ma quella è Masha Ricordo il giacchetto Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la tua vera faccia Vediamo Adesso ti smaschero Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guardala Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto? Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe dalla foto però eh Ci fanno queste vespe Eh vabbè Delle api stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio Dio si è aperta la finestra Lo sapevo che è entrato qualcuno No c'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Ma cosa c'è? Sì Però l'acqua come l'ho toccata esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma qua orso è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli Giustamente È buio Io sento dei versi orribili Di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è Era diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma raga mi sto Mi sto spaventando eh Direi di sì Masha Che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di orsi Oh mio dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso? Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto di Agiwagi Ti consiglio di correre a prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine il suo compito Vero bene Adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Si mi obblighi Io sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Guardate urso Che faccia orribile che ha Oh mio dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile Nella finestra Guarda Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi sei sentita male per davvero Per favore Dici la tua età E per attivare L'easter egg Dobbiamo mettere L'età 666 Che non compare Il terzo 6 giustamente Ma per noi È come se fosse comparso Andiamo Eccoci Iscriviti e gioca senza la pubblicità Oh Orso si sta davvero trascurando Portalo alla doccia Così può la far Grazie al cavolo che orso Si sta trascurando Con una roba come Masha Che cosa possiamo usare Per far fuori Masha Ci avranno fornito qualche oggetto Ma quanto è brutta Masha Uh il cibo Vediamo Vediamo Forse riesco a farla avvelenare Allora questa carne Non mi sembra che abbia un bel aspetto Buono Masha Mmm Ma è andata male A me non sembra che ti faccia tanto bene Sto cibo Ma com'è già contenta Ma è davvero buono Adesso è ora di giocare No Masha Anzi si Adesso è ora di giocare Dobbiamo cercare la bicicletta ragazzi Eccola Ragazzi anche a voi Masha ricorda solo Enigmista così Scrivetemelo nei commenti Che sono curioso Ma Dove è andata Masha Dobbiamo Dobbiamo correre più veloci Del panda Vai Masha Vai ti schianti Se la facevo schiantare Può fare una brutta fine No niente Non si è schiantata Speravo si schiantasse Invece è contenta Con una faccia un po' creepy Uh Che è questa ragazzi Io non lo so chi è Forse ce la darà lei L'oggetto per far fuori Masha Una chiave Vediamo E ci sono altri due pacchetti regalo Con altre due chiavi Una è una pistola ragazzi Quindi forse effettivamente Ce l'abbiamo Degli oggetti Per farla fuori E cosa me ne faccio Di questa roba Si è sbloccata la chitarra E adesso si sblocca Anche la pistola Un'aspirapolvere Possiamo sbloccare La prossima volta E una pistola Non ad acqua Quanti oggetti Che stanno comparendo Nella casa di Masha Ragazzi questo è Masha.ex Masha.ex Deve andare in bagno Ragazzi Sembra il bagno di Shrek Masha invece Deve andare a dormire Vediamo se compare Masha.ex qua Lascia mi piace Iscriviti entro Passi in tre secondi Oppure Masha.ex Ti mangerà stanotte Guardate orso Che faccia orribile Che ha Ce l'ha tolto Per metterci Tutte le animazioni Ma penso che voi lo abbiate visto Hai fame di Masha orso? Andiamo a mangiarci Masha Oh C'era qualcuno Dentro l'armadio L'ho visto eh Si era mosso l'armadio Prima ragazzi Avete visto Masha ha dormito Vieni orso Andiamoci a mangiare Masha Guardate orso Si avvicina molto creepy E c'è la testa di Masha qua Tieni orso Gnam Che verso orribile Che ha fatto Ragazzi è stato spaventoso Secondo me alla fine Sarà orso Che farà fuori Masha Dov'è Masha? Ciao Masha 1 e Masha 2 Sono insieme Non credo che sia Una bella situazione questa Credo che tu abbia bisogno Di dormire orso Vai buonanotte Ma non ha bisogno Di dormire a quanto pare Ma chi è questo ragazzi? Masha deve far fuori una tigre Speriamo che però Sia la tigre A far fuori Masha Qui si la bomba Vabbè ho capito Mi fai giocare Devi scassare le scatole ancora Abbiamo preso gli orsi cattivi Che si introducono in casa nostra No quella è una bomba Guarda pure un leone c'è Abbiamo un sacco di nemici però Questo è l'importante Quindi Masha Se non la facciamo fuori noi Sicuramente qualcuno ci sarà Che la fa fuori No ha preso la bomba Guardate lo schermo Inizia a essere tutto rotto Mi sa che Masha Sta soffrendo qua eh Per via della bomba Però abbiamo vinto Non credo che faccia Ricadere lo sfondo Ragazzi Avete visto cosa c'era Nella foto? Masha non sta bene Guardate che c'è Tutto cibo avariato Adesso glielo do Speriamo che si senta male Stavolta eh Guarda Hai fame Toh Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male Per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto Che fine brutta ha fatto? Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe Dalla foto però eh Oh mio dio Guardate nella televisione Si vede qualcosa Non so chi sia Quello della televisione Però si vede qualcosa Se è andato Voglio vedere dagli occhi di orso Se qualcuno ci sta spiando Oppure dagli occhi Di questa Masha strana Guardate Però mi sembra Guarda negli occhi Si è vista una faccia Mi sa eh Guardate bene Che in questa foto Si vede la faccia Anche il gioco me lo dice Sto facendo un ottimo lavoro Sto scoprendo delle cose Che non dovrei scoprire Mmm Sta pubblicità Però guardate Sembra tipo Masha Prima di diventare punto ex Dopo punto ex Cioè tipo l'evoluzione Alla fine Ste pubblicità Non è vero Che non servono a niente A te ti devo Vieni che ti curo Cosa facciamo Una bella puntura Totti da tipi Questo e buonanotte Perfetto Stai bene adesso Benissimo Ma non hai fatto niente Come fa a essere completamente Pulisci Vabbè ti metto a letto Ogni volta che passo con orso Si vede qualcuno Che ti arriva Da dentro l'armadio Allora Nel gioco sembra Masha normale Ma nella foto Che la rappresenta C'è Masha punto ex Secondo me Questo significa qualcosa Guardate qua dietro Sembra di vedere degli occhi In lontananza Però eh Sta arrivando Masha Quella cattiva stregonda Te c'entri qualcosa Vero Se riusciamo a prendere Tutti gli ingredienti Che ci servono Possiamo fare una roba Per curare Masha Come abbiamo fatto Per Tolkien Joan Una bella pozione di cura Uh lui aveva un cuore L'abbiamo preso Quindi il cuore Ce l'abbiamo Ho vinto Guardate Masha punto ex Con orso Che aspetta i regali E orso Sembra un po' Cattivo Non sembra contento Di questa cosa Vediamo I pattini abbiamo ricevuto Vedete chi si muove Forse ci tengono qualcuno Si sentono anche Delle canzoncine strane Di sottofondo Prendiamo Masha streghetta Portiamola al cibo E vediamo di fargli fare Una bella pozione Vieni Perfetta Allora Usa il cuoricino E tira fuori Sta cavolo di boccetta Grazie Masha Per fare la pozione Totti da da mangiare Ma tu falla però È svenuta pure lei Ma vi sembra normale Che questi quando mangiano Svengono Ce l'abbiamo fatta Guardate Le pozioni si stanno creando Si è creata la pozione Lei è svenuta Dalla paura della pozione Perché è molto strana Masha Beviti sta cavolo di pozione E non scassare più Eccola la pozione Vai Masha Bevi Guardate i suoi occhi Stanno cambiando Sta tornando normale Sai qual è il libro Che tiene lontano A Masha.exe Il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti protegge da tutti i mostri E ti insegna a superare Le tue paure E ci sono anche delle avventure epiche È tornata normale per fortuna Anche se ha fatto una luce verde Strana che sembra che puzza Ha distrutto ragazzi Il frigorifero Avete visto cosa aveva combinato Ad orso Masha Adesso sono tornati tutti normali Eccoci Che è questo gioco Dove ci fa vedere La notte di Masha e orso Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Però intanto vi faccio vedere Il primo pezzo A Masha piace tanto disegnare Prima di andare a morire Ma chi è che sta parlando Come una madre russia Ho creato un'ambulanza Sicuramente sarà per me Dopo la fine di questo video E c'è un lupo Che sicuramente sarò io Dopo la fine di questo video E ce n'è un altro ancora Stanno mangiando Quella è Masha ragazzi È solo l'interiore di Masha Se stanno a mangiare Ma state scherzando È un gioco per bimbi Guardate che bello Cosa dovremmo disegnare Guardate che bel disegno Abbiamo completato La casa di Masha Ma cosa salti Non lo vedi che sotto il tuo letto C'è un mostro Cosa ridi A parte che anche sopra il tuo letto C'è un mostro Visto la faccia che ti hanno fatto Ragazzi è bruttissimo Guardate che brutto C'è il temporale Oh mio dio C'era Jeff the Killer Fuori Masha è scomparsa Oh io non ho visto dove è andata Forse voi lo sapete È andata da Orso E allora va a svegliare Orso Orso Non usa le candele Già il paura è di mio Poi usi le candele Per andare a trovare Jeff the Killer Ma usa qualcos'altro Guardate Era entrata una cosa Dalla finestra C'è una vespa Ma era entrato Jeff the Killer Cos'è successo questa volta Non lo so Signora russa Cosa ci fanno queste vespe E vabbè Delle api stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che è entrato qualcuno No C'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è Sì Però l'acqua come l'ho toccata Esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora rusa Ma magari non alle tre di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha Vero Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma cos'è questa risata orribile Bravo Mangiatene così Sei tranquillo Che devo fare E vabbè Ma chi è che è entrato dentro il frigo Ha fatto sto schifo però Non è che se il frigo era ridotto così Non potete Ecco Ora possiamo dormire Con queste bambole brutte Come la fame Guarda là Sono delle bambole maledette queste Dormi dentro Eh dormi qua Dentro Qua Dentro il cappello Coniglio Che devo fare i libri Eh qui Dentro il cappello Te l'ho detto Sono più intelligenti di te Dormi dentro il cappello Vai coniglio Ciao Vai ti spengo la luce Perché sennò non ti lascio dormire Cioè dobbiamo aiutare a sopravvivere A Jeff the Killer Dobbiamo aiutare a sopravviverli Adesso faccio l'ultimo livello Poi ragazzi lo continuiamo Nei prossimi video Se vi interessa Questi sono degli scoiattolini Che dobbiamo fare Guardate che faccio orribile Nella finestra Ma perché compaiono Ste facce Sarà forse l'orario A cui sto giocando Che fa comparire sta roba Perché sto giocando A luna di notte Oh Puliamo le foto Questa qua Con orso No dammi quella con orso Che sono curioso Di vedere cosa è successo Guardate qua orso è spaventato Che è successo Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli Giustamente È buio Io sento dei versi orribili Di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma Non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è Ragazzi scusatemi un attimo Cioè da quanto ce n'è L'è diventato rosso Il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate Ci sono gli episodi di Masha Ha fatti strani Sta parlando Sentite Pensi che sopravviverai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggerò i tuoi amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai i tuoi iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermare Sono una bambina Molto molto cattiva E sono dietro Una forte di pagatura Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Perché sarai diventato Iomasha.exe E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga A mangiare Hello Sono tornato dal McDonald's King Burger Mega galattico Perché ho preso Gli Happy Meal Di Mascia e Orso Questo è l'Happy Meal Di Orso Non lo voglio Non voglio sapere Cosa c'è dentro E qua c'è L'Happy Meal Di Mascia Che è molto carina Io direi Iniziamo subito Ad aprire L'Happy Meal Di Mascia Perché forse è meglio Abbiamo anche la Coca Cola Che possiamo Con la cannuccia corta corta Che la possiamo bere Dopo ovviamente Magari dentro Il nostro bicchiere Quello horror Quello qua Con i teschi Questo è Gianfranco Luigi Mattia E Antonella Perché non hanno messo Mi piace Quindi mettilo Perché se no Farai questa fine Andiamo ad aprire L'Happy Meal Di Mascia Ragazzi ma Guardate Si sono mossi gli occhi Si sono mossi gli occhi Di Mascia Sei viva Ora non più sicuramente Andiamo ad aprirlo E vediamo cosa c'è dentro Ma è normalissimo ragazzi Prima volta che ordino Un Happy Meal Maledetto Ed è normale Abbiamo Guardate Abbiamo queste Che sono le nuggets Di pollo E poi abbiamo Le mega patatine Chips Ragazzi a questo punto Direi Lasciamo l'Happy Meal qua E andiamo subito A provare La mega coca cola Che sicuramente Sarà gustosa E sicuramente Voi non vedete l'ora Di vederla Ragazzi ma Mi è sembrato di sentire qualcosa Guarda dietro Sembra che si vede un'ombra Ma dove c'è la porta Sembra che si vede un'ombra Forse è un effetto visivo mio Andiamo a vedere la coca cola Facciamo finta che Mascio Non l'abbiamo vista Se l'hai vista Scrivilo nei commenti Facciamo finta di niente Ok proviamo Ragazzi È tutto buono Per una volta Ma che forca Oh mio Dio Ragazzi che botta Sto bene Raga Oh mio Dio Oh mio Dio Guarda È cambiato È un altro Happy Meal Scusa se l'ho sputato Ma sono spaventato È un altro Happy Meal Ma state scherzando Ma non è credibile sta cosa Guarda Ha gli occhi diversi adesso Oh mio Dio Sembra di sentirla ridere quasi Vero Ok apriamo Ecco l'Happy Meal Guardate Ora lo apriamo Questa era la giusta punizione Per non aver usato Il nostro bicchiere fantomatico Della gente che non metti mi piace Andiamo ad aprire il Happy Meal E vediamo cosa c'è dentro stavolta Raga C'è quello che mi manca Un cervello Forse il cervello di orso Può essere un cervello di orso Grande così Tra l'altro Non è fresco È duro L'ha fatto fuori Prima di venire qua Guarda È bruttissimo Sembra Impacchettato da qualcuno di orribile No io non ce la faccio ragazzi Raga non ce la faccio A me fanno paura A me fanno paura i ragni Guarda Ci sono finti per fortuna Però mi fanno paura Fate cacare Brutti esseri orribili Ci sono le sue ragni a tele con i figli Guarda C'è il mondo Ma perché hanno fatto tutto questo Non dirmi che Ma questi mi sa che sono di Mascia Hanno litigato Mascia e Orso Mi sa Non sono stato io polizia Se stai guardando sto video Me l'hanno mandato Guarda Deve essere stato Deve essere stato Orso Magari Mascia L'ha fatto andare di fuori E lui ha detto basta Infatti in questa foto Non è che sia tanto carino Da vedere Poi abbiamo Un altro dito di Mascia Poi abbiamo Delle pozioni horror Questo piano Poi lo butterò via Guarda Sono pozioni horror Io non ne provo neanche una Ma se raggiungiamo in mille Mi piace le provo E questo chi sembra Sembra lo zio Fester Ma non ha i capelli Devono essere delle pozioni maledette Queste Guardate come si muovono tutte Questo ragazzi Sappiamo che cos'è Non lo posso dire Perché YouTube è cattivo Ma sappiamo cos'è Poi c'è Aia Questo è vero però Avete visto i denti rossi Guarda cosa mi ha fatto Che schifo Speriamo che non sia venenoso Secondo voi che tipo di ragno è Secondo me è il ragno tombino Sono quei ragni che arrivano Da dentro i tombini E ti fanno Buguzette Fanno schifo Sti ragni Adesso mettiamo Tutta la roba Che non ci serve dentro Tanto questo l'abbiamo visto Passiamo Al prossimo Happy Meal Che è quello di orso Raga Ma si sente ridere Oh mio dio ragazzi Sembra che c'è il terremoto Guardate No raga Non è normale Guarda C'è Masha C'è Masha L'ho ripresa ragazzi L'ho ripresa Ce l'abbiamo fatta Riprendere Masha.ex Però è vero Mi sono scassato Vedete la Coca Cola Di quell'Happy Meal Ecco perché si è arrabbiata così E dobbiamo berla qua Perché io ve l'avevo promesso Che l'avrei bevuta qua Quindi Guardate Non ha un bel aspetto Guardate ragazzi Questa potrebbe essere Una pozione È brutta È orribile Io la vado a bere Siete pronti? 3 2 1 Sta appena di plastica Guardate ragazzi Guarda Il naso Un'altra volta Ha fatto di nuovo questa cosa Guarda Col naso che va a giro È bruttissimo Sto effetto ragazzi Guarda Oh mio dio Sembro Dumbo Guardate Se non ti scrivi Non lasci mi piace Nel prossimo 3 secondi Vengo in casa tua Stanotte Con un'arma da fuoco Nuove pill Questa volta Invece abbiamo Orso E infatti ragazzi Dentro ho trovato Questo Fuori ho trovato Questo E guardate Sono Gli action figure Di FNAF Perché l'ho trovato Proprio nel Happy Meal Di Orso Secondo voi Perché c'è anche lui C'è anche lui E io giustamente Ho trovato il mio preferito Che è Foxy Ma quello è un castoro È un castoro Vabbè È il chip Ragazzi fatemi sapere Qual è il vostro Animatronics preferito Nei commenti Il mio è Foxy Ma non fatevi influenzare Perché ad altri Potrebbe far brutto E questo ragazzi Ce l'ho davvero È il mio pappagallo Chris Oh mio dio Mi è sembrato di sentire Qualcuno che si muoveva Tu stai qua Anzi guarda Guardatelo attentamente Perché a me ogni tanto Sembra che si muove Non lo so se vedete Se gli si muovono gli occhi O qualcosa A me ogni tanto Sembra che si muove lui Boh Lo terremo qua Lo terremo qua In bella vista Andiamo avanti con gli happy meal Ma prima Se vuoi sopravvivere a tutti i mostri E non essere mangiato Da mash.exe stanotte Compra il nuovo libro di game time Che trovi in libreria In link in descrizione Ci sono tutti i segreti Su come faccio a sopravvivere ai mostri E come sopravvivere alle tue paure Mi raccomando Link in descrizione In libreria Richiedi la scuola dei mostri Apriamo l'happy meal Non vi ho ancora fatto vedere niente Abbiamo Guardate Sono le chicken nuggets Di prima Sono ketchupate Di umani E poi abbiamo anche Cioè Sono mangiate No però Io pago E io pago E io pago E io pago Cioè Ragazzi questi Allora non so voi A me non sembra pollo Però Non so da dove arrivi Sta roba Ma non mi sembra pollo E questo non mi sembra ketchup O è un pollo di tre giorni Ma guardate dentro È strano Sembra più gatto ragazzi Cioè Non l'ho mai mangiato Non mi sono mai informato Però Ragazzi questo mi sa che ho un occhio Lo mangio Ma voi dovete lasciare Mi piace Perché se no mi sento male 3 2 1 Che schifo E poi fanno anche le pubblicità del McDonald's Alle tre di notte Dove c'è uno che fa Questo è il My Selection Vieni a provarlo E poi ci trovi sto schifo dentro Scusatemi Io vado avanti Patatine Di 4 giorni fa Non so se Neanche se sono patatine Se sono pezzi di legno Travestiti da patatine Anche qua ketchup Si vedono anche i nervetti ragazzi Oltre quelli che mi stanno salendo a me A mangiare questo schifo Aia Raga fa malissimo sta roba Fa malissimo sta roba Raga mi sento qualcosa che mi scorre Oh cavolo Non mi dire di nuovo Eh che l'ha rifatto Però deve essermi tolto tutto Non mi dire che l'aveva rifatto di nuovo Anche l'altra volta ha fatto uguale Masha Secondo voi ce l'ha preparata Masha Sta roba Ragazzi mi ero scordato una cosa Da parte C'era veramente anche lui Sono stupido Me l'ero Me l'ero scordato E c'è veramente Freddy ragazzi Di FNAF Perché è l'Happy Meal degli orsi Il prossimo Happy Meal potrebbe essere quello di FNAF Vado ad aprire L'ultima cosa del nostro Happy Meal Che è questo A molti di voi potrà sembrare un occhio vero Ma Sappiamo benissimo che non è così Sappiamo bene che questi sono I famosi trolli Infatti Quest'occhio non è vivo Non si muove Ma che E invece si è mosso O è una mia impressione Si è mosso Forse mi hanno Stordito un pochino Le caramelle dentro l'Happy Meal Ragazzi Guardate Si muove Si muove Però non si apre questa roba E allora io la lascerei qua Direi andare a provare la Coca Cola Di quest'altro Happy Meal Non credo che ci faccia un bel effetto Ma io la provo uguale Tanto oramai siamo in ballo per giocare Direi ragazzi che per oggi gli Happy Meal di Mascia e Orso sono finì Mi sta suonando il telefono E Mascia rispondo Ciao Mascia Ciao Ho mangiato il mio alpinino vero? Si Mascia che l'ho mangiato ed era molto disgustoso Ma tu adesso cosa vuoi da me? Non sai cosa voglio Ciò che tu l'altra volta non mi hai dato Io voglio la tua anima E come pensi di prendertela se io non te la do? Lo metterai molto presto Un po' non guardarti in alto Cosa intendi Mascia? Attaccato ragazzi E' veramente incredibile sta qua eh Ragazzi ma Mascia cosa intendi Oh mio Dio Se ne è corsa via Non avete visto che è piombata dal tetto? No raga dove cavolo se ne sarà andata? Oh mio Dio Dove caspita se ne è andata Mascia.ex? Secondo me è andata di qua Andiamo ragazzi Si è pure presa il mio pappagallo Voi non l'avete mai visto E non siete neanche riusciti a vederlo sto oltre che se l'è preso Secondo me nelle vicinanze pronti eh 3 2 1 Eccola No Non è qua Allora significa che Secondo me se ne è andata in camera ragazzi Andiamo? Sentite come ride Se la sta ridendo questa sotto i baffi Dov'è? Guardati in basso Cosa intendi per guardarmi? Oh no Era lì sotto Gli ulli che si sentono Lo show continuerà con l'assenza di te Maggiorate amici Uno ad uno Dopo di te E poi passi nei tuoi iscritti piano piano Conquisterai un mondo Oh mio dio è passato Guarda cosa mi ha fatto Video chiamo Masha.ex Ti prego rispondi Masha Non vedo l'ora di parlarti Non risponde ragazzi Ho aspettato 30 secondi buoni Ancora non ha risposto Dai Masha Rispondimi Ti prego Voglio parlare con te Voglio scoprire i tuoi segreti Ma mi è sembrato Ma mi è sembrato di sentire un sussurro Sembrava che sussurrava I see you Ma se non ha risposto come faccio a sentirlo Mi ha attaccato Sta scrivendo però L'abbiamo disturbata bene questa volta La devo videochiamare assolutamente Voglio scoprire i suoi segreti Pensavi che ti avrei risposto Mi dispiace per te Ma non rispondo quando vuoi tu Peperina E allora cosa posso fare per farmi rispondere Masha Ho qualcosa da proporti di interessante Dovrei videochiamare anche Orso Potrei provare a videochiamare lui effettivamente adesso Magari se prendiamo lui come ostaggio Lei ci risponde Mi ricordo bene chi sei E non ho intenzione di assecondarti Ma magari Orso sì Perché non provi a videochiamare lui Eccoci Videochiamiamo Orso Che faccia orribile che ha ragazzi Questo è Orso nella vita reale Ragazzi mi ha risposto Ma questi sono episodi di Masha e Orso messi strani Ragazzi ha risposto Guardate gli episodi di Masha e Orso Ci sono delle parole che accompagnano su schermo Orso Povero Orso Era un Orso felice prima del mio arrivo Che cosa significa? E continua a glicciare tutto strano Poi è diventato un bambino cattivo Orso non è cattivo Sei tu che gli fai due marroni così in Masha Sei lei che sta parlando Secondo voi chi sta parlando? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Molto cattivo Dovevo fare qualcosa Guardare la tv Masha no? È questo che succede ai bambini cattivi Che intendi? Masha oh mio dio Ragazzi guardate Oh mio dio Gli urli che si sentono Che fine avrà fatto Orso? Dovevo fare qualcosa Orso stai bene Basta Ci sarà la luce dietro avete visto? Mi sono spaventato di brutto Si è accesa da sola Si accende e si spenge Guarda Guarda dietro Si accende e si spenge La vedete? Io sono fermo Si accende e si spenge Ha smesso? Adesso rimane acceso Mi sono spaventatissimo La chiamata è terminata Sta scrivendo Orso Ma non l'ha fatto fuori ragazzi Non è strana questa cosa Che ha scritto Orso E infatti è lei Non ha fatto una bella fine Se vieni Ti spiego perché Masha sei molto cattiva oggi Perché ha fatto questo Secondo voi? Questa è una foto di Masha? Questa è una foto di Masha ragazzi Se questa è Masha.ex Valigine Ce ne andiamo in spiaggia ragazzi Lasciamo No a parte c'è la neve Spiaggia adesso Lasciamo tutto ai professionisti Io non mi intrometto Mi dispiace Perché hai fatto tutto questo Masha? Dobbiamo capirlo ragazzi Perché se no non capiremo mai Perché lei fa questo Hai visto che fine fanno i bambini cattivi? È la stessa fine che farei tu Masha Perché tu sei una bambina cattiva Secondo voi Masha è buona cattiva? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi raccomando Dobbiamo indagare su questa cosa Tutti insieme Perché più siamo e meglio è Credo di sapere come possiamo risolvere Le nostre divergenze Ti sfido a fare due cose Se le farei bene Ti videochiamerò Ci stai? Cioè te non ti conosco neanche Mi vuoi sfidare No No che non mi faccio sfidare da Masha Che magari mi sfida a fare cose orribile Non dovete accettare mai le sfide Di chi vi iscrive Se Masha.ex vi iscrive Non gli rispondete Io lo sto facendo per farvi vedere Che cosa fa Ma non gli rispondete voi Credi che io non sia abbastanza potente? Non l'ho mai detto È proprio per quello che non accetto Perché ho paura della sua potenza Ti ho ferito senza nemmeno toccarti Non è vero ragazzi Io non sento niente Non mi hai ferito Masha Non mi sembra che mi abbia fatto qualcosa Siamo seri? Scusate il taglio Sono dovuto andare a lavarmi la faccia Mi sono spaventato ragazzi Mi sono spaventato Chissà la quanta che ce l'avevo questa cosa Bene perfetto La prima sfida che ti do è di mangiare quel cioccolatino Che trovi in salotto sul tavolo vicino ad una boccetta Prendi pure quella Che dopo ti servirà Scritto malissimo Vabbè una bambina ragazzi Andiamo Sono andato in salotto E ho trovato il cioccolatino Con questo Guardate Che orribile Un bicchiere con dei teschi Cosa significa ragazzi? Questo significa Iscritti lascia mi piace Oppure verrò a mangiarti stanotte Masha ho fatto tutto quello che mi avevi chiesto E ora? Voglio sapere da dove partire Perché è un'indagine da fare Brava Adesso mangia Sono diventata game time Ma non game time adesso Sono diventato femmina Scusa Quanto sei fiscale Con i diavoletti Il cioccolatino in questione è questo Io lo vado ad assaggiare Guardate Allora vado Mi raccomando il mi piace per questa cosa Ha una cosa strana dentro Guardate Sopra in alto Ha una cosa strana Sa di spugna Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Ma ho riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è L'ha diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Masha sei normale A fare una cosa del genere? Ovviamente no Perché è una bimba cattiva ragazzi Noi lo sappiamo benissimo Bene Sono contenta per quello che ti è successo alla lingua Parli troppo Adesso bevi la fiala No che non la bevo Dammi un motivo per farlo Il motivo potrebbe anche essere che viene a farmi fuori Guardate ragazzi cosa c'è dentro la fiala È orribile Guarda Questo ragazzi diventerà il nostro bicchiere per le pozioni eh A me non me ne frega niente Se volete le pozioni scrivetemelo nei commenti anche di chi le volete Ma questo qua diventa il mio bicchiere per le pozioni Non me ne sbatte niente Vado eh Sapeva di plastica ragazzi Non bevete mai la plastica mi raccomando Perché sennò vi fa male Oh mio dio Oh mio dio guardate Oh mio dio guarda il naso Ma smetterà prima o poi vero? Dovrebbe smettere Ragazzi credo che questa roba qua faccia degli effetti troppo strani Ha smesso mi sa Ma mi sembra di vedere qualcuno dietro Non c'è nessuno Ma a me sembra di vedere qualcuno Se l'avete visto voi scrivetemelo Mi raccomando Mi sembra di aver visto qualcuno È stato troppo spettacolare Adesso riceverai il tuo premio Quale sarebbe? La videochiamata forse finalmente? Ma che vabbè però dai Mercoledì Sì vabbè Mi confondo pure Siete tutti uguali Brutti come la fame e cattivi Spaventato dovresti E tu dovresti fare un riposino Non è l'ora del riposino le tre di notte? Che poi tra l'altro qua fuori c'è gente che tiene la luce a palla Delle macchine Sembra giorno Ragazzi ci sta videochiamando Oh mio dio Sono pronto Sono pronto Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha fatti strani Sta parlando sentite? Pensi che sopravviderai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Qualcuno senza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai tu iscritti piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando un po' troppo stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina molto molto cattiva E sono riuscito alla parte di casa tua Non è vero perché ho gli allarmi E non sono suonate quindi non ci sei Attaccato Sei soddisfatto della videochiamata? Non è finita Io sono qui per un motivo ben preciso Rompere le scatole Masha? Ci sei riuscita perfettamente Che crudeltà che ha questa ragazzi Sono qui per la tua anima Sono molto ansiosa di prenderla Ma sono solo una ragazzina Non posso sporcarmi io le mani Cosa intendi? Ci sta mandando un sicario? Lo farà Orso per me Senti dei rumori in casa? Avete sentito? No raga mi sto spaventando eh Direi di sì Masha che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai o lui ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di Orso Oh mio Dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me Voi però eh Oh mio Basta non indago più Basta ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso? Con il nuovo libro di Game Time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Aghiwaghi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato? Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso? No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Sì mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio dio raga guardate Cosa cavolo è successo Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la povera faccia Vediamo Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha In casa mia Masha e orso ripresi nella vita reale E questo è un video Che viene da una videocamera Di sorveglianza Di un negozio Sono videocamere Che riprendono a frame E come vedete C'è qualcuno di molto simile A Masha Che si appresta ad entrare Nel negozio Altri video in questo periodo Sono stati diffusi In rete Ma sono tutti video Fatti da telecamere Che vanno a fotogrammi Come questo per esempio Che sta riprendendo La porta di casa sua E si vede una persona Che assomiglia tantissimo A Masha Che si avvicina Alla porta di casa sua Bussa E se ne va via Alle 3 di notte Io però ho scoperto Tramite il dark web Un modo per evocare Masha e orso Nella vita reale Una candela Rigorosamente per far partire Queste cose Un vasetto di miele per orsi E anche un foglio Per le risposte Perché se non riesce A comunicare con la voce Lo farà con Le cose paranormali Ed io oggi Voglio che seguiate il video Fino alla fine Perché voglio smascherare Masha Perché secondo me Non è la vera Masha Quella che si aggira Nella vita reale Secondo voi chi è? Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Mi sta arrivando Una videochiamata Pronto Masha? Da quanto tempo Che non ti sento Hai delle novità per me? Sì Masha Che ho delle novità per te Ho preso la tua pozione Dal dark web E ti voglio Evocare nella vita reale Tu sei disposto A venire fin qua? Stavolta poi Sul serio vedo Allora farò anche io Sul serio Sai Fino ad oggi Non mi sono mai mostrata Per quella che sono Davvero Cosa intendi Masha Che non ti sei mai mostrata Per quella che sei? Non mi dire Che c'è nascosto altro Lo so Sono spaventosa Ma non guardarmi Lo hai fatto lo stesso E adesso Mi hai costretto A venire a mangiarti Io non sono un cibo Masha Attaccato Ma questa minaccia Se ne va Lasciamo perdere Le minacce di Masha Adesso l'importante È verificare Che non sia già Dentro casa nostra Perché potrebbe Già essere entrata Vediamo se effettivamente Masha è entrata In casa nostra E se effettivamente Ha fatto quello che ha detto Ok ci siamo Ragazzi sul tavolo Ci sono delle cose Che io non avevo visto prima Sul tavolo Come potete vedere Abbiamo la pozione Di Masha Che è blu E non mi chiedete Il perché Non lo so È un mistero anche per me Nella vita Non si può sapere tutto Ma si possono imparare Più cose possibili Oltre questo Abbiamo il miele Che per orso Il miele È come l'orsacchiotto Di Granny Guardate Sentite I battiti di orso Lo devo lasciare Perché se no Arriva orso I battiti di orso Ci sono Poi abbiamo La candela Che a quanto pare Qualcuno ce l'ha già portata Qui Ho portato Il foglio Per le domande E abbiamo anche I panini Con ketchup Umano Voi sapete Che cosa intendo Queste sono tutte cose Che sicuramente Arrivano dal dark web Ma una tra tutte Mi interessa di più Ed è la pozione Di Masha Perché tramite questa Si attiverà tutto Quindi io direi Beviamola E vediamo Cosa succede Vado eh La vedi la mia testa Da teschio Non lasciami Pace Non ti scrivi Nel prossimo Tre secondi Masha Punto ex Ti mangerà Stanotte Era un filtro Quello Stavo scherzando Per il momento Non ha avuto Effetti particolari Raga La mano Guarda la mano È rossa Sei andata Oh mio Raga Mi sa che Il veleno può essere blu Secondo voi Non è che mi ha avvelenato Questa Sto un po' meglio Ragazzi Ragazzi Questa è l'allarme di casa Questa è l'allarme di casa Raga Si è accesa la tv C'è l'allarme di casa È partito Che c'è scritto Allerta Intruso rilevato Dal sistema Di sicurezza Della casa Le autorità Sono state avvertite Arriveranno Tra 30 minuti Nel frattempo Nascondetevi E funziona anche se Non c'è L'audio Funziona ancora Questo significa Che c'è qualcuno In casa Ma io non ho visto nessuno Voi avete visto qualcuno Oh mio Dietro forse Secondo me Lei è da qualche parte Io non l'ho vista Se voi l'avete vista Scrivetemelo nei commenti Ragazzi Ma voi veramente Vi pensate che Mi mangio questa roba Ma non è che Credete di chiedere Un po' troppo Cioè Io questa roba Non la tocco Ma neanche se mi paga Ragazzi Ma è Mascia È quella vera Che ci fa Mascia In casa mia Secondo me è venuta L'hai letto il mio libro Raga Non risponde Mi sa che non lo apprezza Lo sapevo che Gli aveva fatti lei Mmm Sono proprio buoni Se quando Se quando le ho finiti Non mi risponde Ragazzi Li rifaccio ingoiare Lei L'ho finito Mascia Sei buona o cattiva Raga ma si è mangiato Il foglio Ma si è mangiato Il foglio Ragazzi Non pensavo Che funzionasse davvero Solo nei guai Cosa facciamo La televisione Raga Guarda sulla tv C'è la statica Si è attivata Con la statica Non funziona Oh Raga Non funziona Ma Mascia Dove è andata Ma fino al secondo fa Era lì Ma questa statica Non si toglie Raga ma è partita Mascia È partito il cartone Di Mascia Lei non è più lì Ma è qui Avete visto gli occhi Di Mascia Come erano diventati Tornate nei occhi Di video per vederli Se non l'avete visti Ma che cavolo Sta succedendo Stasera Si è spinta Sta chiamando E mi è partita Da sola ragazzi Ciao Frostinox Perché mi hai Videochiamato Siamo su discord Ragazzi non mi sente Però mi senti Ma che ho dei problemi Io ragazzi E non so Perché mi è partita Sta videochiamata Davvero La sua videocamera Ha greciato Ma non mi sente Ragazzi Scrivetevi qualcosa Anche voi Non mi sente Ma che è successo Ragazzi Continua a non sentirmi Sta parlando da solo Ma non è che Mi è sembrato Di vedere qualcosa dietro Mi è sembrato Di vedere qualcosa Non sono sicuro Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio dio Raga guardate Cosa cavolo è successo Io spero Spero che non arrivi Anche qua E la chiamata Si è interrotta Secondo me Cosa gli ha fatto Io non credo Che abbia fatto Una bella fine Oddio Hai visto Torna dietro Quei video Se non l'hai visti C'erano due occhi qua Che si illuminavano Io li ho visti Dalla telecamera Li ho visti qui Che sia lei Che è diventata Indemoniata adesso Mi sta videochiamando Di nuovo no Devo rispondere però Anche se ho paura Devo rispondere Ok rispondiamo Hai lasciato che i tuoi amici Venissero mangiati Ma non ti senti Nemmeno un po' in colpa Sei stato lì Senza fare niente Ma se non potevo fare niente Eravamo in videochiamata Masha Mi hai tenuto Con le mani legate Gli hai fatto tutto In videochiamata In modo che io Non potessi fare niente Quindi cosa vuoi Da me adesso Adesso però Tu provaci Ma io ti smaschererò Prima perché Devo scoprire Chi sei in realtà Lo farò E ti smaschererò Davanti a tutti quanti Adesso vedremo Cosa sai fare Contro di me Che intendi Raga Attaccato Dobbiamo andarla a cercare Ragazzi a questo punto Non ci ha lasciato Altra scelta Ricordati che il libro Tu lo trovi in libreria Nel link in descrizione La scuola dei mostri Ti protegge da tutti i mostri Ragazzi Secondo me Non è tanto lontana Masha Raga Raga era dietro Era dietro Io me ne vado qua Spero che non ci abbia visti Dobbiamo scoprire Che cosa ha in mente Ragazzi Masha è uscita Dobbiamo assolutamente Scoprire chi è Io la devo inseguire Chissà dove si è cacciata Masha ora Ragazzi È dietro L'avete visto? Guardate se ne va Se ne va Devo seguirla in qualche modo La dobbiamo trovare Ragazzi non c'è più Ragazzi guardate per terra Ci sono le impronte Di Masha Di Masha e Orso Le vedete sono qui Io le devo seguire assolutamente Se le seguiamo Arriveremo sicuramente Nel nascondio segreto Di Masha Guardate sicuramente Dietro questo c'è spuglio Ragazzi ma quella è Masha Ricordo Il giacchetto Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere La tua vera faccia Vediamo Adesso ti smaschero Guardate orso che faccia Orribile che ha Oh mio dio C'era Jeff the killer Fuori Guarda che faccia Orribile Nella finestra Guardala Hai fame Orribile È svenuta Ragazzi si è sentita male Per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto Che fine brutta ha fatto Si sta ricaricando però Quindi Masha Può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe Dalla foto però Ci fanno queste vespe E vabbè Le lapi stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che era entrato qualcuno No C'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro Spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è Si Però l'acqua come l'ho toccata E' esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha Vero Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire Anche gli altri personaggi Ma qua orso è spaventato Che è successo Ma c'è la Jeff the Killer Nella immagine Ragazzi E voi dormite tranquilli Giustamente È buio Io sento dei versi orribili Di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma raga mi sto Mi sto spaventando eh Direi di sì Masha che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite Ma mi sembra di sentire Versi di orsi Oh mio Dio È passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso Vero sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera Sentite che ci sono rumori Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me Voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Agiwagi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio Di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio Di Masha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto Al tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Si mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi È incredibile Perché sarà diventato Io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga A mangiare Guardate Orso Che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer Fuori Guardate che faccia orribile Nella finestra Guarda Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male Per davvero Per favore Dici la tua età E per attivare L'easter egg Dobbiamo mettere l'età 666 Che non compare Il terzo 6 giustamente Ma per noi È come se fosse comparso Andiamo Eccoci Iscriviti e gioca Senza la pubblicità Oh Orso si sta davvero Trascurando Portalo alla doccia Così può Grazie al cavolo Che orso si sta trascurando Con una roba come Masha Che cosa possiamo usare Per far fuori Masha Ci avranno fornito Qualche oggetto Ma quanto è brutta Masha Uh il cibo Vediamo Vediamo Forse riesco A farla avvelenare Allora questa carne Non mi sembra Che abbia un bel aspetto Buono Masha Mmm Ma è andata male A me non sembra Che ti faccia tanto bene Sto cibo Ma com'è già contenta È davvero buono Adesso è ora di giocare No Masha No Anzi si Adesso è ora di giocare Dobbiamo cercare la bicicletta Ragazzi Eccola Ragazzi anche a voi Masha Ricorda solo l'enigmista Così Scrivetemelo nei commenti Che sono curioso Ma Dove è andata Masha Dobbiamo Dobbiamo correre più veloci Del panda Vai Masha Vai ti schianti Se la facevo schiantare Può fare una brutta fine No niente Non si è schiantata Speravo si schiantasse Invece è contenta Con una faccia un po' creepy Uh Chi è questa ragazzi Io non lo so chi è Forse ce la darà lei L'oggetto per far fuori Masha Una chiave Vediamo E ci sono altri due pacchetti regalo Con altre due chiavi Una è una pistola ragazzi Quindi forse effettivamente Ce l'abbiamo Degli oggetti per farla fuori E cosa me ne faccio Di questa roba Si è sbloccata la chitarra E adesso si sblocca anche la pistola Un'aspirapolvere Possiamo sbloccare la prossima volta E una pistola Non ad acqua Quanti oggetti Che stanno comparendo Nella casa di Masha Ragazzi Questo è Masha.ex Masha.ex Deve andare in bagno Ragazzi Sembra il bagno di Shrek Masha invece Deve andare a dormire Vediamo se compare Masha.ex Lascio mi piace scritto Entro passi in tre secondi Oppure Masha.ex Ti mangerà stanotte Guardate orso Che faccia orribile Che ha Ce l'ha tolto Per metterci tutte le animazioni Ma penso che voi Lo abbiate visto Hai fame di Masha orso Andiamo a mangiarci Masha Oh C'era qualcuno dentro l'armadio L'ho visto eh Si era mosso l'armadio Prima ragazzi Avete visto Masha ha dormito Vieni orso Andiamoci a mangiare Masha Guardate orso Si avvicina molto creepy E c'è la testa di Masha qua Tieni orso Gnam Che verso orribile Che ha fatto Ragazzi è stato spaventoso Secondo me alla fine Sarà orso Che farà fuori Masha Dov'è Masha Ciao Masha 1 e Masha 2 Sono insieme Non credo che sia Una bella situazione questa Credo che tu abbia bisogno Di dormire orso Vai Buonanotte Ma non ha bisogno Di dormire A quanto pare Ma chi è questo ragazzi Masha deve far fuori Una tigre Speriamo che però Sia la tigre A far fuori Masha Qui Si la bomba Vabbè ho capito Mi fai giocare Devi scassare le scatole ancora Abbiamo preso gli orsi cattivi Che si introducono in casa nostra No quella è una bomba Guarda pure un leone c'è Abbiamo un sacco di nemici però Questo è l'importante Quindi Masha Se non la facciamo fuori noi Sicuramente qualcuno ci sarà Che la fa fuori No ha preso la bomba Guardate lo schermo Inizia a essere tutto rotto Mi sa che Masha Sta soffrendo qua eh Per via della bomba Però abbiamo vinto Non credo che faccia Ricari lo sfondo Ragazzi Avete visto cosa c'era Nella foto Masha non sta bene Guardate che c'è Tutto cibo avariato Adesso glielo do Speriamo che si senta male Stavolta eh Guarda Hai fame Orribile È svenuta Ragazzi si è sentita male Per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto Che fine brutta ha fatto Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe Dalla foto però eh Oh mio dio Guardate nella televisione Si vede qualcosa Non so chi sia Quello della televisione Però si vede qualcosa Se n'è andato Volevo vedere dagli occhi di Orso Se qualcuno ci sta spiando Oppure dagli occhi di questa Masha Strana Guardate Però mi sembra Guarda negli occhi Si è vista una faccia Mi sa eh Guardate bene che in questa foto Si vede la faccia Anche il gioco me lo dice Sto facendo un ottimo lavoro Sto scoprendo delle cose Che non dovrei scoprire Mmm Sta pubblicità Però guardate Sembra tipo Masha Prima di diventare .exe Dopo .exe Cioè tipo l'evoluzione Alla fine ste pubblicità Non è vero che non servono a niente A te ti devo Vieni che ti curo Cosa facciamo Una bella puntura Totti da TV Questo Buonanotte Perfetto Stai bene adesso Benissimo Ma non hai fatto niente Come fa a essere completamente Pulisci Vabbè ti metto a letto Ogni volta che passo con orso Si vede qualcuno Che ti arriva Da dentro l'armadio Allora nel gioco Sembra Masha normale Ma nella foto Che la rappresenta C'è Masha .exe Secondo me Questo significa qualcosa Guardate qua dietro Sembra di vedere Degli occhi in lontananza Però eh Sta arrivando Masha Quella cattiva stregona Te c'entri qualcosa Vero Se riusciamo a prendere Tutti gli ingredienti Che ci servono Possiamo fare una roba Per curare Masha Come abbiamo fatto Per Tolkien Una bella pozione di cura Uh lui aveva un cuore L'abbiamo preso Quindi il cuore ce l'abbiamo Ho vinto Guardate Masha .exe Con orso Che aspetta i regali E orso Sembra un po' Cattivo Non sembra contento Di questa cosa Vediamo I pattini abbiamo ricevuto Vedete che si muove Forse ci tengono qualcuno Si sentono anche Delle canzoncine strane Di sottofondo Prendiamo Masha streghetta Portiamola al cibo E vediamo di fargli fare Una bella pozione Vieni Perfetta Allora Usa il cuoricino E tira fuori Sta cavolo di boccetta Grazie Masha Per fare la pozione Totti Do da mangiare Ma tu falla però È svenuta pure lei Ma vi sembra normale Che questi quando mangiano Svengono Ce l'abbiamo fatta Guardate Le pozioni si stanno creando Si è creata la pozione E l'hai svenuta Dalla paura della pozione Perché è molto strana Masha Bevi Ti sta cavolo di pozione E non scassare più Eccola la pozione Vai Masha Bevi Guardate i suoi occhi Stanno cambiando Sta tornando normale Sai qual è il libro Che tiene lontano A Masha.exe Il nuovo libro di Game Time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti protegge da tutti i mostri E ti insegna a superare Le tue paure E ci sono anche Delle avventure epiche È tornata normale per fortuna Anche se ha fatto una luce verde Strana che sembra che puzza Ha distrutto ragazzi Il frigorifero Avete visto cosa aveva combinato Ad Orso Masha Adesso sono tornati tutti normali Eccoci Che è questo gioco Dove ci fa vedere La notte di Masha e Orso Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Però intanto vi faccio vedere Il primo pezzo A Masha piace tanto disegnare Prima di andare a morire Ma chi è che sta parlando Come una madre russia Ho creato un'ambulanza Sicuramente sarà per me Dopo la fine di questo video E c'è un lupo Che sicuramente sarò io Dopo la fine di questo video E ce n'è un altro ancora Stanno mangiando Quella è Masha ragazzi È solo l'interiore di Masha Se stanno a mangiare Ma state scherzando È un gioco per bimbi Guardate che bello Cosa dovremmo disegnare a te Disegno Abbiamo completato La casa di Masha Ma cosa salti Non lo vedi che sotto il tuo letto C'è un mostro Cosa ridi A parte che anche sopra il tuo letto C'è un mostro Visto la faccia che ti hanno fatto Ragazzi è bruttissimo Guardate che brutto C'è il temporale Oh mio dio C'era Jeff the Killer Fuori Masha è scomparsa Oh io non ho visto dove è andata Forse voi lo sapete È andata da Orso E allora va a svegliare Orso Orso Non usa le candele Già paura di mio Poi usi le candele Per andare a trovare Jeff the Killer Ma usa qualcos'altro Guardate Era entrata una cosa Dalla finestra C'è una vespa Ma era entrato Jeff the Killer Cos'è è successo questa volta? Non lo so Signora russa Cosa ci fanno queste vespe? E vabbè Le lapi stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che era entrato qualcuno No C'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è? Sì Però l'acqua come l'ho toccata È esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma cos'è questa risata orribile? Bravo Mangiatene così Sei tranquillo Che devo fare? Eh vabbè Ma chi è che è entrato dentro il frigo Ha fatto sto schifo però Non è che se il frigo era ridotto così Non potete Ecco Ora possiamo dormire Con queste bambole brutte Come la fame Guarda là Sono delle bambole maledette queste Dormi dentro il ca... Eh dormi qua Dentro il... Qua Dentro il cappello Coniglio Che devo fare ai libri? Eh qui Dentro il cappello Te l'ho detto Sono più intelligenti di te Dormi dentro il cappello Vai coniglio Ciao Vai ti spengo la luce Perché se no Non ti lascia dormire Cioè dobbiamo aiutare A sopravvivere A Jeff the Killer Dobbiamo aiutare a sopravviverli Adesso faccio l'ultimo livello Poi ragazzi Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Questi sono degli scoiattolini Che dobbiamo fare? Guardate che faccia orribile Nella finestra Ma perché compaiono queste facce? Sarà forse l'orario A cui sto giocando Che fa comparire sta roba? Perché sto giocando A luna di notte Oh Puliamo le fa... Questa qua con orso No dammi quella con orso Che sono curioso di vedere Cosa è successo Guardate qua orso è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli giustamente È buio Io sento dei versi orribili sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'era È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando sentite? Pensi che sopravviverai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggerà i tuoi amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai i tuoi iscritti Piano piano Conquisterai il mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando un po' troppo stavolta Non puoi fermare Sono una bambina molto molto cattiva Che ci ha odiato una foto di casa tua Non è vero perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Perché sarai diventato io Masha.exe E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Hello Sono tornato dal McDonald's King Burger Mega Galattico Perché ho preso Gli Happy Meal di Masha e Orso Questo è l'Happy Meal di Orso Non lo voglio Non voglio sapere cosa c'è dentro E qua c'è l'Happy Meal di Masha Che è molto carina Io direi iniziamo subito Ad aprire l'Happy Meal di Masha Perché forse è meglio Abbiamo anche la Coca Cola Che possiamo Con la camuccia corta corta Che la possiamo bere dopo Ovviamente magari dentro il nostro bicchiere Quello horror Quello qua Con i teschi Questo è Gianfranco Luigi Mattia E Antonella Perché non hanno messo mi piace Quindi mettilo Perché se no farei questa fine Andiamo ad aprire l'Happy Meal di Masha Ragazzi ma Guardate Si sono mossi gli occhi Si sono mossi gli occhi di Masha Sei viva Ora non più sicuramente Andiamo ad aprirlo E vediamo cosa c'è dentro Ma è normalissimo ragazzi Prima volta che ordino un Happy Meal Maledetto Ed è normale Abbiamo Guardate Abbiamo queste Che sono le nuggets di pollo E poi abbiamo Le mega patatine chips Ragazzi a questo punto Direi Lasciamo l'Happy Meal qua E andiamo subito a provare La mega Coca Cola Che sicuramente sarà gustose E sicuramente voi non vedete l'ora di vederla Ragazzi ma Mi è sembrato di sentire qualcosa Guarda dietro Sembra che si vede un'ombra Ma dove c'è la porta Sembra che si vede un'ombra Forse è un effetto visivo mio Andiamo a vedere la Coca Cola Facciamo finta che Mascio Non l'abbiamo vista Se l'hai vista Scrivilo nei commenti Facciamo finta di niente Ok proviamo Ragazzi È tutto buono per una volta Ma che Oh mio Dio Ragazzi che botta Sto bene? Raga Oh mio Dio Oh mio Dio Guarda È cambiato È un altro Happy Meal Scusa se t'ho sputato Ma sono spaventato È un altro Happy Meal Ma state scherzando? Ma non è credibile sta cosa Guarda Hai occhi diversi adesso Oh mio Dio Sembra di sentirla ridere quasi Vero? Ok apriamo Ecco l'Happy Meal Guardate Ora lo apriamo Questa era la giusta punizione Per non aver usato Il nostro bicchiere fantomatico Della gente che non metti mi piace Andiamo ad aprire l'Happy Meal E vediamo cosa c'è dentro stavolta Raga C'è quello che mi manca Un cervello Forse è il cervello di orso Può essere un cervello di orso Grande così? Tra l'altro Non è fresco È duro L'ha fatto fuori Prima di venire qua Guarda È bruttissimo Sembra Impacchettato da qualcuno Di orribile No io non ce la faccio ragazzi Raga non ce la faccio A me fanno paura A me fanno paura I ragni Guarda Sono finti per fortuna Però mi fanno paura Fate cacare Brutti esseri Brutti esseri orribili E ci sono le sue Ragni a tele con i figli Guarda C'è il mondo Ma perché hanno fatto tutto questo? Non dirmi che Ma questi mi sa che sono di Mascia Hanno litigato Mascia e Orso Mi sa Non sono stato io polizia Se stai guardando sto video Me l'hanno mandato Guarda Deve essere stato Deve essere stato Orso Magari Mascia L'ha fatto andare di fuori E lui ha detto Basta Infatti in questa foto Non è che sia tanto carino Da vedere Poi abbiamo Un altro dito di Mascia Poi abbiamo Delle pozioni horror Questo piano Proprio butterò via Guarda Sono pozioni horror Io non ne provo neanche una Ma se raggiungiamo il mille Mi piace le provo E questo chi sembra? Sembra lo zio Fester Ma non hai capelli? Devono essere delle pozioni maledette queste Guardate come si muovono tutte Questo ragazzi Sappiamo che cos'è Non lo posso dire Perché YouTube è cattivo Ma sappiamo cos'è Poi c'è Aia Questo è vero però Avete visto i denti rossi Guarda cosa mi ha fatto Che schifo Speriamo che non sia venenoso Secondo voi che tipo di ragno è? Secondo me è il ragno tombino Sono quei ragni che arrivano da dentro i tombini E ti fanno bubzette te Fanno schifo sti ragni Adesso mettiamo tutta la roba che non ci serve dentro Tanto questo l'abbiamo visto Passiamo al prossimo Happy Meal Che è quello di orzo Raga Ma si sente ridere Oh mio dio ragazzi Sembra che c'è il terremoto Guardate Oh mio No raga Non è normale Guarda C'è Mascia C'è Mascia L'ho ripresa ragazzi L'ho ripresa Ce l'abbiamo fatta Riprendere Mascia.ex Però è vero Mi sono scassato Per la Coca Cola Di quell'Happy Meal Ecco perché si è arrabbiata così E dobbiamo berla qua Perché io ve l'avevo promesso Che l'avrei bevuta qua Quindi Guardate Non ha un bel aspetto Guardate ragazzi Questa potrebbe essere una pozione È brutta È orribile Io la vado a bere Siete pronti? 3 2 1 Siete pronti Appena di plastica Guardate ragazzi Guarda Il naso Un'altra volta Ha fatto di nuovo questa cosa Guarda Col naso che va a giro È bruttissimo Sto effetto Ragazzi Guarda Oh mio dio Sembro Dumbo Guardate Se non ti scrivi Non lasci mi faccio In tre secondi Vengo in casa tua Stanotte Con un'arma da fuoco Nuove pill Questa volta invece Abbiamo Orso E infatti ragazzi Dentro ho trovato Questo Fuori ho trovato Questo E guardate Sono gli action figure Di FNAF Perché l'ho trovato Proprio nell'Happy Meal Di Orso Secondo voi Perché c'è anche lui C'è anche lui E io giustamente Ho trovato il mio preferito Che è Foxy Ma quello è un castoro È un castoro Vabbè È il chip Ragazzi Fatemi sapere Qual è il vostro Animatronics preferito Nei commenti Il mio è Foxy Ma non fatevi influenzare Perché ad altri Potrebbe far brutto È questo ragazzi Ce l'ho davvero È il mio pappagallo Chris Oh mio Dio Mi è sembrato di sentire Qualcuno che si muoveva Tu stai qua Anzi guarda Guardatelo attentamente Perché a me ogni tanto Sembra che si muove Non lo so se vedete Se gli si muovono gli occhi O qualcosa A me ogni tanto Sembra che si muove lui Boh Lo terremo qua Lo terremo qua In bella vista E andiamo avanti Con gli Happy Meal Ma prima Se vuoi sopravvivere A tutti i mostri E non essere mangiato Da mashup.ex Stanotte Compra il nuovo libro Di Game Time Che trovi in libreria In link in descrizione Ci sono tutti i segreti Su come faccio A sopravvivere ai mostri E come sopravvivere Alle tue paure Mi raccomando Link in descrizione In libreria Richiedi La scuola dei mostri Apriamo l'Happy Meal Non vi ho ancora fatto vedere niente Abbiamo Guardate Sono le chicken nuggets Di prima Sono ketchupate Di umani E poi abbiamo anche Cioè Sono mangiate No però Io pago E io pago E io pago E io pago Cioè Ragazzi queste Allora non so voi A me non sembra pollo Però Non so da dove arrivi Sta roba Ma non mi sembra pollo E questo non mi sembra ketchup O è un pollo di tre giorni Ma guardate il dentro È strano Sembra più gatto Ragazzi Cioè Non l'ho mai mangiato Non mi sono mai informato Però Ragazzi questo mi sa che è un occhio Lo mangio Ma voi dovete lasciare Mi piace Perché se no mi sento male 3 2 1 Che schifo E poi mi fanno anche Le pubblicità Del McDonald Dalle tre di notte Dove c'è uno che fa Questo è il my selection Vieni a provarlo E poi ci trovi Sto schifo dentro Scusatemi Io vado avanti Patatine Di 4 giorni fa Non so se neanche Se sono patatine Se sono pezzi di legno Travestiti da patatine Anche qua ketchup Si vedono anche i nervetti Ragazzi Oltre quelli che mi stanno salendo A me a mangiare Questo schifo Aia Raga fa malissimo sta roba Fa malissimo sta roba Raga mi sento qualcosa Che mi scorre Oh cavolo Non mi dire di nuovo E che l'ha rifatto Però deve essermi tolto tutto Non mi dire che l'aveva rifatto Di nuovo Anche l'altra volta Ha fatto uguale Masha Secondo voi Ce l'ha preparata Masha Sta roba Ragazzi Mi ero scordato una cosa Da parte C'era veramente anche lui Sono stupido Me l'ero scordato E c'è veramente freddi ragazzi Di FNAF Perché è l'Happy Meal Degli orsi Il prossimo Happy Meal Potrebbe essere quello di FNAF Vado ad aprire L'ultima cosa Del nostro Happy Meal Che è questo A molti di voi Potrà sembrare un occhio vero Ma Sappiamo benissimo Che non è così Sappiamo bene Che questi sono I famosi trolli Infatti Quest'occhio non è vivo Non si muove Ma che E invece si è mosso O è una mia impressione O si è mosso Forse Ma hanno stordito Un pochino Le caramelle Dentro l'Happy Meal Ragazzi Guardate Si muove Però non si apre Questa roba E allora Io la lascerei qua Direi andare a provare La Coca Cola Di quest'altro Happy Meal Non credo che ci faccia Un bel effetto Ma io la provo uguale Tanto oramai Siamo in ballo Per giocare No Direi ragazzi Direi ragazzi Che per oggi Gli Happy Meal Di Mascia e Orso Sono fini Mi sta suonando il telefono È Mascia Rispondo Ciao Mascia Ciao Ho mangiato Il mio È vero? Sei Mascia che l'ho mangiato Ed era molto disgustoso Ma tu adesso cosa vuoi da me? Non sai cosa voglio Ciò che tu qualche volta non mi hai dato Io voglio la tua anima E come pensi di prendertela Se io non te la do? La metterai molto presto Un po' a guardarti in alto Nettanto Cosa intendi Mascia? Attaccato ragazzi È veramente incredibile sta qua eh Ragazzi ma Mascia cosa intendi Ma Oh mio Dio Se ne è corsa via Non avete visto che è piombata dal tetto? No raga dove cavolo se ne sarà andata? Oh mio Dio Dove caspita se ne è andata Mascia.ex? Secondo me è andata di qua Andiamo ragazzi Si è pure presa il mio pappagallo Voi non l'avete mai visto E non siete neanche riusciti a vederlo Sto oltre che se l'è preso Secondo me è nelle vicinanze pronti eh 3 2 1 Eccola No Non è qua Allora significa che Secondo me se ne è andata in camera ragazzi Andiamo? Sentite come ride Se la sta ridendo questa sotto i baffi Dov'è? Guardati in basso Cosa intendi per guardarmi Oh no Era lì sotto Non è qua 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 Lo show continuerà A coro senza di te Maggiori tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi Passerai i tuoi iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non è qua Non è qua Non è qua Non è qua Guarda cosa mi ha fatto Video chiamo Mascia.ex Ti prego rispondi Mascia Non vedo l'ora di parlarti Non risponde ragazzi Ho aspettato 30 secondi buoni Ancora non ha risposto Dai Mascia rispondimi Ti prego Voglio parlare con te Voglio scoprire i tuoi segreti Ma mi è sembrato di sentire un sussurro Sembrava che sussurrava I see you Ma se non ha risposto Come faccio a sentirlo Mi ha attaccato Sta scrivendo però L'abbiamo disturbata bene questa volta La devo videochiamare assolutamente Voglio scoprire i suoi segreti Pensavi che ti avrei risposto Mi dispiace per te Ma non rispondo quando vuoi tu Peperina E allora cosa posso fare Per farmi rispondere Mascia Ho qualcosa da proporti Di interessante Dovrei videochiamare anche Orso Potrei provare a videochiamare lui Effettivamente adesso Magari se prendiamo lui come ostaggio Lei ci risponde Mi ricordo bene chi sei E non ho intenzione di assecondarti Ma magari Orso sì Perché non provi a videochiamare lui Eccoci Video chiamiamo Orso Che faccia orribile che ha ragazzi Questo è Orso nella vita reale Ragazzi mi ha risposto Ma questi sono episodi Dimash e Orso messi strani Ragazzi ha risposto Guardate gli episodi Dimash e Orso Ci sono delle parole Che accompagnano su schermo Orso Povero Orso Era un orso felice Prima del mio arrivo Che cosa significa E continua a gliciare Tutto strano Poi è diventato Un bambino cattivo Orso non è cattivo Sei tu che gli fai Due marroni così in Mascia Sei lei che sta parlando Secondo voi chi sta parlando Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Molto cattivo Dovevo fare qualcosa Guardare la tv O Mascia no? È questo che succede Ai bambini cattivi Che intendi Mascia oh mio dio Ragazzi guardate Oh mio dio Gli urli che si sentono Che fine avrà fatto Orso? Dovevo fare qualcosa Orso stai bene Basta Si è accesa la luce dietro L'avete visto? Mi sono spaventato di brutto Si è accesa la sola Si accende e si spenge Guarda Guarda dietro Si accende e si spenge La vedete? Io sono fermo Si accende e si spenge Ha smesso? Adesso rimane acceso Mi sono spaventatissimo La chiamata è terminata Sta scrivendo Orso Ma non l'ha fatto fuori ragazzi Non è strana questa cosa Che ha scritto Orso E infatti è lei Non ha fatto una bella fine Se vieni ti spiego perché Mascia sei molto cattiva oggi Perché ha fatto questo secondo voi? Questa è una foto di Mascia? Questa è una foto di Mascia ragazzi Se questa è Mascia.ex Valigine e ce ne andiamo in spiaggia ragazzi Lasciamo... No a parte c'è la neve in spiaggia adesso Lasciamo tutto ai professionisti Io non mi intrometto Mi dispiace Perché hai fatto tutto questo Mascia? Dobbiamo capirlo ragazzi Perché se no non capiremo mai Perché lei fa questo Hai visto che fine fanno i bambini cattivi? È la stessa fine che farei tu Mascia Perché tu sei una bambina cattiva Secondo voi Mascia è buona cattiva? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi raccomando Dobbiamo indagare su questa cosa Tutti insieme Perché più siamo e meglio è Credo di sapere come possiamo risolvere le nostre divergenze Ti sfido a fare due cose Se le farai bene Ti videochiamerò Ci stai? Cioè te non ti conosco neanche Mi vuoi sfidare? No No che non mi faccio sfidare da Mascia Che magari mi sfida a fare cose orribile Non dovete accettare mai le sfide di chi vi scrive Se Mascia.ex vi scrive Non gli rispondete Io lo sto facendo per farvi vedere che cosa fa Ma non gli rispondete voi Credi che io non sia abbastanza potente? Non l'ho mai detto È proprio per quello che non accetto Perché ho paura della sua potenza Ti ho ferito senza nemmeno toccarti Non è vero ragazzi Io non sento niente Non mi hai ferito Mascia Non mi sembra che mi abbia fatto qualcosa Siamo seri? Scusate il taglio Sono dovuto andare a lavarmi la faccia Mi sono spaventato ragazzi Mi sono spaventato Chissà la quante che ce l'avevo questa cosa Bene perfetto La prima sfida che ti do è di mangiare quel cioccolatino Che trovi in salotto sul tavolo vicino ad una boccetta Prendi pure quella Che dopo ti servirà Scritto malissimo Vabbè una bambina ragazzi Andiamo Sono andato in salotto E ho trovato il cioccolatino Con questo Guardate Che orribile Un bicchiere con dei teschi Cosa significa ragazzi? Questo significa Iscritti lascia mi piace Oppure verrò a mangiarti stanotte Mascia ho fatto tutto quello che mi avevi chiesto E ora? Voglio sapere da dove partire Perché è un'indagine da fare Brava Adesso mangia Sono diventata game time Ma non game time adesso Sono diventato femmina Scusa Quanto sei fiscale Con i diavoletti Il cioccolatino in questione è questo Io lo vado ad assaggiare Guardate Allora vado Mi raccomando il mi piace per questa cosa Ha una cosa strana dentro Guardate Sopra in alto Ha una cosa strana Sa di spugna Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Ma ho riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è Era diventato rosso il fazzo Il tovaiolo Ma è normale Mascia sei normale A fare una cosa del genere? Ovviamente no Perché è una bimba cattiva ragazzi Noi lo sappiamo benissimo Bene Sono contenta per quello che ti è successo alla lingua Parli troppo Adesso bevi la fiala No che non la bevo Dammi un motivo per farlo Il motivo potrebbe anche essere che viene a farmi fuori Guardate ragazzi cosa c'è dentro la fiala È orribile Guarda Questo ragazzi diventerà il nostro bicchiere per le pozioni eh A me non me ne frega niente Se volete le pozioni scrivetemelo nei commenti anche di chi le volete Ma questo qua diventa il mio bicchiere per le pozioni Non me ne sbatte niente Vado eh Sapeva di plastica ragazzi Non bevete mai la plastica mi raccomando Perché se no vi fa male Oh mio dio Oh mio dio guardate Oh mio dio guarda il naso Ma smetterà prima o poi vero Dovrebbe smettere Ragazzi credo che questa roba qua faccia degli effetti troppo strani Ha smesso mi sa Ma mi sembra di vedere qualcuno dietro Non c'è nessuno ma a me sembra di vedere qualcuno Se l'avete visto voi scrivetemelo Mi raccomando Mi sembra di aver visto qualcuno È stato troppo spettacolare Adesso riceverai il tuo premio Quale sarebbe La videochiamata forse finalmente Ma che Che vabbè però Dai Mercoledì Sì vabbè Mi confondo pure Siete tutti uguali Brutti come la fame e cattivi Spaventato dovresti E tu dovresti fare un riposino Non è l'ora del riposino Le tre di notte Che poi tra l'altro qua fuori C'è gente che tiene la luce A palla delle macchine Sembra giorno Ragazzi ci sta videochiamando Oh mio dio Sono pronto Sono pronto Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite Pensi che sopravviverai sempre No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarei tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi Quale gioco Ma di che parla questa Lo show continuerà Con o senza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai i tuoi scritti Piano piano Conquisterai il mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Guardare Masha forse stai esagerando un po' troppo Stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina Molto molto Cattiva E sono Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Sei soddisfatto Della videochiamata Non è finita Io sono qui Per un motivo ben preciso Rompere le scatole Masha Ci sei riuscita Perfettamente Che crudeltà Che ha questa Ragazzi Sono qui per la tua anima Sono molto ansiosa Di prenderla Ma sono Ma sono solo una ragazzina Non posso sporcarmi io le mani Cosa intendi? Ci sta mandando un sicario? Lo farà Orso per me Senti dei rumori in casa? Avete sentito? No raga Mi sto Mi sto spaventando eh Direi di sì Masha Che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi Lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di orsi Oh mio dio È passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me E voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso? Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto di Aggywaggy Ti consiglio di correre a prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Sì mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguidare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarò diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la povera faccia Andiamo Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha In casa mia? Masha e orso Ripresi nella vita reale E questo è un video Che viene da una videocamera Di sorveglianza Di un negozio Sono videocamere Che riprendono a frame E come vedete C'è qualcuno di molto simile A Masha Che si appresta ad entrare Nel negozio Altri video in questo periodo Sono stati diffusi In rete Ma sono tutti video Fatti da telecamere Che vanno a fotogrammi Come questo per esempio Che sta riprendendo La porta di casa sua E si vede una persona Che assomiglia tantissimo A Masha Che si avvicina Alla porta di casa sua Bussa E se ne va via Alle 3 di notte Io però ho scoperto Tramite il dark web Un modo per evocare Masha e orso Nella vita reale Una candela Rigorosamente Per far partire queste cose Un vasetto di miele per orsi E anche un foglio Per le risposte Perché se non riesce A comunicare con la voce Lo farà con Le cose paranormali Ed io oggi Voglio che seguiate il video Fino alla fine Perché voglio smascherare Masha Perché secondo me Non è la vera Masha Quella che si aggira Nella vita reale Secondo voi chi è? Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Mi sta arrivando Una videochiamata Pronto Masha? Da quanto tempo Che non ti sento Hai delle novità per me? Sì Masha Che ho delle novità per te Ho preso la tua pozione Dal dark web E ti voglio Evocare nella vita reale Tu sei disposta A venire fin qua? Stavolta poi sul cerio Vedo Allora farò anche io Sul cerio Sai Fino ad oggi Non mi sono mai mostrata Per quella che sono Davvero Cosa intendi Masha Che non ti sei mai mostrata Per quella che sei? Non mi dire che C'hai nascosto altro Lo so Sono spaventosa Ma non guardarmi Lo hai fatto lo stesso E adesso Mi hai costretto A venire a mangiarti Io non sono un cibo Masha Attaccato Ma questa minaccia Se ne va Lasciamo perdere Le minacce di Masha Adesso l'importante È verificare Che non sia già Dentro casa nostra Perché potrebbe Già essere entrata Vediamo se effettivamente Masha è entrata In casa nostra E se effettivamente Ha fatto quello che ha detto Ok ci siamo Ragazzi sul tavolo Ci sono delle cose Che io non avevo visto prima Sul tavolo come potete vedere Abbiamo la pozione di Masha Che è blu E non mi chiedete Il perché Non lo so È un mistero anche per me Nella vita Non si può sapere tutto Ma si possono imparare Più cose possibili Oltre questo Abbiamo il miele Che per orso Il miele È come l'orsacchiotto Di Granny Guardate Sentite I battiti di orso Lo devo lasciare Perché se no arriva orso I battiti di orso Ci sono Poi abbiamo la candela Che a quanto pare Qualcuno ce l'ha già portata Qui Ho portato il foglio Per le domande E abbiamo anche i panini Con ketchup umano Voi sapete che cosa intendo Queste sono tutte cose Che sicuramente arrivano Dal dark web Ma una tra tutte Mi interessa di più Ed è la pozione di Masha Perché tramite questa Si attiverà tutto Quindi io direi Beviamola E vediamo Cosa succede Vado eh La fede la mia testa da teschio Se non lasciami in pace Non ti scrivi Nel prossimo 3 secondi Masha.exe Ti mangerà stanotte Era un filtro quello Stavo scherzando Per il momento Non ha avuto effetti particolari Raga La mano Guarda la mano È rossa Sei andata Oh mio Raga Mi sa che Il veleno può essere blu Secondo voi Non è che mi ha avvelenato Questa Sto un po' meglio Ragazzi Ragazzi Questa è l'allarme di casa Questa è l'allarme di casa Raga Si è accesa la tv C'è l'allarme di casa È partito Che c'è scritto Allerta Intruso rilevato dal sistema Di sicurezza della casa Le autorità sono state avvertite Arriveranno tra 30 minuti Nel frattempo Nascondetevi E funziona anche se Non c'è l'audio Funziona ancora Questo significa che c'è qualcuno In casa Ma io non ho visto nessuno Voi avete visto qualcuno? O mio Dietro forse? Secondo me Lei è da qualche parte Io non l'ho vista Se voi l'avete vista Scrivetemelo nei commenti Ragazzi Ma voi veramente Vi pensate che mi mangio Questa roba? Ma non è che credete Di chiedere un po' troppo? Cioè io questa roba Non la tocco Ma neanche se mi paga Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha In casa mia? Secondo me è venuta L'hai letto il mio libro? Ragazzi Non risponde Mi sa che non lo apprezza Lo sapevo che Gli aveva fatti lei Mmm Sono proprio buoni Se quando Se quando le ho finiti Non mi risponde Ragazzi Di rifarci ingoiare Lei L'ho finito Masha sei buona o cattiva? Ragazzi ma si è mangiato Il foglio Ma si è mangiato Il foglio Ragazzi non pensavo Che funzionasse davvero Solo nei guai Cosa facciamo? La televisione Ragazzi Guarda sulla tv C'è la statica Si è attivata Con la statica Non funziona Oh Ragazzi non funziona Ma Masha dove è andata? Ma fino al secondo fa Era lì Ma questa statica Non si toglie Ragazzi ma è partita Masha È partito il cartone di Masha Lei non è più lì Ma è qui Avete visto gli occhi di Masha Come erano diventati? Tornate nei suoi cloni video Per vederli Se non l'avete visti Ma che cavolo sta succedendo Stasera? Si è spenta Sto chiamando E mi è partita da sola ragazzi Ciao Frostinox Perché mi hai videochiamato? Siamo su Discord Ragazzi non mi sente? Però mi senti? Ma che ho dei problemi io ragazzi E non so il perché Mi è partita sta videochiamata davvero La sua videocamera ha greciato Ma non mi sente? Ragazzi scrivetegli qualcosa anche voi Non mi sente Ma che è successo? Che è successo? Ragazzi continua a non sentirmi Sta parlando da solo Ma non è che Mi è sembrato di vedere qualcosa dietro eh Mi è sembrato di vedere qualcosa Non sono sicuro Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Io spero Spero che non arrivi anche qua E la chiamata si è interrotta Secondo me cosa gli ha fatto? Io non credo che abbia fatto una bella fine Oddio Hai visto? Torna dietro con i video se non li hai visti C'erano due occhi qua che si illuminavano Io li ho visti dalla telecamera Li ho visti qui Che sia lei che è diventata indemoniata adesso Mi sta videochiamando di nuovo no? Devo rispondere però Anche se ho paura devo rispondere Ok rispondiamo Hai lasciato che i tuoi amici venissero mangiati Ma non ti senti nemmeno un po' in colpa? Sei stato lì senza fare niente Ma se non potevo fare niente Eravamo in videochiamata Masha Mi hai tenuto con le mani legate Gli hai fatto tutto in videochiamate In modo che io non potessi fare niente Quindi cosa vuoi da me adesso? Adesso però è il tuo turno Non sono qua perché me lo hai chiesto tu Sono qua perché io voglio mangiarti Voglio sacciarmi E tanto che non faccio un pasto Tu provaci ma io ti smaschererò prima Perché devo scoprire chi sei in realtà Lo farò e ti smaschererò davanti a tutti quanti Adesso vedremo cosa sai fare contro di me Che intendi? Raga Ha attaccato Dobbiamo andarla a cercare ragazzi a questo punto Non ci ha lasciato altra scelta Ricordati che il libro tu lo trovi in libreria Nel link in descrizione alla scuola dei mostri Ti protegge da tutti i mostri Ragazzi secondo me non è tanto lontana Masha Raga Raga era dietro era dietro Io me ne vado qua Spero che non ci abbia visti Dobbiamo scoprire che cosa ha in mente Ragazzi Masha è uscita Dobbiamo assolutamente scoprire chi è Io la devo inseguire Chissà dove si è cacciata Masha ora Ragazzi è dietro l'avete visto? Guardate se ne va se ne va Devo seguirla in qualche modo La dobbiamo trovare Ragazzi non c'è più Ragazzi guardate per terra Ci sono le impronte di Masha e Orso Le vedete sono qui Io le devo seguire assolutamente Se ne seguiamo arriveremo sicuramente Nel nascondiglio segreto di Masha Guardate sicuramente dietro questo c'è spuglio Ragazzi ma quella è Masha Ricordi quel giacchetto Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la tua vera faccia Vediamo Adesso ti smaschero Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guarda hai fame Toh Orribile È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe dalla foto però Ci fanno queste vespe E vabbè Delle api stavano raccogliando il miele E questi si spaventano Oh mio Dio si è aperta la finestra Lo sapevo che era entrato qualcuno No c'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Ma cosa c'è? Sì Però l'acqua come l'ho toccata È esplosa quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma qua orse è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli giustamente È buio Io sento dei versi orribili di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Non mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è Era diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma raga mi sto Mi sto spaventando eh Direi di sì Masha Che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di orsi Oh mio dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso Ovvero sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato Orso Con il nuovo libro di Game Time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Agiwagi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Sì mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguidare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Guardate Orso Che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile Nella finestra Guarda Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male Per davvero Per favore Dici la tua età E per attivare L'easter egg Dobbiamo mettere L'età 666 Che non compare Il terzo 6 giustamente Ma per noi È come se fosse comparso Andiamo Eccoci Grazie al cavolo Che orso si sta trascurando Con una roba come Masha Che cosa possiamo usare Per far fuori Masha Ci avranno fornito qualche oggetto Ma quanto è brutta Masha Uh il cibo Vediamo Vediamo Forse riesco a farla avvelenare Allora questa carne Non mi sembra che abbia Un bel aspetto Buono Masha Mmm Ma è andata male A me non sembra Che ti faccia tanto bene Sto cibo Ma com'è già contenta Ma è davvero buono Adesso è ora di giocare No Masha No Anzi si Adesso è ora di giocare Dobbiamo cercare la bicicletta ragazzi Eccola Ragazzi anche a voi Masha Ricorda solo l'enigmista Così Scrivetemelo nei commenti Che sono curioso Ma Dove è andata Masha Dobbiamo Dobbiamo correre più veloci Del panda Vai Masha Vai ti schianti Se la faccio schiantare Può fare una brutta fine No niente Non si è schiantata Speravo si schiantasse Invece è contenta Con una faccia un po' creepy Uh Che è questa ragazzi Io non lo so chi è Forse ce la darà lei L'oggetto per far fuori Masha Una chiave Vediamo E ci sono altri due pacchetti regalo Con altre due chiavi Una è una pistola ragazzi Quindi forse effettivamente Ce l'abbiamo Degli oggetti Per farla fuori E cosa me ne faccio Di questa roba Si è sbloccata la chitarra E adesso si sblocca Anche la pistola Un'aspirapolvere Possiamo sbloccare la prossima volta E una pistola Non ad acqua Quanti oggetti Che stanno comparendo Nella casa di Masha Ragazzi questo è Masha.ex Masha.ex Deve andare in bagno Ragazzi Sembra il bagno di Shrek Masha invece deve andare A dormire Vediamo se compare Masha.ex Qua Lascia mi piace scritto Entro passi in tre secondi Oppure Masha.ex Ti mangerà stanotte Guardate orso Che faccia orribile Che ha Ce l'ha tolto Per metterci tutte le animazioni Ma penso che voi Lo abbiate visto Hai fame di Masha orso Andiamo a mangiarci Masha Oh C'era qualcuno Nettro l'armadio L'ho visto eh Si era mosso l'armadio Prima ragazzi Avete visto Masha ha dormito Vieni orso Andiamoci a mangiare Masha Guardate orso Si avvicina molto creepy E c'è la testa di Masha qua Tieni orso Gnam Che verso orribile Che ha fatto Ragazzi è stato spaventoso Secondo me alla fine Sarà orso Che farà fuori Masha Dov'è Masha Ciao Masha 1 e Masha 2 Sono insieme Non credo che sia Una bella situazione questa Credo che tu abbia bisogno Di dormire orso Vai Buonanotte Ma non ha bisogno Di dormire A quanto pare Ma chi è questo ragazzi Masha deve far fuori Una tigre Speriamo che però Sia la tigre A far fuori Masha Qui Si la bomba Vabbè ho capito Mi fai giocare E devi scassare le scatole ancora Abbiamo preso gli orsi cattivi Che si introducono in casa nostra No quella è una bomba Guarda pure un leone C'è Abbiamo un sacco di nemici Però Questo è l'importante Quindi Masha Se non la facciamo fuori noi Sicuramente qualcuno ci sarà Che la fa fuori No ha preso la bomba Guardate lo schermo Inizia a essere tutto rotto Mi sa che Masha Sta soffrendo qua Per via della bomba Però abbiamo vinto Non credo che faccia Ricaricare lo sfondo Ragazzi Avete visto cosa c'era Nella foto Masha non sta bene Guardate che c'è Tutto cibo avariato Adesso glielo do Speriamo che si senta male Stavolta eh Guardala Hai fame To Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male Per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto Che fine brutta ha fatto Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe Dalla foto però eh Oh mio dio Guardate nella televisione Si vede qualcosa Non so chi sia Quello della televisione Però si vede qualcosa Se n'è andato Volevo vedere dagli occhi di orso Se qualcuno ci sta spiando Oppure dagli occhi di questa Masha strana Guardate Però mi sembra Guarda negli occhi Si è vista una faccia Mi sa eh Guardate bene che in questa foto Si vede la faccia Anche il gioco me lo dice Sto facendo un ottimo lavoro Sto scoprendo delle cose Che non dovrei scoprire Mmm Sta pubblicità Però guardate Sembra tipo Masha Prima di diventare .exe Dopo .exe Cioè tipo l'evoluzione Alla fine ste pubblicità Non è vero che non servono a niente A te ti devo Vieni che ti curo Cosa facciamo Una bella puntura Totti da TV Questo e buonanotte Perfetto Stai bene adesso Benissimo Ma non hai fatto niente Come fa a essere completamente Pulisci Vabbè ti metto a letto Ogni volta che passo con orso Si vede qualcuno Che ti arriva Da dentro l'armadio Allora Nel gioco sembra Masha normale Ma nella foto Che la rappresenta C'è Masha.exe Secondo me Questo significa qualcosa Guardate qua dietro Sembra di vedere degli occhi In lontananza Però eh Sta arrivando Masha Quella cattiva Stregonda Te c'entri qualcosa Vero Se riusciamo a prendere tutti gli ingredienti Che ci servono Possiamo fare una roba Per curare Masha Come abbiamo fatto per Tolkien Juan Una bella pozione di cura Uh lui aveva un cuore L'abbiamo preso Quindi il cuore ce l'abbiamo Ho vinto Guardate Masha.exe con orso Che aspetta i regali Orso sembra un po' Cattivo Non sembra contento Di questa cosa Vediamo I pattini abbiamo ricevuto Vedete che si muove Forse ci tengono qualcuno Si sentono anche delle canzoncine strane Di sottofondo Prendiamo Masha streghetta E portiamola al cibo E vediamo di fargli fare Una bella pozione Vieni Perfetto Allora Usa il cuoricino E tira fuori Sta cavolo di boccetta Grazie Masha Per fare la pozione Totti Da da mangiare Ma tu falla però È svenuta pure lei Ma vi sembra normale Che questi quando mangiano Svengono Ce l'abbiamo fatta Guardate Le pozioni si stanno creando Si è creata la pozione E l'hai svenuta Dalla paura della pozione Perché è molto strana Masha Bevi Ti sta cavolo di pozione E non scassare più Eccola la pozione Vai Masha Bevi Guardate i suoi occhi Stanno cambiando Sta tornando normale Sai qual è il libro Che tiene lontano Masha.exe Il nuovo libro di GameTime Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti protegge da tutti i mostri E ti insegna a superare Le tue paure E ci sono anche Delle avventure epiche È tornata normale Per fortuna Anche se ha fatto Una luce verde Strana che sembra Che puzza Ha distrutto ragazzi Il frigorifero Avete visto cosa Aveva combinato Ad orso Masha Adesso sono tornati Tutti normali Eccoci Che è questo gioco Dove ci fa vedere La notte di Masha e orso Lo continuiamo Nei prossimi video Se vi interessa Però intanto Vi faccio vedere Il primo pezzo A Masha piace tanto Disegnare Prima di andare a morire Che sta parlando Come una madre russia Ho creato Un'ambulanza Sicuramente sarà per me Dopo la fine di questo video E c'è un lupo Che sicuramente sarò io Dopo la fine di questo video E ce n'è un'altra ancora Stanno mangiando Quella è Masha ragazzi È solo l'interiore di Masha Se le stanno a mangiare Ma state scherzando È un gioco per bimbi Guardate che bello Cosa dovremmo disegnare Guardate che bel disegno Abbiamo completato La casa di Masha Ma cosa salti Non lo vedi che Sotto il tuo letto C'è un mostro Cosa ridi A parte che anche Sopra il tuo letto C'è un mostro Visto la faccia Che ti hanno fatto Ragazzi è bruttissimo Guardate che brutto C'è il temporale Oh mio dio C'era Jeff the Killer Fuori Masha è scomparsa Oh io non ho visto Dove è andata Forse voi lo sapete È andata da Orso E allora va a svegliare Orso Orso non usa le candele Già il paura è di mio Poi usi le candele Per andare a trovare Jeff the Killer Ma usa qualcos'altro Guardate Era entrata una cosa Dalla finestra C'è una vespa Ma era entrato Jeff the Killer Cos'è successo questa volta? Non lo so Signora russa Cosa ci fanno queste vespe? E vabbè Le api stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che è entrato qualcuno No c'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Ma cosa c'è? Sì Però l'acqua come l'ho toccata È esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare Hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha Vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva Hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno Di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire Anche gli altri personaggi Ma cos'è questa risata Orribile? Bravo Mangiatene così Sei tranquillo Che devo fare? Eh vabbè Ma chi è che è entrato Dentro il frigo Ha fatto sto schifo Però Non è che se il frigo Era ridotto Così non potete Ecco Ora possiamo dormire Con queste bambole brutte Come la fame Guarda là Sono delle bambole maledette Queste Dormi dentro Eh dormi qua Dentro il Qua Dentro il cappello Coniglio Che devo fare ai libri? Eh qui Dentro il cappello Te l'ho detto Sono più intelligenti di te Dormi dentro il cappello Vai coniglio Ciao Vai ti spengo la luce Perché se no Non ti lascia dormire Cioè dobbiamo aiutare A sopravvivere A Jeff the Killer Dobbiamo aiutare a sopravviverli Adesso faccio l'ultimo livello Poi ragazzi Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Questi sono degli scoiattolini Che dobbiamo fare? Guardate che faccio Orribile nella finestra Ma perché compaiono Ste facce? Sarà forse l'orario A cui sto giocando Che fa comparire sta roba? Perché sto giocando A luna di notte Oh Puliamo le foto Questa qua Con orso No dammi quella con orso Che sono curioso A vedere cosa è successo Guardate qua Orso è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli Giustamente È buio Io sento dei versi Orribili sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Ma hai riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite? Pensi che sopravviderai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarei tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con l'assenza di te Maggiori tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai tu iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse sta esagerando un po' troppo stavolta Non puoi fermare Sono una bambina molto molto cattiva E sono via della porta di pagatura Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Hello Sono tornato dal McDonald's King Burger Mega galattico Perché ho preso Gli Happy Meal Di Masha e Orso Questo è l'Happy Meal di Orso Non lo voglio Non voglio sapere cosa c'è dentro E qua c'è l'Happy Meal di Masha Che è molto carina Io direi Iniziamo subito Ad aprire l'Happy Meal di Masha Perché forse è meglio Abbiamo anche la Coca Cola Che possiamo Con la cannuccia corta corta Che la possiamo bere dopo Ovviamente magari dentro il nostro bicchiere Quello horror Quello qua Coi teschi Questo è Gianfranco Luigi Mattia E Antonella Perché non hanno messo mi piace Quindi mettilo Perché se no farei questa fine Andiamo ad aprire l'Happy Meal di Masha Ragazzi ma Guardate Si sono mossi gli occhi Si sono mossi gli occhi di Masha Sei viva Ora non più sicuramente Andiamo ad aprirlo E vediamo cosa c'è dentro Ma è normalissimo ragazzi Prima volta che ordino un Happy Meal Maledetto E' normale Abbiamo Guardate Abbiamo queste che sono le nuggets di pollo E poi abbiamo le mega patatine chips Ragazzi a questo punto Direi Lasciamo l'Happy Meal qua E andiamo subito a provare La mega Coca Cola Che sicuramente sarà gustosa E sicuramente voi non vedete l'ora di vederla Ragazzi ma Mi è sembrato di sentire qualcosa Guarda là dietro Sembra che si vede un'ombra Ma dove c'è la porta Sembra che si vede un'ombra Forse è un effetto visivo mio Andiamo a vedere la Coca Cola Allora facciamo finta che Mascio non l'abbiamo vista Se l'hai vista scrivilo nei commenti Facciamo finta di niente Ok proviamo Ragazzi E' tutto buono per una volta Ma che forza Oh mio Dio Ragazzi che botta Sto bene Raga Oh mio Dio Oh mio Dio Guarda E' cambiato E' un altro Happy Meal Scusa se t'ho sputato Ma so' spaventato E' un altro Happy Meal Ma state scherzando Ma non è credibile sta cosa Guarda Hai occhi diversi adesso Oh mio Dio Sembra di sentirla ridere quasi Vero? Ok apriamo Ecco l'Happy Meal Guardate Ora lo apriamo Questa era la giusta punizione Per non aver usato Il nostro bicchiere fantomatico Della gente che non metti mi piace Andiamo ad aprire il Happy Meal E vediamo cosa c'è dentro stavolta Raga C'è quello che mi manca Un cervello Forse il cervello di orso Può essere un cervello di orso Grande così? Tra l'altro Non è fresco E' duro L'ha fatto fuori Prima di venire qua Guarda E' bruttissimo Sembra Impacchettato da qualcuno di orribile No io non ce la faccio ragazzi Raga non ce la faccio A me fanno paura A me fanno paura i ragni Guarda Ci sono finti per fortuna Però mi fanno paura Fate cacare Brutti esseri orribili E ci sono le sue ragni E' di alcuni figli Guarda C'è il mondo Ma perché hanno fatto tutto questo? Non dirmi che Ma questi mi sa che sono di Mascia Hanno litigato Mascia e Orso Mi sa Non sono stato io polizia Se stai guardando sto video Me l'hanno mandato Guarda Deve essere stato Deve essere stato Orso Magari Mascia L'ha fatto andare di fuori Lui ha detto Basta Infatti in questa foto Non è che sia tanto carino Da vedere Poi abbiamo Un altro dito di Mascia Poi abbiamo Delle pozioni horror Questo abbiamo Proprio buttato via Guarda Sono pozioni horror Io non ne provo neanche una Ma se raggiungiamo il mio Mi piace e le provo E questo chi sembra Sembra lo zio Fester Ma non hai capelli Devono essere delle pozioni maledette queste Guardate come si muovono tutte Questo ragazzi Sappiamo che cos'è Non lo posso dire Perché Youtube è cattivo Ma sappiamo cos'è Poi c'è Aia Questo è vero però Avete visto i denti rossi Guarda cosa mi ha fatto Che schifo Speriamo che non sia venenoso Secondo voi che tipo di ragno è? Secondo me è il ragno tombino Sono quei ragni che arrivano da dentro i tombini E ti fanno bucette te Fanno schifo sti ragni Adesso mettiamo tutta la roba Che non ci serve dentro Tanto questo l'abbiamo visto Passiamo al prossimo Happy Meal Che è quello di orzo Raga ma si sente ridere Oh mio dio ragazzi Sembra che c'è il terremoto Guardate Oh mio No raga non è normale Guarda c'è Masha C'è Masha L'ho ripresa ragazzi L'ho ripresa Ce l'abbiamo fatta Riprendere Masha.ex Però è vero Mi sono scassato Di vedere la Coca Cola Di quell'Happy Meal Ecco perché si è arrabbiata così E dobbiamo berla qua Perché io ve l'avevo promesso Che l'avrei bevuta qua Quindi Guardate Non ha un bel aspetto Guardate ragazzi Questa potrebbe essere una pozione È brutta È orribile Io la vado a bere Siete pronti? 3 2 1 Sapeva di plastica Guardate ragazzi Guarda Il naso Un'altra volta Fatto di nuovo questa cosa Guarda Col naso che va a giro È bruttissimo Sto effetto ragazzi Guarda Oh mio dio Sembro Dumbo Guardate Se non ti scrivi Non lasci mi piace Nel prossimo 3 secondi Vengo in casa tua stanotte Con un'arma da fuoco Nuove pill Questa volta invece Abbiamo orzo E infatti ragazzi Dentro ho trovato questo Fuori ho trovato questo E guardate Sono gli action figure di FNAF Perché l'ho trovato proprio Nel Happy Meal di Orso Secondo voi Perché c'è anche lui C'è anche lui E io giustamente Ho trovato il mio preferito Che è Foxy Ma quello è un castoro È un castoro Vabbè Ragazzi fatemi sapere Qual è il vostro animatronics Preferito nei commenti Il mio è Foxy Ma non fatevi influenzare Perché ad altri potrebbe far brutto E questo ragazzi Ce l'ho davvero È il mio pappagallo Chris Oh mio dio Mi è sembrato di sentire qualcuno Che si muoveva Tu stai qua Anzi guarda Guardatelo attentamente Perché a me ogni tanto Sembra che si muove Non lo so se vedete Se gli si muovono gli occhi O qualcosa A me ogni tanto Sembra che si muove lui Boh lo terremo qua Lo terremo qua In bella vista E andiamo avanti Con gli Happy Meal Ma prima Se vuoi sopravvivere A tutti i mostri E non essere mangiato Da mashup.exe stanotte Compra il nuovo libro Di Game Time Che trovi in libreria In link in descrizione Ci sono tutti i segreti Su come faccio A sopravvivere ai mostri E come sopravvivere Alle tue paure Mi raccomando Link in descrizione In libreria Richiedi la scuola dei mostri Apriamo l'Happy Meal Non vi ho ancora fatto vedere niente Abbiamo Guardate Sono le chicken nuggets Di prima Sono ketchupate Di umani E poi abbiamo anche Cioè Sono mangiate No però Io pago E io pago E io pago E io pago Cioè Ragazzi queste Allora non so voi A me non sembra pollo però Non so da dove arrivi sta roba Ma non mi sembra pollo E questo non mi sembra ketchup O è un pollo di tre giorni Ma guardate dentro È strano Sembra più gatto ragazzi Cioè Non l'ho mai mangiato Non mi sono mai informato però Ragazzi questo mi sa che è un occhio Lo mangio Ma voi dovete lasciare mi piace Perché se no mi sento male 3 2 1 Che schifo E poi vi fanno anche le pubblicità Del McDonald's Alle tre di notte Dove c'è uno che fa Questo è il My Selection Vieni a provarlo E poi ci trovi sto schifo dentro Scusatemi Io vado avanti Patatine Di quattro giorni fa Non so se Neanche se sono patatine Se sono pezzi di legno Travestiti da patatine Anche qua ketchup Si vedono anche i nervetti Ragazzi Oltre quelli che mi stanno salendo A me a mangiare Questo schifo Aia Ma fa malissimo sta roba Fa malissimo sta roba Raga mi sento qualcosa Che mi scorre Oh cavolo Non mi dire di nuovo È che l'ha rifatto Però deve Di essermi tolto tutto Non mi dire che l'ha rifatto di nuovo Anche l'altra volta Ha fatto uguale Masha Secondo voi ce l'ha preparata Masha sta roba Ragazzi mi ero scordato Una cosa da parte C'era veramente anche lui Sono stupido Me l'ero scordato E c'è veramente freddi ragazzi Di Fnaf Perché è l'Happy Meal Degli orsi Il prossimo Happy Meal Potrebbe essere quello di Fnaf Vado ad aprire L'ultima cosa Del nostro Happy Meal Che è questo A molti di voi Potrà sembrare un occhio vero Ma Sappiamo benissimo Che non è così Sappiamo bene Che questi sono I famosi trolli Infatti Quest'occhio non è vivo Non si muove Ma che E invece si è mosso O è una mia impressione O si è mosso Forse mi hanno stordito Un pochino Le caramelle Dentro l'Happy Meal Ragazzi Guardate Si muove Però non si apre Questa roba E allora io la lascerei qua Direi di andare a provare La Coca Cola Di quest'altro Happy Meal Non credo che ci faccia Un bel effetto Ma io la provo uguale Tanto oramai Siamo in ballo Per giocare No Direi ragazzi Che per oggi Gli Happy Meal Di Mascia e Orso Sono finì Mi sta suonando il telefono E Mascia Rispondo Ciao Mascia Ciao Ho mangiato il mio Happy Meal È vero? Sei Mascia che l'ho mangiato Ed era molto disgustoso Ma tu adesso Cosa vuoi da me? Non sai cosa voglio Ciò che tu Un'altra volta Non mi hai dato Io voglio la tua anima E come pensi di prendertela Se io non te la do? Non mi dai molto presto Impariamo a guardarti in alto Di tanto Cosa intendi Mascia? Attaccato ragazzi È veramente incredibile sta qua eh Ragazzi ma Mascia cosa intendi Ma Oh mio Dio Se ne è corsa via Non avete visto che è piombata dal tetto? No raga dove cavolo se ne sarà andata? Oh mio Dio Dove caspita se ne è andata Mascia.ex? Secondo me è andata di qua Andiamo ragazzi Si è pure presa il mio pappagallo Voi non l'avete mai visto E non siete neanche riusciti a vederlo Stavolta che se l'è preso Secondo me nelle vicinanze Pronti eh 3 2 1 Eccola No Non è qua Allora significa che Secondo me se ne è andata in camera ragazzi Andiamo? Sentite come ride Se la sta ridendo questa Sotto i baffi Dov'è? Guardati in casa Cosa intendi per guardarmi Oh no Era lì sotto Non si è andata in casa Ho aspettato 30 secondi buoni Ancora non ha risposto Cosa da proporti di interessante Dovrei videochiamare anche Orso Potrei provare a videochiamare lui Effettivamente adesso Magari se prendiamo lui come ostaggio Lei ci risponde Mi ricordo bene chi sei E non ho intenzione di assecondarti Ma magari Orso si Perché non provi a videochiamare lui Eccoci Videochiamiamo Orso Che faccia orribile che ha ragazzi Questo è Orso nella vita reale Ragazzi mi ha risposto Ma questi sono episodi di Masce e Orso messi strani Ragazzi ha risposto Guardate gli episodi di Masce e Orso Ci sono delle parole che accompagnano su schermo Orso Povero Orso Era un Orso felice prima del mio arrivo Che cosa significa? E continua a gliciare tutto strano Poi è diventato un bambino cattivo Orso non è cattivo Sei tu che gli fai due maroni così in Mascia Sei lei che sta parlando Secondo voi chi sta parlando? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Molto cattivo Dovevo fare qualcosa Guardare la tv o Mascia no? È questo che succede ai bambini cattivi Che intendi? Mascia oh mio dio Ragazzi guardate Oh mio dio Gli urli che si sentono Che fine avrà fatto Orso? Dovevo fare qualcosa Orso stai bene Orso Basta Se ci sarà luce dietro l'avete visto? Mi sono spaventato di brutto Se ci sarà sola Se accende e si spenge Guarda Guarda dietro Se accende e si spenge La vedete? Io sono fermo Se accende e si spenge Ha smesso? Adesso rimane acceso Mi sono spaventatissimo La chiamata è terminata Sta scrivendo Orso Ma non l'ha fatto fuori ragazzi Non è strana questa cosa Che ha scritto Orso E infatti è lei Non ha fatto una bella fine Se vieni ti spiego perché Mascia sei molto cattiva oggi Perché ha fatto questo secondo voi? Questa è una foto di Mascia? Questa è una foto di Mascia ragazzi Se questa è Mascia.ex Valigine Ce ne andiamo in spiaggia ragazzi Lasciamo No a parte c'è la neve in spiaggia adesso Lasciamo tutto ai professionisti Io non mi intrometto Mi dispiace Perché hai fatto tutto questo Mascia? Dobbiamo capirlo ragazzi Perché se no non capiremo mai Perché lei fa questo Hai visto che fine fanno i bambini cattivi? È la stessa fine che farei tu Mascia Perché tu sei una bambina cattiva Secondo voi Mascia è buona cattiva? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi raccomando Dobbiamo indagare su questa cosa Tutti insieme Perché più siamo e meglio è Credo di sapere come possiamo risolvere Le nostre divergenze Ti sfido a fare due cose Se le farai bene Ti videochiamerò Ci stai? Cioè te? Non ti conosco neanche Mi vuoi sfidare? No No che non mi faccio sfidare da Mascia Che magari mi sfida a fare cose orribile Non dovete accettare mai le sfide di chi vi scrive Se Mascia.exe vi scrive Non gli rispondete Io lo sto facendo per farvi vedere che cosa fa Ma non gli rispondete voi Credi che io non sia abbastanza potente? Non l'ho mai detto È proprio per quello che non accetto Perché ho paura della sua potenza Ti ho ferito senza nemmeno toccarti Non è vero ragazzi Io non sento niente Non mi hai ferito Mascia Non mi sembra che mi abbia fatto qualcosa Siamo seri? Scusate il taglio Sono dovuto andare a lavarmi la faccia Mi sono spaventato ragazzi Mi sono spaventato Chissà la quante che ce l'avevo questa cosa Bene Perfetto La prima sfida che ti do è di mangiare quel cioccolatino Che trovi in salotto sul tavolo vicino ad una boccetta Prendi pure quella Che dopo ti servirà Scritto malissimo Vabbè una bambina ragazzi Andiamo Sono andato in salotto e ho trovato il cioccolatino Con questo Guardate Che orribile Un bicchiere con dei teschi Cosa significa ragazzi Questo significa Iscritti lascia mi piace Oppure verrò a mangiarti stanotte Mascia ho fatto tutto quello che mi avevi chiesto E ora? Voglio sapere da dove partire Perché è un'indagine da fare Brava Adesso mangia Sono diventata game time Ma non game time adesso Sono diventato femmina Scusa Quanto sei fiscale Con i diavoletti Il cioccolatino in questione è questo Io lo vado ad assaggiare Guardate Allora vado Mi raccomando e mi piace Per questa cosa Ha una cosa strana dentro Guardate Sopra in alto Ha una cosa strana Sa di spugna Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Ma ho riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è Era diventato rosso il fazzo Il tovaiolo Ma è normale Mascia sei normale A fare una cosa del genere? Ovviamente no Perché è una bimba cattiva ragazzi Noi lo sappiamo benissimo Bene Sono contenta per quello che ti è successo alla lingua Parli troppo Adesso bevi la fiala No che non la bevo Dammi un motivo per farlo Il motivo potrebbe anche essere che viene a farmi fuori Guardate ragazzi cosa c'è dentro la fiala È orribile Guarda Questo ragazzi diventerà il nostro bicchiere per le pozioni eh A me non me ne frega niente Se volete le pozioni scrivetemelo nei commenti anche di chi le volete Ma questo qua diventa il mio bicchiere per le pozioni Non me ne sbatte niente Vado eh Sapeva di plastica ragazzi Non bevete mai la plastica mi raccomando Perché sennò vi fa male Oh mio dio Oh mio dio guardate Oh mio dio guarda il naso Ma smetterà prima o poi vero? Dovrebbe smettere Ragazzi credo che questa roba qua faccia degli effetti troppo strani Ha smesso mi sa Ma mi sembra di vedere qualcuno dietro Non c'è nessuno ma a me sembra di vedere qualcuno Se l'avete visto voi scrivetemelo mi raccomando Mi sembra di aver visto qualcuno È stato troppo spettacolare Adesso riceverai il tuo premio Quale sarebbe? La videochiamata forse finalmente? Ma che 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 vabbè però dai Mercoledì Sì vabbè Mi confondo pure Siete tutti uguali Brutti come la fame e cattivi Spaventato dovresti E tu dovresti fare un riposino Non è l'ora del riposino Le tre di notte E poi tra l'altro qua fuori C'è gente che tiene la luce A palla delle macchine Sembra giorno Ragazzi ci sta videochiamando Oh mio dio Sono pronto Sono pronto Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite? Pensi che sopravvivere sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai tu iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina Molto molto Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Sei soddisfatto Della videochiamata? Non è finita Io sono qui Per un motivo ben preciso Rompere le scatole Masha? Ci sei riuscita perfettamente Che crudeltà Che ha questa ragazzi? Sono qui per la tua anima Sono molto ansiosa Di prenderla Ma sono Ma sono solo una ragazzina Non posso sporcarmi io le mani Cosa intendi? Ci sta mandando un sicario? Lo farà Orso per me Senti dei rumori in casa? Avete sentito? No raga mi sto spaventando eh Direi di sì Masha che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai o lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di Orso Oh mio Dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me E voi però eh Oh mio Basta non indago più Basta ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato Orso? Con il nuovo libro di Game Time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Agiwagi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Mascia e Orso No ne ho visti anche troppi Mascia Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Mascia e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smetti la Mascia Smetti la Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Si mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Mascia? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguidare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Mascia.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Questa è Mascia Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la povera patta Ragazzi ma è Mascia È quella vera Che ci fa Mascia in casa mia? Mascia e orso ripresi nella vita reale E questo è un video Che viene da una videocamera Di sorveglianza di un negozio Sono videocamere Che riprendono a frame E come vedete C'è qualcuno di molto simile a Mascia Che si appresta ad entrare nel negozio Altri video in questo periodo Sono stati diffusi in rete Ma sono tutti video Fatti da telecamere Che vanno a fotogrammi Come questo per esempio Che sta riprendendo la porta di casa sua E si vede una persona che assomiglia tantissimo a Mascia Che si avvicina alla porta di casa sua Bussa e se ne va via alle 3 di notte Io però ho scoperto tramite il dark web Un modo per evocare Mascia e orso nella vita reale Una candela rigorosamente per far partire queste cose Un vasetto di miele per orsi E anche un foglio per le risposte Perché se non riesce a comunicare con la voce Lo farà con le cose paranormali Ed io oggi voglio che seguiate il video fino alla fine Perché voglio smascherare Mascia Perché secondo me non è la vera Mascia Quella che si aggira nella vita reale Secondo voi chi è? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi sta arrivando una videochiamata Pronto Mascia? Da quanto tempo che non ti sento Hai delle novità per me? Sì Mascia che ho delle novità per te Ho preso la tua pozione dal dark web E ti voglio evocare nella vita reale Tu sei disposta a venire fin qua? Stavolta fai sul cerio vedo Allora farò anche io sul cerio sai Fino ad oggi non mi sono mai mostrata Per quella che sono davvero Cosa intendi Mascia che non ti sei mai mostrata per quella che sei? Non mi dire che ci hai nascosto altro Lo so sono spaventosa ma non guardarmi Lo hai fatto lo stesso e adesso mi hai costretto a venire a mangiarti Io non sono un cibo Mascia Attaccato Ma questa minaccia se ne va Lasciamo perdere le minacce di Mascia Adesso l'importante è verificare che non sia già dentro casa nostra Perché potrebbe già essere entrata Vediamo se effettivamente Mascia è entrata in casa nostra e se effettivamente ha fatto quello che ha detto Ok ci siamo Ragazzi sul tavolo ci sono delle cose che io non avevo visto prima Sul tavolo come potete vedere abbiamo la pozione di Mascia Che è blu E non mi chiedete il perché non lo so È un mistero anche per me Nella vita non si può sapere tutto ma si possono imparare più cose possibili Oltre questo abbiamo il miele Che per orso il miele è come l'orzacchiotto di Granny Guardate Sentite i battiti di orso Lo devo lasciare perché se no arriva orso eh I battiti di orso ci sono Poi abbiamo la candela che a quanto pare qualcuno ce l'ha già portata qui E ho portato il foglio per le domande E abbiamo anche i panini con ketchup umano Voi sapete che cosa intendo Queste sono tutte cose che sicuramente arrivano dal dark web Ma una tra tutte mi interessa di più Ed è la pozione di Mascia perché tramite questa si attiverà tutto Quindi io direi beviamola E vediamo cosa succede Vado eh La vedi la mia testa da teschio Se non lasciami facendo ti scrivi in tre prossimi tre secondi Mascia.exe ti mangerà stanotte Era un filtro quello stavo scherzando Per il momento non ha avuto effetti particolari Raga la mano Guarda la mano è rossa Sei andata Raga mi sa che il veleno può essere blu secondo voi Non è che mi ha avvelenato questa Sto un po' meglio ragazzi Ragazzi questa è l'allarme di casa Questa è l'allarme di casa Raga si è accesa la tv c'è l'allarme di casa È partito che c'è scritto Allerta Intruso rilevato dal sistema di sicurezza della casa Le autorità sono state avvertite Arriveranno tra 30 minuti Nel frattempo nascondetevi E funziona anche se non c'è l'audio Funziona ancora Questo significa che c'è qualcuno in casa Ma io non ho visto nessuno Voi avete visto qualcuno? O meglio dietro forse? Secondo me lei è da qualche parte Io non l'ho vista Se voi l'avete vista scrivetemelo nei commenti Ragazzi ma voi veramente vi pensate che mi mangio questa roba? Ma non è che credete di chiedere un po' troppo? Cioè io questa roba non la tocco Ma neanche se mi paga Ragazzi ma è Masha è quella vera Che ci fa Masha in casa mia? Secondo me è venuta L'hai letto il mio libro? Raga non risponde e mi sa che non l'apprezza Lo sapevo che li aveva fatti lei Sono proprio buoni Se quando l'ho finito non mi risponde ragazzi Ti rifaccio ingoiare lei L'ho finito Masha sei buona o cattiva? Raga ma si è mangiata il foglio? Ma si è mangiata il foglio? Ragazzi non pensavo che funzionasse davvero solo nei guai Cosa facciamo? La televisione raga Guarda sulla tv C'è la statica Si è attivata con la statica Non funziona Oh Raga non funziona Ma Masha dov'è andata? Ma fino al secondo fa era lì Ma questa statica non si toglie Raga ma è partita Masha È partito il cartone di Masha Lei non è più lì Ma è qui Avete visto gli occhi di Masha come erano diventati? Tornate nei suoi cloni video per vederli se non l'avete visti Ma che cavolo sta succedendo stasera? Si è spenta Sta chiamando e mi è partita da solo ragazzi Ciao Frostinox Perché mi hai videochiamato? Siamo su Discord Ragazzi non mi sente? Però mi senti? Ma è che ho dei problemi io ragazzi E non so il perché mi è partita sta videochiamata davvero La sua videocamera ha glicciato Ma non mi sente? Ragazzi scrivetegli qualcosa anche voi Non mi sente Ma che è successo? Che è successo? Ragazzi continua a non sentirmi Sta parlando da solo ma non è che Mi è sembrato di vedere qualcosa dietro eh Mi è sembrato di vedere qualcosa Non sono sicuro Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Io spero Spero che non arrivi anche qua E la chiamata si è interrotta Secondo me cosa gli ha fatto? Io non credo che abbia fatto una bella fine Oddio Hai visto? Torna dietro con i video se non l'hai visti C'erano due occhi qua che si illuminavano Io li ho visti dalla telecamera Li ho visti qui Che sia lei che è diventata indemoniata adesso Mi sta videochiamando di nuovo no? Devo rispondere però anche se ho paura devo rispondere Ok rispondiamo Hai lasciato che i tuoi amici venissero mangiati Ma non ti senti nemmeno un po' in colpa? Sei stato lì senza fare niente Ma se non potevo fare niente Eravamo in videochiamata Masha Mi hai tenuto con le mani legate Gli hai fatto tutto in videochiamata In modo che io non potessi fare niente Quindi cosa vuoi da me adesso? Adesso però è il tuo turno Non sono qua perché me lo hai chiesto tu Sono qua perché io voglio mangiarti Voglio sacciarmi E tanto che non faccio un pasto Tu provaci ma io ti smaschererò prima Perché devo scoprire chi sei in realtà Lo farò e ti smaschererò davanti a tutti quanti Adesso vedremo cosa sai fare contro di me Che intendi? Raga Attaccato Dobbiamo andarla a cercare ragazzi a questo punto Non ci ha lasciato altra scelta Ricordati che il libro tu lo trovi in libreria Nel link in descrizione alla scuola dei mostri Ti protegge da tutti i mostri Ragazzi secondo me non è tanto lontana Masha Raga Raga era dietro Era dietro Io me ne vado qua Spero che non ci abbia visti Dobbiamo scoprire che cosa ha in mente Ragazzi Masha è uscita Dobbiamo assolutamente scoprire chi è Io la devo inseguire Chissà dove si è cacciata Masha ora Ragazzi è dietro l'avete visto? Guardate se ne va Se ne va Devo seguirla in qualche modo La dobbiamo trovare Ragazzi non c'è più Ragazzi guardate per terra Ci sono le impronte di Masha e Orso Le vedete sono qui Io le devo seguire assolutamente Se le seguiamo arriveremo sicuramente Nel nascondiglio segreto di Masha Guardate sicuramente dietro questo c'è spuglio Ragazzi ma quella è Masha Ricordo il giacchetto Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la tua vera faccia Vediamo Adesso ti smaschero Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guardala Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto? Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe dalla foto però eh Ci fanno queste vespe E vabbè Delle api stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio Dio si è aperta la finestra Lo sapevo che è entrato qualcuno No c'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Sì Però l'acqua come l'ho toccata E' esplosa quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma qua orso è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli giustamente È buio Io sento dei versi orribili di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Ma hai riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è è diventato rosso il tovagliolo Ma raga mi sto spaventando eh Direi di sì Masha che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai o lui ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di orsi Oh mio Dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso? Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Agiwagi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene Adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Si mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guarda Hai fame to Orribile È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Per favore Dici la tua età E per attivare L'easter egg Dobbiamo mettere L'età 666 Che non compare il terzo 6 giustamente Ma per noi è come se fosse comparso Andiamo Eccoci Iscriviti e gioca senza la pubblicità Oh Orso si sta davvero trascurando Portalo alla doccia Così può lavorare Grazie al cavolo che Orso si sta trascurando Con una roba come Masha Che cosa possiamo usare per far fuori Masha Ci avranno fornito qualche oggetto Ma quanto è brutta Masha Uh il cibo Vediamo vediamo Forse riesco a farla avvelenare Allora questa carne non mi sembra che abbia un bel aspetto Buono Masha Mmm Ma è andata male A me non sembra che ti faccia tanto bene sto cibo Ma com'è già contenta E' davvero buono Adesso è ora di giocare No Masha Anzi si adesso è ora di giocare Dobbiamo cercare la bicicletta ragazzi Eccola Ragazzi anche a voi Masha ricorda solo l'enigmista così Scrivetemelo nei commenti che sono curioso Ma dove è andata Masha Dobbiamo Dobbiamo correre più veloci del panda Vai Masha Vai ti schianti Se la faccio schiantare può fare una brutta fine No niente Non si è schiantata Speravo si schiantasse Invece è contenta con una faccia un po' creepy Uh Che è questa ragazzi Io non lo so chi è Forse ce la darà lei l'oggetto per far fuori Masha Una chiave Vediamo E ci sono altri due pacchetti regalo Con altre due chiavi Una è una pistola ragazzi Quindi forse effettivamente ce l'abbiamo degli oggetti per farla fuori E cosa me ne faccio di questa roba Si è sbloccata la chitarra E adesso si sblocca anche la pistola Un'aspirapolvere Possiamo sbloccare la prossima volta E una pistola non ad acqua Mmm Quanti oggetti che stanno comparendo nella casa di Masha Ragazzi questo è Masha.ex Masha.ex deve andare in bagno ragazzi Sembra il bagno di Shrek Masha invece deve andare a dormire Vediamo se compare Masha.ex qua Lascia un mi piace scritto entro passi in tre secondi Oppure Masha.ex ti mangerà stanotte Guardate orso che faccia orribile che ha Ce l'ha tolto per metterci tutte le animazioni Ma penso che voi lo abbiate visto Hai fame di Masha orso? Andiamo a mangiarci Masha Oh C'era qualcuno dentro l'armadio L'ho visto eh Si era mosso l'armadio prima ragazzi avete visto Masha ha dormito Vieni orso andiamoci a mangiare Masha Guardate orso si avvicina molto creepy E c'è la testa di Masha qua Tieni orso Gnam Che verso orribile che ha fatto Ragazzi è stato spaventoso Secondo me alla fine sarà orso che farà fuori Masha Dov'è Masha? Ciao Masha 1 e Masha 2 sono insieme Non credo che sia una bella situazione questa eh Credo che tu abbia bisogno di dormire orso Vai buonanotte Ma non ha bisogno di dormire a quanto pare Ma chi è questo ragazzi? Masha deve far fuori una tigre Speriamo che però sia la tigre a far fuori Masha qui Sì la bomba Vabbè ho capito Mi fai giocare e devi scassare le scatole ancora Abbiamo preso gli orsi cattivi che si introducono in casa nostra No quella è una bomba Guarda pure un leone c'è Abbiamo un sacco di nemici però Questo è l'importante Quindi Masha se non la facciamo fuori noi Sicuramente qualcuno ci sarà che la fa fuori No ha preso la bomba Guardate lo schermo inizia a essere tutto rotto Mi sa che Masha sta soffrendo qua eh Per via della bomba Però abbiamo vinto Non credo che faccia ricaricare lo sfondo Ragazzi Avete visto cosa c'era nella foto? Masha non sta bene Guardate che c'è tutto cibo avariato Adesso glielo do Speriamo che si senta male stavolta eh Guardala Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto? Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando a Masha.ex dalla foto però eh Oh mio dio Guardate nella televisione Si vede qualcosa Non so chi sia quello della televisione Però si vede qualcosa Se n'è andato Voglio vedere dagli occhi di Orso se qualcuno ci sta spiando Oppure dagli occhi di questa Masha strana Guardate Però mi sembra Guarda negli occhi Si è vista una faccia mi sa eh Guardate bene che in questa foto si vede la faccia Anche il gioco me lo dice Sto facendo un ottimo lavoro Sto scoprendo delle cose che non dovrei scoprire Mmm sta pubblicità Però guardate Sembra tipo Masha Prima di diventare .exe dopo .exe Cioè tipo l'evoluzione Alla fine ste pubblicità non è vero che non servono a niente A te ti devo Vieni che ti curo Cosa facciamo Una bella puntura Totti da TV Questo e buonanotte Perfetto Stai bene adesso? Benissimo Ma non hai fatto niente Come fai a essere completamente Pulisci? Vabbè ti metto a letto Ogni volta che passo con orso si vede qualcuno che ti arriva da dentro l'armadio Allora nel gioco sembra Masha normale Ma nella foto che la rappresenta c'è Masha.exe Secondo me questo significa qualcosa Guardate qua dietro Sembra di vedere degli occhi in lontananza però eh Sta arrivando Masha quella cattiva stregonda Te c'entri qualcosa vero? Se riusciamo a prendere tutti gli ingredienti che ci servono Possiamo fare una roba per curare Masha Come abbiamo fatto per Tolkien Joan Una bella pozione di cura Uh lui aveva un cuore L'abbiamo preso Quindi il cuore ce l'abbiamo Ho vinto Guardate Masha.exe con orso che aspetta i regali E orso sembra un po' cattivo Non sembra contento di questa cosa Vediamo I pattini abbiamo ricevuto Vedete che si muove Forse ci tengono qualcuno Si sentono anche delle canzoncine strane di sottofondo Prendiamo Masha streghetta Portiamola al cibo E vediamo di fargli fare una bella pozione Vieni Perfetto Allora Usa il cuoricino Di boccetta Grazie Masha per fare la pozione Totti Da da mangiare ma tu falla però È svenuta pure lei Ma vi sembra normale che questi quando mangiano svengono Ce l'abbiamo fatta? Guardate Le pozioni si stanno creando Si è creata la pozione Lei è svenuta dalla paura della pozione Perché è molto strana Masha Bevi Ti sta cavolo di pozione E non scassare più Eccola la pozione Vai Masha Bevi Guardate i suoi occhi Stanno cambiando Sta tornando normale Sai qual è il libro che tiene lontano a Masha.exe? Il nuovo libro di Game Time che trovi in libreria nel link in descrizione Che ti protegge da tutti i mostri e ti insegna a superare le tue paure E ci sono anche delle avventure epiche È tornata normale per fortuna Anche se ha fatto una luce verde strana che sembra che puzza Ha distrutto ragazzi il frigorifero Avete visto cosa aveva combinato ad Orso e Masha? Adesso sono tornati tutti normali Eccoci Che è questo gioco dove ci fa vedere la notte di Masha e Orso Lo continuiamo nei prossimi video se vi interessa Però intanto vi faccio vedere il primo pezzo A Masha piace tanto disegnare Prima di andare a morire Ma chi è che sta parlando come una madre russia Ho creato un'ambulanza Sicuramente sarà per me dopo la fine di questo video E c'è un lupo Che sicuramente sarò io dopo la fine di questo video E ce n'è un altro ancora Stanno mangiando Quella è Masha ragazzi È solo l'interiore di Masha Se stanno a mangiare ma state scherzando È un gioco per bimbi Guardate che bello Abbiamo completato la casa di Masha Ma cosa salti Non lo vedi che sotto il tuo letto c'è un mostro Cosa ridi A parte che anche sopra il tuo letto c'è un mostro Visto la faccia che ti hanno fatto Ragazzi è bruttissimo Guardate che brutto C'è il temporale Oh mio dio C'era Jeff the Killer fuori Masha è scomparsa Oh io non ho visto dove è andata Forse voi lo sapete È andata da Orso E allora va a svegliare Orso Orso non usa le candele Già paura di mio Poi usi le candele per andare a trovare Jeff the Killer Ma usa qualcos'altro Guardate Era entrata una cosa dalla finestra C'è una vespa Ma era entrato Jeff the Killer Cos'è successo questa volta? Non lo so signora russa Cosa ci fanno queste vespe? E vabbè Degli api stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che era entrato qualcuno No C'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è? Sì Però l'acqua come l'ho toccata È esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante E lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma cos'è questa risata orribile? Bravo Mangiatene così Stai tranquillo Che devo fare? Eh vabbè Ma chi è che è entrato dentro il frigo Ha fatto sto schifo però Non è che se il frigo era ridotto così Non potete Ecco Ora possiamo dormire Con queste bambole brutte Come la fame Guarda là Sono delle bambole maledette queste Dormi dentro il ca... Eh dormi qua Dentro il... Qua Dentro il cappello Coniglio Che devo fare i libri? Eh qui Dentro il cappello Te l'ho detto Sono più intelligenti di te Dormi dentro il cappello Vai coniglio Ciao Vai ti spengo la luce Perché sennò non ti lascio dormire Cioè dobbiamo aiutare a sopravvivere A Jeff the Killer Dobbiamo aiutare a sopravviverli Adesso faccio l'ultimo livello Poi ragazzi lo continuiamo Nei prossimi video Se vi interessa Questi sono degli scoiattolini Che dobbiamo fare? Guardate che faccio orribile Nella finestra Ma perché compaiono Ste facce? Sarà forse l'orario A cui sto giocando Che fa comparire sta roba Perché sto giocando A luna di notte Oh Puliamo le foto Questa qua con orso No Dammi quella con orso Che sono curioso di vedere Cosa è successo Guardate qua orso È spaventato Che è successo Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli Giustamente È buio Io sento dei versi Orribili sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Ma hai riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate Ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite? Penso che ci può vivere sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi apposcerai i tuoi iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardarà a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina molto molto cattiva Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Perché sarà diventato IoMasha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Hello Sono tornato dal McDonald's King Burger Mega Galattico Perché ho preso Gli Happy Meal Di Masha e Orso Questo è l'Happy Meal Di Orso Non lo voglio Non voglio sapere cosa c'è dentro E qua c'è L'Happy Meal Di Masha Che è molto carina Io direi iniziamo subito Ad aprire l'Happy Meal Di Masha Perché forse è meglio Abbiamo anche la Coca Cola Che possiamo Con la cannuccia corta corta Che la possiamo bere Dopo Ovviamente magari Dentro il nostro bicchiere Quello horror Quello qua Con i teschi Questo è Gianfranco Luigi Mattia E Antonella Perché non hanno messo Mi piace Quindi mettilo Perché se no Farei questa fine Andiamo ad aprire L'Happy Meal Di Masha Ragazzi ma Guardate Si sono mosse gli occhi Si sono mosse gli occhi Di Masha Sei viva Ora non più sicuramente Andiamo ad aprirlo E vediamo cosa c'è dentro Ma è normalissimo ragazzi Prima volta che ordino Un Happy Meal Maledetto Ed è normale Abbiamo Guardate Abbiamo queste Che sono le nuggets Di pollo E poi abbiamo Le mega patatine Chips Ragazzi a questo punto Direi Lasciamo l'Happy Meal qua E andiamo subito A provare La mega coca cola Che sicuramente Sarà gustosa E sicuramente Voi non vedete L'ora di vederla Ragazzi ma Mi è sembrato Di sentire qualcosa Guarda dietro Sembra che si vede un'ombra Ma dove c'è la porta Sembra che si vede un'ombra Forse è un effetto visivo mio Andiamo a vedere la coca cola Facciamo finta Che Masha Non l'abbiamo vista Se l'hai vista Scrivilo nei commenti Facciamo finta di niente Ok Proviamo Ragazzi È tutto buono Per una volta Ma che forca Oh mio dio Ragazzi che botta Sto bene Raga Oh mio dio Oh mio dio Guarda È cambiato È un altro Happy Meal Scusa se t'ho sputato Ma sono spaventato È un altro Happy Meal Ma state scherzando Ma non è credibile Sta cosa Guarda Hai occhi diversi adesso Oh mio dio Sei mai sentirla ridere quasi Vero Ok apriamo Ecco l'Happy Meal Guardate Ora lo apriamo Questa era la giusta punizione Per non aver usato Il nostro bicchiere fantomatico Della gente che non metti mi piace Andiamo ad aprire l'Happy Meal E vediamo cosa c'è dentro stavolta Raga C'è quello che mi manca Un cervello Forse il cervello di orso Può essere un cervello di orso Grande così Tra l'altro Non è fresco È duro L'ha fatto fuori Prima di venire qua Guarda È bruttissimo Sembra Impacchettato da qualcuno di orribile No io non ce la faccio ragazzi Raga non ce la faccio A me fanno paura A me fanno paura i ragni Guarda Ci sono finti per fortuna Però mi fanno paura Fate cacare Brutti esseri orribili E ci sono le sue ragni a tele con i figli Guarda C'è il mondo Ma perché hanno fatto tutto questo Non dirmi che Ma questi mi sa che sono di Masha eh Hanno litigato Masha e Orso mi sa Non sono stato io polizia Se stai guardando sto video eh Me l'hanno mandato Guarda Deve essere stata Deve essere stato Orso Magari Masha l'ha fatto andare di fuori E lui ha detto Basta Infatti in questa foto Non è che sia tanto carino da vedere eh Poi abbiamo Un altro dito di Masha Poi abbiamo Poi abbiamo Delle pozioni horror Questo mi ha proprio buttato via Guarda Sono pozioni horror Io non ne provo neanche una Ma se raggiungiamo il miglio E mi piace le provo E questo chi sembra Sembra lo zio fester Ma non hai capelli Devono essere delle pozioni maledette queste Guardate come si muovono tutte Questo ragazzi Sappiamo che cos'è Non lo posso dire Perché Youtube è cattivo Ma sappiamo cos'è Poi c'è Aia Questo è vero però Avete visto i denti rossi Guarda cosa mi ha fatto Che schifo Speriamo che non sia venenoso Secondo voi che tipo di ragno è? Secondo me è il ragno tombino Sono quei ragni che arrivano da dentro i tombini E ti fanno bucettete Fanno schifo sti ragni Adesso mettiamo tutta la roba che non ci serve dentro Tanto questo l'abbiamo visto Passiamo al prossimo Happy Meal Che è quello di Orso Raga ma si sente ridere Oh mio dio ragazzi Sembra che c'è il terremoto Guardate Oh mio No raga non è normale Guarda c'è Masha C'è Masha L'ho ripresa ragazzi L'ho ripresa Ce l'abbiamo fatta Riprendere Masha.ex Però è vero Mi sono scassato di mettere la Coca Cola Di quell'Happy Meal Ecco perché si è arrabbiata così E dobbiamo berla qua Perché io ve l'avevo promesso Che l'avrei bevuta qua Quindi Guardate Non ha un bel aspetto Guardate ragazzi Questa potrebbe essere una pozione È brutta È orribile Io la vado a bere Siete pronti 3 2 1 Sapevole di plastica Guardate ragazzi Guarda Il naso Un'altra volta Ha fatto di nuovo questa cosa Guarda Col naso che va a giro È bruttissimo Sto effetto ragazzi Guarda Oh mio dio Sembro Dumbo Guardate Se non ti iscrivi Non lasci mi facendo I prossimi 3 secondi Vengo in casa tua stanotte Con un'arma da fuoco Nuove pill Questa volta invece Abbiamo Orso E infatti ragazzi Dentro ho trovato Questo Fuori ho trovato Questo E guardate Sono gli action figure Di FNAF Perché l'ho trovato Proprio nel Happy Meal Di Orso Secondo voi Perché c'è anche lui C'è anche lui E io giustamente ho trovato Il mio preferito Che è Foxy Ma quello che si Ma quello è un castoro È un castoro Vabbè Ragazzi fatemi sapere Qual è il vostro animatronics Preferito nei commenti Il mio è Foxy Ma non fatevi influenzare Perché ad altri potrebbe far Brutto E questo ragazzi Ce l'ho davvero È il mio pappagallo Chris Oh mio dio Mi è sembrato di sentire Qualcuno che si muoveva Tu stai qua Anzi guarda Guardatelo attentamente Perché a me ogni tanto Sembra che si muove Non lo so se vedete Se gli si muovono gli occhi O qualcosa A me ogni tanto Sembra che si muove lui Boh Lo terremo qua Lo terremo qua In bella vista E andiamo avanti Con il Happy Meal Ma prima Se vuoi sopravvivere A tutti i mostri E non essere mangiato Da mascio.exe stanotte Compra il nuovo libro Di Game Time Che trovi in libreria In link in descrizione Ci sono tutti i segreti Su come faccio A sopravvivere ai mostri E come sopravvivere Alle tue paure Mi raccomando Link in descrizione In libreria Richiedi la scuola dei mostri Apriamo l'Happy Meal Non vi ho ancora fatto vedere niente Abbiamo Guardate Sono le chicken nuggets Di prima Sono checiappate Di umani E poi abbiamo anche Cioè Sono mangiate No però Io pago E io pago E io pago E io pago Cioè Ragazzi queste Allora non so voi A me non sembra pollo però Non so da dove arrivi sta roba Ma non mi sembra pollo E questo non mi sembra ketchup O è un pollo di tre giorni Ma guardate dentro È strano Sembra più gatto ragazzi Cioè Non l'ho mai mangiato Non mi sono mai informato però Ragazzi questo mi sa che è un occhio Lo mangio Ma voi dovete lasciare mi piace Perché se no mi sento male 3 2 1 Che schifo E poi mi fanno anche le pubblicità Del McDonald's Alle tre di notte Dove c'è uno che fa Questo è il My Selection Vieni a provarlo E poi ci trovi sto schifo dentro Scusatemi Io vado avanti Patatine Di quattro giorni fa Non so se neanche se sono patatine Se sono pezzi di legno travestiti da patatine Anche qua ketchup Si vedono anche i nervetti ragazzi Oltre quelli che mi stanno salendo a me a mangiare questo schifo Aia Raga fa malissimo sta roba Fa malissimo sta roba Raga mi sento qualcosa che mi scorre Oh cavolo Non mi dire di nuovo Eh che l'ha rifatto Però deve essermi tolto tutto Non mi dire che l'aveva rifatto di nuovo Anche l'altra volta ha fatto uguale Masha Secondo voi ce l'ha preparata Masha sta roba? Ragazzi mi ero scordato una cosa da parte C'era veramente anche lui Sono stupido Me l'ero scordato E c'è veramente Freddy ragazzi Di FNAF Perché è l'Happy Meal degli orsi Il prossimo Happy Meal potrebbe essere quello di FNAF Vado ad aprire l'ultima cosa del nostro Happy Meal Che è questo A molti di voi potrà sembrare un occhio vero Ma sappiamo benissimo che non è così Sappiamo bene che questi sono i famosi trolli Infatti quest'occhio non è vivo Non si muove Ma che E invece si è mosso O è una mia impressione o si è mosso Forse mi hanno stordito un pochino le caramelle dentro l'Happy Meal Ragazzi guardate Si muove però non si apre questa roba E allora io la lascerei qua Direi di andare a provare la Coca Cola Di quest'altro Happy Meal Non credo che ci faccia un bel effetto Ma io la provo uguale Tanto oramai siamo in ballo per giocare no Direi ragazzi che per oggi Gli Happy Meal di Mascia e Orso sono fini Mi sta suonando il telefono È Mascia rispondo Ciao Mascia Ciao hai mangiato il mio Happy Meal vero? Sei in Mascia che l'ho mangiato ed era molto disgustoso Ma tu adesso cosa vuoi da me? Ma sai cosa voglio? Ciò che tu un'altra volta non mi hai dato Io voglio la tua anima E come pensi di prendertela se io non te la do? Lo metterai molto presto Imparo a guardarti in alto Cosa intendi Mascia? Attaccato ragazzi È veramente incredibile sta qua eh Ragazzi ma Mascia cosa intendi? Ma Avete vista che è piombata dal tetto? No raga dove cavolo se ne sarà andata? Oh mio dio Dove caspita se n'è andata Mascia.ex? Secondo me è andata di qua Andiamo ragazzi Si è pure preso il mio pappagallo Voi non l'avete mai visto E non siete neanche riusciti a vederlo Stolta che se l'è preso Secondo me nelle vicinanze pronti eh 3 2 1 Eccola No Non è qua Allora significa che Secondo me se ne è andata in camera ragazzi Andiamo? Sentite come ride Se la sta ridendo questa sotto i baffi Dov'è? Guardati in basso Cosa intendi per guardarmi? Oh no Era lì sotto Gli urli che si sentono Lo show continuerà Con l'assenza di te Maggirai tre amici uno ad uno Dopo di te E poi passi nei tuoi iscritti piano piano Conquisterai un mondo No mio Dio è passato Guarda cosa mi ha fatto Video chiama Mascia.ex Ti prego rispondi Mascia Non vedo l'ora di parlarti Non risponde ragazzi Ho aspettato 30 secondi buoni Ancora non ha risposto Dai Mascia rispondimi Ti prego Voglio parlare con te Voglio scoprire i tuoi segreti Ma mi è sembrato di sentire un sussurro Sembrava che sussurrava I see you Ma se non ha risposto come faccio a sentirlo? Mi ha attaccato Sta scrivendo però L'abbiamo disturbata bene questa volta La devo videochiamare assolutamente Voglio scoprire i suoi segreti Pensavi che ti avrei risposto Mi dispiace per te Ma non rispondo quando vuoi tu Peperina E allora cosa posso fare per farmi rispondere? Mascia Ho qualcosa da proporti di interessante Dovrei videochiamare anche Orso Potrei provare a videochiamare lui effettivamente adesso Magari se prendiamo lui come ostaggio Lei ci risponde Mi ricordo bene chi sei E non ho intenzione di assecondarti Ma magari Orso si Perché non provi a videochiamare lui? Eccoci Videochiamiamo Orso Che faccia orribile che ha ragazzi Questo è Orso nella vita reale Ragazzi mi ha risposto Ma questi sono episodi di Mascia e Orso messi strani Ragazzi ha risposto Guardate gli episodi di Mascia e Orso Ci sono delle parole che accompagnano su schermo Orso Povero Orso Era un Orso felice prima del mio arrivo Che cosa significa? E continua a glicciare tutto strano Poi è diventato un bambino cattivo Orso non è cattivo Sei tu che gli fai due maroni così in Mascia Sei lei che sta parlando Secondo voi chi sta parlando? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Molto cattivo Dovevo fare qualcosa Guardare la tv o Mascia no? È questo che succede ai bambini cattivi Che intendi? Mascia oh mio dio Ragazzi guardate Oh mio dio Gli urli che si sentono Che fine avrà fatto Orso? Dovevo fare qualcosa Orso stai bene Basta Ci sarà luce dietro avete visto? Mi sono spaventato di brutto Si è accesa da sola Si accende e si spenge Guarda Guarda dietro Si accende e si spenge La vedete? Io sono fermo Si accende e si spenge Ha smesso? Adesso rimane acceso Mi sono spaventatissimo La chiamata è terminata Sta scrivendo Orso Ma non l'ha fatto fuori ragazzi Non è strana questa cosa che ha scritto Orso E infatti è lei Non ha fatto una bella fine Se vieni ti spiego perché Mascia sei molto cattiva oggi Perché ha fatto questo secondo voi? Questa è una foto di Mascia? Questa è una foto di Mascia ragazzi Se questo è Mascia.ex Valigine Ce ne andiamo in spiaggia ragazzi Lasciamo No a parte c'è la neve in spiaggia adesso Lasciamo tutto ai professionisti Io non mi intrometto Mi dispiace Perché hai fatto tutto questo Mascia? Dobbiamo capirlo ragazzi Perché se no non capiremo mai Perché lei fa questo Hai visto che fine fanno i bambini cattivi? È la stessa fine che farei tu Mascia Perché tu sei una bambina cattiva Secondo voi Mascia è buona cattiva? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi raccomando Dobbiamo indagare su questa cosa tutti insieme Perché più siamo e meglio è Credo di sapere come possiamo risolvere le nostre divergenze Ti sfido a fare due cose Se le farai bene ti videochiamerò Ci stai? Cioè te non ti conosco neanche mi vuoi sfidare No No che non mi faccio sfidare da Mascia Che magari mi sfida a fare cose orribile Non dovete accettare mai le sfide di chi vi scrive Se Mascia.exe vi scrive non gli rispondete Io lo sto facendo per farvi vedere che cosa fa Ma non gli rispondete voi Credi che io non sia abbastanza potente? Non l'ho mai detto È proprio per quello che non accetto Perché ho paura della sua potenza Ti ho ferito senza nemmeno toccarti Non è vero ragazzi Io non sento niente Non mi hai ferito Mascia Non mi sembra che mi abbia fatto qualcosa Siamo seri? Scusate il taglio sono dovuto andare a lavarmi la faccia Mi sono spaventato ragazzi Mi sono spaventato Chissà la quante che ce l'avevo questa cosa Bene Perfetto La prima sfida che ti do è di mangiare quel cioccolatino Che trovi in saluto sul tavolo vicino ad una boccetta Prendi pure quella Che dopo ti servirà Scritto malissimo Vabbè una bambina ragazzi Andiamo Sono andato in saluto e ho trovato il cioccolatino Con questo Guardate Che orribile Un bicchiere con dei teschi Cosa significa ragazzi? Questo significa Iscritti lascia mi piace Oppure verrò a mangiarti stanotte Mascia ho fatto tutto quello che mi avevi chiesto E ora? Voglio sapere da dove partire Perché è un'indagine da fare Brava Adesso mangia Sono diventata game time Ma non game time adesso Sono diventato femmina Scusa Quanto sei fiscale Con i diavoletti Il cioccolatino in questione è questo Io lo vado ad assaggiare Guardate Allora vado Mi raccomando il mi piace per questa cosa Ha una cosa strana dentro Guardate Sopra in alto Ha una cosa strana Sa di spugna Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma Non di nuovo però Mi hai riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è Ragazzi scusatemi un attimo Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Masha sei normale A fare una cosa del genere Ovviamente no Perché è una bimba cattiva ragazzi Noi lo sappiamo benissimo Bene Sono contenta per quello che ti è successo Alla lingua Parli troppo Adesso bevi la fiala No che non la bevo Dammi un motivo per farlo Il motivo potrebbe anche essere Che viene a farmi fuori Guardate ragazzi Cosa c'è dentro la fiala È orribile Guarda Questo ragazzi Diventerà il nostro bicchiere Per le pozioni eh A me non me ne frega niente Se volete le pozioni Scrivetemelo nei commenti Anche di chi le volete Ma questo qua diventa Il mio bicchiere per le pozioni Non me ne sbatte niente Vado eh Sapeva di plastica ragazzi Non bevete mai la plastica Mi raccomando Perché sennò vi fa male Oh mio dio Oh mio dio Guardate Oh mio dio Guarda il naso Ma smetterà prima o poi Vero Dovrebbe smettere Ragazzi Credo che questa roba qua Faccia degli effetti troppo strani Ha smesso mi sa Ma mi sembra di vedere qualcuno dietro Non c'è nessuno Ma a me sembra di vedere qualcuno Se l'avete visto voi scrivetemelo Mi raccomando Mi sembra di aver visto qualcuno È stato troppo spettacolare Adesso riceverai il tuo premio Quale sarebbe? La videochiamata forse Finalmente? Ma che Che vabbè Però dai Mercoledì Sì vabbè Mi confondo pure Siete tutti uguali Brutti come la fame E cattivi Spaventato dovresti E tu dovresti fare un riposino Non è l'ora del riposino Le tre di notte Che poi tra l'altro qua fuori C'è gente che tiene la luce A palla delle macchine Sembra giorno Ragazzi ci sta videochiamando Oh mio dio Sono pronto Sono pronto Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite? Pensi che sopravviverai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai tu iscritti Piano piano Conquisterai il mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina molto molto cattiva Non è vero Non è vero perché ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Sei soddisfatto della videochiamata? Non è finita Io sono qui per un motivo ben preciso Rompere le scatole Masha? Ci sei riuscita perfettamente Che crudeltà che ha questa ragazzi Sono qui per la tua anima Sono molto ansioso di prenderla Ma sono solo una ragazzina Non posso sporcarmi io le mani Cosa intendi? Ci sta mandando un sicario Lo farà orso per me Senti dei rumori in casa? Avete sentito? No raga mi sto spaventando eh Direi di sì Masha che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai o lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di orso Oh mio dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me voi però eh Oh mio Basta non indago più Basta ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho affermato Orso? Con il nuovo libro di Game Time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Agiwagi Ti consiglio di correre a prenderlo In libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine il suo compito Vero bene Adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Mascha e Orso No ne ho visti anche troppi Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Mascha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Mascha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Sì mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Mascha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguidare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarò diventato io Mascha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio dio raga guardate Cosa cavolo è successo Questa è Mascha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la povera Mascha Ragazzi ma è Mascha È quella vera Che ci fa Mascha in casa mia? Mascha e orso ripresi nella vita reale E questo è un video Che viene da una videocamera Di sorveglianza di un negozio Sono videocamere che riprendono a frame E come vedete C'è qualcuno di molto simile a Mascha Che si appresta ad entrare nel negozio Altri video in questo periodo Sono stati diffusi in rete Ma sono tutti video fatti da telecamere Che vanno a fotogrammi Come questo per esempio Che sta riprendendo la porta di casa sua E si vede una persona che assomiglia tantissimo a Mascha Che si avvicina alla porta di casa sua Bussa e se ne va via alle 3 di notte Io però ho scoperto tramite il dark web Un modo per evocare Mascha e orso nella vita reale Una candela rigorosamente per far partire queste cose Un vasetto di miele per orsi E anche un foglio per le risposte Perché se non riesce a comunicare con la voce Lo farà con le cose paranormali Ed io oggi voglio che seguiate il video fino alla fine Perché voglio smascherare Mascha Perché secondo me non è la vera Mascha Quella che si aggira nella vita reale Secondo voi chi è? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi sta arrivando una videochiamata Pronto Mascha? Da quanto tempo che non ti sento Hai delle novità per me? Sì Mascha che ho delle novità per te Ho preso la tua pozione dal dark web E ti voglio evocare nella vita reale Tu sei disposta a venire fin qua? Stavolta fai sul serio vedo Allora farò anche io sul serio sai Fino ad oggi non mi sono mai mostrata per quella che sono davvero Cosa intendi Mascha che non ti sei mai mostrata per quella che sei? Non mi dire che c'è nascosto altro Lo so sono spaventosa ma non guardarmi Lo hai fatto lo stesso e adesso mi hai costretto a venire a mangiarti Io non sono un cibo Mascha Attaccato Ma questa minaccia se ne va Lasciamo perdere le minacce di Mascha Adesso l'importante è verificare che non sia già dentro casa nostra Perché potrebbe già essere entrata Vediamo se effettivamente Mascha è entrata in casa nostra E se effettivamente ha fatto quello che ha detto Ok ci siamo Ragazzi sul tavolo ci sono delle cose che io non avevo visto prima Sul tavolo come potete vedere abbiamo la pozione di Mascha Che è blu e non mi chiedete il perché non lo so È un mistero anche per me Nella vita non si può sapere tutto ma si possono imparare più cose possibili Oltre questo abbiamo il miele che per orso il miele è come l'orsacchiotto di Granny Guardate Sentite i battiti di orso Lo devo lasciare perché se no arriva orso eh I battiti di orso ci sono Poi abbiamo la candela che a quanto pare qualcuno ce l'ha già portata qui Ho portato il foglio per le domande E abbiamo anche i panini con ketchup umano Voi sapete che cosa intendo Queste sono tutte cose che sicuramente arrivano dal dark web Ma una tra tutte mi interessa di più Ed è la pozione di Mascha perché tramite questa si attiverà tutto Quindi io direi beviamola E vediamo cosa succede Vado eh La vedi la mia testa da teschio Se non lasciami facendo ti scrivi in tre prossimi tre secondi Mascha.exe ti mangerà stanotte Era un filtro quello stavo scherzando Per il momento non ha avuto effetti particolari Raga la mano Guarda la mano è rossa Si è andata Raga mi sa che il veleno può essere blu secondo voi Non è che mi ha avvelenato questa Sto un po' meglio ragazzi Ragazzi questa è l'allarme di casa Questa è l'allarme di casa Raga si è accesa la tv C'è l'allarme di casa È partito che c'è scritto Allerta Intruso rilevato dal sistema di sicurezza della casa Le autorità sono state avvertite Arriveranno tra 30 minuti Nel frattempo nascondetevi E funziona anche se non c'è l'audio Funziona ancora Questo significa che c'è qualcuno in casa Ma io non ho visto nessuno Voi avete visto qualcuno? O meglio dietro forse? Secondo me lei è da qualche parte Io non l'ho vista Se voi l'avete vista scrivetemelo nei commenti Ragazzi ma voi veramente vi pensate che mi mangio questa roba? Ma non è che credete di chiedere un po' troppo? Cioè io questa roba non la tocco Ma neanche se mi paga Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha in casa mia? Secondo me è venuta L'hai letto il mio libro? Raga Non risponde mi sa che non l'apprezza Lo sapevo che li aveva fatti lei Mmm Sono proprio buoni Se quando l'ho finito non mi risponde ragazzi Ti rifaccio ingoiare lei L'ho finito Masha sei buona o cattiva? Raga ma si è mangiato al foglio Ma si è mangiato al foglio Ragazzi non pensavo che funzionasse davvero solo nei guai Cosa facciamo? La televisione raga Guarda sulla tv C'è la statica Si è attivata con la statica Non funziona Oh Raga non funziona Ma Masha dov'è andata? Ma fino al secondo fa era lì Ma questa statica non si toglie Raga ma è partita Masha È partito il cartone di Masha Lei non è più lì Ma è qui Avete visto gli occhi di Masha Come erano diventati? Tornate nei suoi cloni video per vederli Se non l'avete visti Ma che cavolo sta succedendo stasera? Si è spenta Sta chiamando e mi è partita da solo ragazzi Ciao Frostinox Perché mi hai videochiamato? Siamo su Discord Ragazzi non mi sente? Fro Mi senti? Ma è che ho dei problemi io ragazzi E non so perché mi è partita sta videochiamata davvero La sua videocamera ha glicciato Ma non mi sente? Ragazzi scrivetegli qualcosa anche voi Non mi sente Ma che è successo? Che è successo? Ragazzi continua a non sentirmi Sta parlando da solo Ma non è che Mi è sembrato di vedere qualcosa dietro eh Mi è sembrato di vedere qualcosa Non sono sicuro Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Io spero Spero che non arrivi anche qua E la chiamata si è interrotta Secondo me cosa gli ha fatto? Io non credo che abbia fatto una bella fine Oddio Hai visto? Torna indietro con il video se non l'hai visti C'erano due occhi qua che si illuminavano Io li ho visti dalla telecamera Li ho visti qui Che sia lei che è diventata indemoniata adesso Mi sta videochiamando di nuovo no? Devo rispondere però Anche se ho paura devo rispondere Ok rispondiamo Hai lasciato che i tuoi amici venissero mangiati Ma non ti senti nemmeno un po' in colpa Sei stato lì senza fare niente Ma se non potevo fare niente Eravamo in videochiamata Masha Mi hai tenuto con le mani legate Gli hai fatto tutto in videochiamata In modo che io non potessi fare niente Quindi cosa vuoi da me adesso? Adesso però è il tuo turno Non sono qua perché me lo hai chiesto tu Sono qua perché io voglio mangiarti Voglio sacciarmi E tanto che non faccio un pasto Tu provaci Ma io ti smaschererò prima Perché devo scoprire chi sei in realtà Lo farò e ti smaschererò davanti a tutti quanti Adesso vedremo cosa sai fare contro di me Che intendi? Raga Ha attaccato Dobbiamo andarla a cercare ragazzi a questo punto Non ci ha lasciato altra scelta Ricordati che il libro tu lo trovi in libreria Nel link in descrizione alla scuola dei mostri Ti protegge da tutti i mostri Ragazzi secondo me non è tanto lontana Masha Raga Raga era dietro Era dietro Io me ne vado qua Spero che non ci abbia visti Dobbiamo scoprire che cosa ha in mente Ragazzi Masha è uscita Dobbiamo assolutamente scoprire chi è Io la devo inseguire Chissà dove si è cacciata Masha ora Ragazzi È dietro L'avete visto? Guardate se ne va Se ne va Devo seguirla in qualche modo La dobbiamo trovare Ragazzi non c'è più Ragazzi guardate per terra Ci sono le impronte di Masha e Orso Le vedete sono qui Io le devo seguire assolutamente Se le seguiamo arriveremo sicuramente Nel nascondiglio segreto di Masha Guardate sicuramente dietro questo c'è spuglio Ragazzi ma quella è Masha Ricordo il giacchetto Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la tua vera faccia Vediamo Adesso ti smaschero Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio c'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guarda hai fame Orribile È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe dalla foto però Ci fanno queste vespe E vabbè delle api stavano raccogliando il miele E questi si spaventano Oh mio Dio si è aperta la finestra Lo sapevo che è entrato qualcuno No c'è qualcos'altro signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è? Sì Però l'acqua come l'ho toccata è esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma qua orse è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli giustamente È buio Io sento dei versi orribili sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'era è diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma raga mi sto Mi sto spaventando eh Direi di sì Masha che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai o lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di orsi Oh mio Dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No no Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me voi però eh Oh mio Basta non indago più Basta ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato orso? Con il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Agiwagi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene Adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Sì mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Guardate Orso Che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile Nella finestra Guarda Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male Per davvero Per favore Dici la tua età E per attivare L'easter egg Dobbiamo mettere L'età 666 Che non compare Il terzo 6 giustamente Ma per noi È come se fosse comparso Andiamo Eccoci Iscriviti e gioca Senza la pubblicità Oh Orso si sta davvero Trascurando Portalo alla doccia Così può lavar Grazie al cavolo Che orso si sta trascurando Con una roba come Masha Che cosa possiamo usare Per far fuori Masha Ci avranno fornito Qualche oggetto Ma quanto è brutta Masha Uh il cibo Vediamo Vediamo Forse riesco A farla avvelenare Allora questa carne Non mi sembra Che abbia un bel aspetto Buono Masha Mh ma è andata male A me non sembra Che ti faccia tanto bene Sto cibo Ma com'è già contenta È davvero buono Adesso è ora di giocare No Masha Anzi si Adesso è ora di giocare Dobbiamo cercare La bicicletta ragazzi Eccola Ragazzi anche a voi Masha ricorda Solo l'enigmista Così scrivetemelo Nei commenti Che sono curioso Ma dove è andata Masha Dobbiamo Dobbiamo correre più Veloci del panda Vai Masha Vai ti schianti Se la faccio schiantare Può fare una brutta fine No niente Non si è schiantata Speravo si schiantasse Invece è contenta Con una faccia un po' creepy Uh Chi è questa ragazzi Io non lo so chi è Forse ce la darà lei L'oggetto per far fuori Masha Una chiave Vediamo E ci sono altri due pacchetti regalo Con altre due chiavi Una è una pistola ragazzi Quindi forse effettivamente Ce l'abbiamo Degli oggetti per farla fuori E cosa me ne faccio Di questa roba Si è sbloccata la chitarra E adesso si sblocca anche la pistola Un aspirapolvere Possiamo sbloccare la prossima volta E una pistola non ad acqua Quanti oggetti che stanno comparendo Nella casa di Masha Ragazzi questo è Masha.ex Masha.ex deve andare in bagno ragazzi Sembra il bagno di Shrek Masha invece deve andare a dormire Vediamo se compare Masha.ex qua Lascia un mi piace iscritto dentro prossimi 3 secondi Oppure Masha.ex ti mangerà stanotte Guardate Orso che faccia orribile che ha Ce l'ha tolto per metterci tutte le animazioni Ma penso che voi lo abbiate visto Hai fame di Masha Orso? Andiamo a mangiarci Masha Oh c'era qualcuno dentro l'armadio L'ho visto eh Si era mosso l'armadio prima ragazzi Avete visto? Masha ha dormito Vieni Orso Andiamoci a mangiare Masha Guardate Orso Si avvicina molto Creepy E c'è la testa di Masha qua Tieni Orso Gnam Che verso orribile che ha fatto Ragazzi è stato spaventoso Secondo me alla fine sarà Orso che farà fuori Masha Dov'è Masha? Ciao Masha 1 e Masha 2 sono insieme Non credo che sia una bella situazione questa eh Credo che tu abbia bisogno di dormire Orso Vai buonanotte Ma non ha bisogno di dormire a quanto pare Ma chi è questo ragazzi? Masha deve far fuori una tigre Speriamo che però sia la tigre a far fuori Masha qui Si la bomba Vabbè ho capito Mi fai giocare e devi scassare le scatole ancora Abbiamo preso gli orsi cattivi che si introducono in casa nostra No quella è una bomba Guarda pure un leone c'è Abbiamo un sacco di nemici però Questo è l'importante Quindi Masha se non la facciamo fuori noi sicuramente qualcuno ci sarà che la fa fuori No ha preso la bomba Guardate lo schermo inizia a essere tutto rotto Mi sa che Masha sta soffrendo qua eh Per via della bomba Però abbiamo vinto Non credo che faccia ricadere lo sfondo Ragazzi? Avete visto cosa c'era nella foto? Masha non sta bene eh Guardate che c'è tutto cibo avariato Adesso glielo do Speriamo che si senta male stavolta eh Guarda hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto? Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe dalla foto però eh Oh mio dio Guardate nella televisione Si vede qualcosa Non so chi sia quello della televisione Però si vede qualcosa Se n'è andato Voglio vedere dagli occhi di orso Se qualcuno ci sta spiando Oppure dagli occhi di questa Masha strana Guardate Però mi sembra Guarda negli occhi Si è vista una faccia mi sa eh Guardate bene che in questa foto Si vede la faccia Anche il gioco me lo dice Sto facendo un ottimo lavoro Sto scoprendo delle cose Che non dovrei scoprire Mmm Sta pubblicità Però guardate Sembra tipo Masha Prima di diventare .exe Dopo .exe Cioè tipo l'evoluzione Alla fine ste pubblicità Non è vero che non servono a niente A te ti devo Vieni che ti curo Cosa facciamo Una bella puntura Totti da TV Questo e buonanotte Perfetto Stai bene adesso Benissimo Ma non hai fatto niente Come fa a essere completamente Pulisci Vabbè ti metto a letto Ogni volta che passo con orso Si vede qualcuno Che ti arriva da dentro l'armadio Allora nel gioco Sembra Masha normale Ma nella foto Che la rappresenta Cioè Masha .exe Secondo me questo Significa qualcosa Guardate qua dietro Sembra di vedere degli occhi In lontananza Però eh Sta arrivando Masha Quella cattiva stregona Te c'entri qualcosa Vero se riusciamo a prendere Tutti gli ingredienti Che ci servono Possiamo fare una roba Per curare Masha Come abbiamo fatto Per Tolkien Juan Una bella pozione di cura Uh lui aveva un cuore L'abbiamo preso Quindi il cuore ce l'abbiamo Ho vinto Guardate Masha .exe Con orso Che aspetta i regali E orso Sembra un po' Cattivo Non sembra contento Di questa cosa Vediamo I pattini abbiamo ricevuto Vedete che si muove Forse ci tengono qualcuno Si sentono anche Delle canzoncine strane Di sottofondo Prendiamo Masha streghetta Portiamola al cibo E vediamo di fargli fare Una bella pozione Vieni Perfetta Allora Usa il cuoricino E tira fuori Sta cavolo di boccetta Grazie Masha Per fare la pozione Ti do da mangiare Ma tu falla però È svenuta pure lei Ma mi sembra normale Che questi quando mangiano Svengono Ce l'abbiamo fatta? Guardate Le pozioni si stanno creando Si è creata la pozione Lei è svenuta Dalla paura della pozione Perché è molto strana Masha Bevi Ti sta cavolo di pozione E non scassare più Eccola la pozione Vai Masha Bevi Guardate i suoi occhi Stanno cambiando Sta tornando normale Sai qual è il libro Che tiene lontana Masha.exe Il nuovo libro di game time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti protegge da tutti i mostri E ti insegna a superare Le tue paure E ci sono anche Delle avventure epiche È tornata normale Per fortuna Anche se ha fatto Una luce verde Strana che sembra che puzza Ha distrutto ragazzi Il frigorifero Avete visto cosa aveva combinato Ad orso Masha Adesso sono tornati Tutti normali Eccoci Che è questo gioco Dove ci fa vedere La notte di Masha e orso Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Però intanto vi faccio vedere Il primo pezzo A Masha piace tanto disegnare Prima di andare a morire Ma chi è che sta parlando Come una madre russia Ho creato Un'ambulanza Sicuramente sarà per me Dopo la fine di questo video E c'è un lupo Che sicuramente sarò io Dopo la fine di questo video E ce n'è un altro ancora Stanno mangiando Quella è Masha ragazzi È solo l'interiore di Masha Se le stanno a mangiare Ma state scherzando È un gioco per bimbi Guardate che bello Cosa dovremmo disegnare Guardate che bel disegno Abbiamo completato La casa di Masha Ma cosa salti Non lo vedi che sotto il tuo letto C'è un mostro Cosa ridi A parte che anche sopra il tuo letto C'è un mostro Visto la faccia che ti hanno fatto Ragazzi è bruttissimo Guardate che brutto C'è il temporale Oh mio dio C'era Jeff the Killer Fuori Masha è scomparsa Oh io non ho visto dove è andata Forse voi lo sapete È andata da orso E allora va a svegliare orso Orso Non usa le candele Già paura di mio Poi usi le candele Per andare a trovare Jeff the Killer Ma usa qualcos'altro Guardate Era entrata una cosa Dalla finestra C'è una vespa Ma era entrato Jeff the Killer Cos'è successo questa volta Non lo so Signora russa Cosa ci fanno queste vespe E vabbè Le lapi stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che era entrato qualcuno No C'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è Sì Però l'acqua come l'ho toccata È esplosa Quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire Anche gli altri personaggi Ma cos'è questa risata orribile Bravo Mangiatene così Stai tranquillo Che devo fare Eh vabbè Ma chi è che è entrato dentro il frigo Ha fatto sto schifo però Non è che se il frigo era ridotto così Non potete Ecco Ora possiamo dormire Con queste bambole brutte Come la fame Guarda là Sono delle bambole maledette queste Dormi dentro il ca... Eh dormi qua Dentro il... Qua Dentro il cappello Coniglio Che devo fare i libri? Eh qui Dentro il cappello Te l'ho detto Sono più intelligenti di te Dormi dentro il cappello Vai coniglio Ciao Vai ti spengo la luce Perché se no Non ti lascia dormire Cioè dobbiamo aiutare A sopravvivere A Jeff the Killer Dobbiamo aiutare a sopravviverli Adesso faccio l'ultimo livello Poi ragazzi Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Questi sono degli scoiattolini Che dobbiamo fare? Guardate che faccio orribile Nella finestra Ma perché compaiono Ste facce? Sarà forse l'orario A cui sto giocando Che fa comparire sta roba? Perché sto giocando A luna di notte Oh Puliamo le fa... Questa qua con orso No Dammi quella con orso Che sono curioso di vedere Cosa è successo Guardate qua orso è spaventato Che è successo Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli Giustamente È buio Io sento dei versi orribili Di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando sentite Pensi che sopravviverai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con l'assenza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai tu iscritti Piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermare Sono una bambina molto molto cattiva Non è vero Non è vero perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Hello Sono tornato dal McDonald's King Burger Mega Galattico Perché ho preso Gli Happy Meal Di Masha e Orso Questo è l'Happy Meal Di Orso Non lo voglio Non voglio sapere Cosa c'è dentro E qua c'è l'Happy Meal Di Masha Che è molto carina Io direi Iniziamo subito Ad aprire l'Happy Meal Di Masha Perché forse è meglio Abbiamo anche la Coca Cola Che possiamo Con la cannuccia corta corta Che la possiamo bere dopo Ovviamente Magari dentro il nostro bicchiere Quello horror Quello qua Coiteschi Questo è Gianfranco Luigi Mattia E Antonella Perché non l'hanno messo Mi piace Quindi mettilo Perché se no farei questa fine Andiamo ad aprire L'Happy Meal Di Masha Ragazzi ma Guardate Si sono mossi gli occhi Si sono mossi gli occhi Di Masha Sei viva Ora non più sicuramente Andiamo ad aprirlo E vediamo cosa c'è dentro Ma è normalissimo ragazzi Prima volta che ordino Un Happy Meal Maledetto Ed è normale Abbiamo Guardate Abbiamo queste Che sono le nuggets Di pollo E poi abbiamo Le mega patatine Chips Ragazzi A questo punto Direi Lasciamo l'Happy Meal qua E andiamo subito A provare La mega Coca Cola Che sicuramente Sarà gustosa E sicuramente Voi non vedete l'ora Di vederla Ragazzi ma Mi è sembrato di sentire qualcosa Guardate là dietro Sembra che si vede un'ombra Ma dove c'è la porta Sembra che si vede un'ombra Forse è un effetto visivo mio Andiamo a vedere la Coca Cola Facciamo finta che Masha Non l'abbiamo vista Se l'hai vista Scrivilo nei commenti Facciamo finta di niente Ok proviamo Ragazzi Ragazzi è tutto buono Per una volta Ma che forza Oh mio Dio Ragazzi che botta Sto bene Raga Oh mio Dio Oh mio Dio Guarda È cambiato È un altro Happy Meal Scusa se t'ho sputato Ma sono spaventato È un altro Happy Meal Ma state scherzando Ma non è credibile Sta cosa Guarda Ha gli occhi diversi Adesso Oh mio Dio Sei mai sentirla ridere quasi Vero Ok apriamo Ecco l'Happy Meal Guardate Ora lo apriamo Questa era la giusta punizione Per non aver usato Il nostro bicchiere fantomatico Della gente che non metti mi piace Andiamo ad aprire l'Happy Meal E vediamo cosa c'è dentro stavolta Raga C'è quello che mi manca Un cervello Forse il cervello di orso Può essere un cervello di orso Grande così Tra l'altro Non è fresco È duro L'ha fatto fuori Prima di venire qua Guarda È bruttissimo Sembra Impacchettato da qualcuno di orribile No io non ce la faccio ragazzi Raga non ce la faccio A me fanno paura A me fanno paura i ragni Guarda Ci sono finti per fortuna Però mi fanno paura Fate cacare Brutti esseri orribili E ci sono le sue ragni A tele con i figli Guarda C'è il mondo Ma perché hanno fatto tutto questo Non dirmi che Ma questi mi sa che sono di mascia Hanno litigato mascia e orso Mi sa Non sono stato io polizia Se stai guardando sto video Me l'hanno mandato Guarda Deve essere stata Deve essere stato orso Magari Marsha l'ha fatto andare di fuori Lui ha detto Basta Infatti in questa foto Non è che sia tanto carino Da vedere Poi abbiamo Un altro dito di Marsha Poi abbiamo Delle pozioni horror Questo abbiamo proprio Buttolo via Guarda Sono pozioni horror Io non ne provo neanche una Ma se raggiungiamo il mille Mi piace le provo E questo chi sembra Sembra lo zio fester Ma non hai capelli Devono essere delle pozioni maledette Queste Guardate come si muovono tutte Questo ragazzi Sappiamo che cos'è Non lo posso dire Perché youtube è cattivo Ma sappiamo cos'è Poi c'è Aia Questo è vero però Avete visto i denti rossi Guarda cosa mi ha fatto Che schifo Speriamo che non sia venenoso Secondo voi che tipo di ragno è Secondo me è il ragno tombino Sono quei ragni che arrivano da dentro i tombini E ti fanno bucettete Fanno schifo sti ragni Adesso mettiamo tutta la roba che non ci serve dentro Tanto questo l'abbiamo visto Passiamo al prossimo happy meal Che è quello di orso Raga Ma si sente ridere Oh mio dio ragazzi Sembra che c'è il terremoto Guardate No raga non è normale Guarda C'è Masha C'è Masha L'ho ripresa ragazzi L'ho ripresa Ce l'abbiamo fatta Riprendere Masha.ex Però è vero Mi sono scassato Perché la coca cola di quell'happy meal Ecco perché si è arrabbiata così E dobbiamo berla qua Perché io ve l'avevo promesso Che l'avrei bevuta qua Quindi Guardate Non ha un bel aspetto Guardate ragazzi Questa potrebbe essere una pozione È brutta È orribile Io la vado a bere Siete pronti? 3 2 1 Sì 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 Guardate ragazzi Guarda Il naso Un'altra volta Ha fatto di nuovo questa cosa Guarda Con il naso che va a giro È bruttissimo Sto effetto ragazzi Guarda Oh mio dio Sembro Dumbo Guardate Se non ti scrivi Non lasci mi piace Nel prossimo 3 secondi Vengo in casa tua stanotte Con un'arma da fuoco Nuove pill Questa volta invece abbiamo orso E infatti ragazzi Dentro ho trovato questo Fuori ho trovato questo E guardate Sono gli action figure di FNAF Perché l'ho trovato proprio nell'Happy Meal di orso secondo voi? Perché c'è anche lui C'è anche lui E io giustamente ho trovato il mio preferito che è Foxy Ma quello è un castoro È un castoro Vabbè È il chip Ragazzi fatemi sapere qual è il vostro animatronics preferito nei commenti Il mio è Foxy Ma non fatevi influenzare Perché ad altri potrebbe far brutto E questo ragazzi ce l'ho davvero È il mio pappagallo Chris Oh mio dio Mi è sembrato di sentire qualcuno che si muoveva Tu stai qua Anzi guarda Guardatelo attentamente Perché a me ogni tanto sembra che si muove Non lo so se vedete se gli si muovono gli occhi o qualcosa A me ogni tanto sembra che si muove lui Boh Lo terremo qua Lo terremo qua in bella vista E andiamo avanti con gli Happy Meal Ma prima Se vuoi sopravvivere a tutti i mostri E non essere mangiato da Mascio.exe stanotte Compra il nuovo libro di Game Time In che trovi in libreria In link in descrizione Ci sono tutti i segreti Su come faccio a sopravvivere ai mostri E come sopravvivere alle tue paure Mi raccomando link in descrizione In libreria Richiedi la scuola dei mostri Apriamo l'Happy Meal Non vi ho ancora fatto vedere niente Abbiamo Guardate Sono le chicken nuggets Di prima Sono checiappate Di umani E poi abbiamo anche Cioè Sono mangiate No però Io pago E io pago E io pago E io pago Cioè Ragazzi queste Allora non so voi A me non sembra pollo Però Non so da dove arrivi sta roba Ma non mi sembra pollo E questo non mi sembra ketchup O è un pollo di tre giorni Ma guardatevi dentro È strano Sembra più gatto Ragazzi Cioè Non l'ho mai mangiato Non l'ho mai mangiato eh Non mi sono mai informato Però Ragazzi questo mi sa che è un occhio eh Lo mangio Ma voi dovete lasciare mi piace Perché se no mi sento male eh Tre Due Uno Che schifo E poi mi fanno anche Le pubblicità del McDonald's Alle tre di notte Dove c'è uno che fa Questo è il My Selection Vieni a provarlo E poi ci trovi sto schifo dentro Scusatemi Io vado avanti Patatine Di quattro giorni fa Non so se neanche se sono patatine Se sono pezzi di legno Travestiti da patatine Anche qua ketchup Si vedono anche i nervetti Ragazzi Oltre quelli che mi stanno salendo A me a mangiare Questo schifo Aia Raga fa malissimo sta roba Fa malissimo sta roba Raga mi sento qualcosa che mi scorre Oh cavolo Non mi dire di nuovo Eh che l'ha rifatto Spero di essermi tolto tutto Non mi dire che l'aveva rifatto di nuovo Anche l'altra volta ha fatto uguale Masha Secondo voi ce l'ha preparata Masha sta roba? Ragazzi mi ero scordato una cosa da parte C'era veramente anche lui Sono stupido Me l'ero scordato E c'è veramente Freddy ragazzi Di FNAF perché è l'Happy Meal degli Orsi Il prossimo Happy Meal potrebbe essere quello di FNAF Vado ad aprire L'ultima cosa del nostro Happy Meal Che è questo A molti di voi potrà sembrare un occhio vero Ma sappiamo benissimo che non è così Sappiamo bene che questi sono i famosi trolli Infatti quest'occhio non è vivo Non si muove Ma che E invece si è mosso O è una mia impressione o si è mosso Forse mi hanno stordito un pochino le caramelle dentro l'Happy Meal Ragazzi guardate Si muove però non si apre questa roba E allora io la lascerei qua Direi di andare a provare la Coca Cola Di quest'altro Happy Meal Non credo che ci faccia un bel effetto Ma io la provo uguale Tanto oramai siamo in ballo per giocare Direi ragazzi che per oggi Gli Happy Meal di Masha e Orso sono fini Mi sta suonando il telefono E Masha rispondo Ciao Masha Ciao ho mangiato i miei repi Non è vero? Si Masha che l'ho mangiato Era molto disgustoso Ma tu adesso cosa vuoi da me? Ma sai cosa voglio? Ciò che tu qualche volta non mi hai dato Io voglio una tua anida E come pensi di prendertela se io non te la do? La vedrai molto presto Imparo a guardarti in alto Gli è tanto Cosa intendi Masha? Ha attaccato ragazzi E' veramente incredibile sta qua eh Ragazzi ma Masha cosa è intendi Oh mio Dio Se ne è corsa via Non avete visto che è piombata dal tetto? No raga dove cavolo se ne sarà andata? Oh mio Dio Dove caspita se ne è andata Masha.ex? Secondo me è andata di qua Andiamo ragazzi Si è pure presa il mio pappagallo Voi non l'avete mai visto E non siete neanche riusciti a vederlo Sto oltre che se l'è preso Secondo me nelle vicinanze pronti eh 3 2 1 Eccola No Non è qua Allora significa che Secondo me se ne è andata in camera ragazzi Andiamo Sentite come ride Se la sta ridendo questa sotto i baffi Dov'è? Cosa intendi per guardarmi Oh no Era lì sotto Gli ulli che si sentono Lo show continuerà a coro senza di te Maggiorate amici uno ad uno Dopo di te E poi faccio i tuoi iscritti piano piano Conquisterai un mondo Oh mio dio è passato Guarda cosa mi ha fatto Video chiama Masha.ex Ti prego rispondi Masha Non vedo l'ora di parlarti Non risponde ragazzi Ho aspettato 30 secondi buoni Ancora non ha risposto Dai Masha rispondimi Ti prego Voglio parlare con te Voglio scoprire i tuoi segreti Ma mi è sembrato di sentire un sussurro Sembrava che sussurrava I see you Ma se non ha risposto come faccio a sentirlo? Mi ha attaccato Sta scrivendo però L'abbiamo disturbata bene questa volta La devo videochiamare assolutamente Voglio scoprire i suoi segreti Pensavi che ti avrei risposto Mi dispiace per te Ma non rispondo quando vuoi tu Peperina E allora cosa posso fare Per farmi rispondere? Masha Ho qualcosa da proporti di interessante Dovrei videochiamare anche Orso Potrei provare a videochiamare lui Effettivamente adesso Magari se prendiamo lui come ostaggio Lei ci risponde Mi ricordo bene chi sei E non ho intenzione di assecondarti Ma magari Orso sì Perché non provi a videochiamare lui Eccoci Videochiamiamo Orso Che faccia orribile che ha ragazzi Questo è Orso nella vita reale Ragazzi mi ha risposto Ma questi sono episodi di Masha e Orso messi strani Ragazzi ha risposto Guardate gli episodi di Masha e Orso Ci sono delle parole che accompagnano su schermo Orso Povero Orso Era un orso felice prima del mio arrivo Che cosa significa? E continua a glicciare tutto strano Poi è diventato un bambino cattivo Orso non è cattivo Sei tu che gli fai due maroni così in Masha Se è lei che sta parlando Secondo voi chi sta parlando? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Molto cattivo Dovevo fare qualcosa Guardare la tv Masha no? È questo che succede ai bambini cattivi Che intendi? Masha oh mio dio Ragazzi guardate Oh mio dio Gli urli che si sentono Che fine avrà fatto Orso? Dovevo fare qualcosa Orso stai bene? Orso Basta Ci sarà la luce dietro L'avete visto? Mi sono spaventato di brutto Si è accesa da sola Si accende e si spenge Guarda Guarda dietro Si accende e si spenge La vedete? Io sono fermo Si accende e si spenge Ha smesso? Adesso rimane accesa Mi sono spaventatissimo La chiamata è terminata Sta scrivendo Orso Ma non l'ha fatto fuori ragazzi Non è strana questa cosa che ha scritto Orso E infatti è lei Non ha fatto una bella fine Se vieni ti spiego perché Masha sei molto cattiva oggi Perché ha fatto questo secondo voi? Questa è una foto di Masha? Questa è una foto di Masha ragazzi Se questo è Masha.ex Valigine Ce ne andiamo in spiaggia ragazzi Lasciamo No a parte c'è la neve in spiaggia adesso Lasciamo tutto ai professionisti Io non mi intrometto Mi dispiace Perché hai fatto tutto questo Masha? Dobbiamo capirlo ragazzi Perché se no non capiremo mai Perché lei fa questo Hai visto che fine fanno i bambini cattivi? È la stessa fine che farei tu Masha Perché tu sei una bambina cattiva Secondo voi Masha è buona cattiva? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Mi raccomando Dobbiamo indagare su questa cosa tutti insieme Perché più siamo e meglio è Credo di sapere come possiamo risolvere le nostre divergenze Ti sfido a fare due cose Se le farai bene Ti videochiamerò Ci stai? Cioè te? Non ti conosco neanche Mi vuoi sfidare? No No che non mi faccio sfidare da Masha Che magari mi sfida a fare cose orribile Non dovete accettare mai le sfide di chi vi scrive Se Masha.exe vi scrive Non gli rispondete Io lo sto facendo per farvi vedere che cosa fa Ma non gli rispondete voi Credi che io non sia abbastanza potente? Non l'ho mai detto È proprio per quello che non accetto Perché ho paura della sua potenza Ti ho ferito senza nemmeno toccarti Non è vero ragazzi Io non sento niente Non mi hai ferito Masha Non mi sembra che mi abbia fatto qualcosa Siamo seri? Scusate il taglio Sono dovuto andare a lavarmi la faccia Mi sono spaventato ragazzi Mi sono spaventato Chissà la quanta che ce l'avevo questa cosa Bene Perfetto La prima sfida che ti do È di mangiare quel cioccolatino Che trovi in salotto sul tavolo Vicino ad una boccetta Prendi pure quella Che dopo ti servirà Scritto malissimo Va bene A bambina ragazzi Andiamo Sono andato in salotto E ho trovato il cioccolatino Con questo Guardate Che orribile Un bicchiere con dei teschi Cosa significa ragazzi? Questo significa Iscritti lascia mi piace Oppure verrò a mangiarti stanotte Masha ho fatto tutto quello che mi avevi chiesto E ora? Voglio sapere da dove partire Perché è un'indagine da fare Brava Adesso mangia Sono diventata game time Ma non game time adesso Sono diventato femmina Scusa Quanto sei fiscale Con i diavoletti Il cioccolatino in questione è questo Io lo vado ad assaggiare Guardate Allora vado Mi raccomando E mi piace per questa cosa Ha una cosa strana dentro Guardate Sopra in alto Ha una cosa strana Sa di spugna Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi hai riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovaiolo Ma è normale Masha sei normale A fare una cosa del genere? Ovviamente no Perché è una bimba cattiva ragazzi Noi lo sappiamo benissimo Bene Sono contenta per quello che ti è successo alla lingua Parli troppo Adesso bevi la fiala No che non la bevo Dammi un motivo per farlo Il motivo potrebbe anche essere che viene a farmi fuori Guardate ragazzi cosa c'è dentro la fiala È orribile Guarda Questo ragazzi diventerà il nostro bicchiere per le pozioni eh A me non me ne frega niente Se volete le pozioni scrivetemelo nei commenti anche di chi le volete Ma questo qua diventa il mio bicchiere per le pozioni Non me ne sbatte niente Vado eh Sapeva di plastica ragazzi Non bevete mai la plastica mi raccomando Perché sennò vi fa male Oh mio dio Oh mio dio guardate Oh mio dio guarda il naso Ma smetterà prima o poi vero? Dovrebbe smettere Ragazzi credo che questa roba qua faccia degli effetti troppo strani Ha smesso mi sa Ma mi sembra di vedere qualcuno dietro Non c'è nessuno Ma a me sembra di vedere qualcuno Se l'avete visto voi scrivetemelo Mi raccomando Mi sembra di aver visto qualcuno È stato troppo spettacolare Adesso riceverai il tuo premio Quale sarebbe? La videochiamata forse finalmente? Ma che Che vabbè però Dai Mercoledì Sì vabbè Mi confondo pure se tu tutti uguali Brutti come la fame e cattivi Spaventato dovresti E tu dovresti fare un riposino Non è l'ora del riposino Le tre di notte Che poi tra l'altro qua fuori C'è gente che tiene la luce A palla delle macchine Sembra giorno Ragazzi ci sta videochiamando Oh mio dio Sono pronto Sono pronto Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate Ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite Pensi che sopravviverai sempre? No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi? Quale gioco? Ma di che parla questa? Lo show continuerà Con o senza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerei tu iscritti Piano piano Conquisterai il mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse sta esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermarmi Sono una bambina Molto molto cattiva E sono dietro La parte di casa tua Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Sei soddisfatto Della videochiamata? Non è finita Io sono qui Per un motivo ben preciso Rompere le scatole Masha Ci sei riuscita perfettamente Che crudeltà Che ha questa ragazzi Sono qui per la tua anima Sono molto ansioso Di prenderla Ma sono Ma sono solo una ragazzina Non posso sporcarmi io le mani Cosa intendi? Ci sta mandando un sicario? Lo farà Orso per me Senti dei rumori in casa? Avete sentito? No raga Mi sto Mi sto spaventando eh Direi di sì Masha Che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di Orso Oh mio Dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla? Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porca Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me Voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato Orso? Con il nuovo libro di GameTime Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Agiwagi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Si mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarò diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la povera faccia Andiamo Ragazzi ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha In casa mia? Masha e orso ripresi nella vita reale E questo è un video Che viene da una videocamera Di sorveglianza Di un negozio Sono videocamere Che riprendono a frame E come vedete C'è qualcuno di molto simile a Masha Che si appresta ad entrare Nel negozio Altri video in questo periodo Sono stati diffusi In rete Ma sono tutti video Fatti da telecamere Che vanno a fotogrammi Come questo per esempio Che sta riprendendo La porta di casa sua E si vede una persona Che assomiglia tantissimo A Masha Che si avvicina La porta di casa sua Bussa E se ne va via Alle 3 di notte Io però ho scoperto Tramite il dark web Un modo per evocare Masha e orso Nella vita reale Una candela Rigorosamente Per far partire queste cose Un vasetto di miele Per orsi E anche un foglio Per le risposte Perché se non riesce A comunicare con la voce Lo farà Con le cose paranormali Ed io oggi Voglio che seguiate il video Fino alla fine Perché voglio smascherare Masha Perché secondo me Non è la vera Masha Quella che si aggira Nella vita reale Secondo voi chi è? Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Mi sta arrivando Una videochiamata Pronto Masha Da quanto tempo Che non ti sento Hai delle novità Per me? Sì Masha Che ho delle novità Per te Ho preso la tua pozione Dal dark web E ti voglio Evocare nella vita reale Tu sei disposta A venire fin qua? Stavolta Fai sul serio Vedo Allora farò anche io Sul serio Sai Fino ad oggi Non mi sono mai mostrata Per quella che sono Davvero Cosa intendi Masha Che non ti sei mai mostrata Per quella che sei? Non mi dire Che c'è nascosto altro Lo so Sono spaventosa Ma non guardarmi Lo hai fatto lo stesso E adesso Mi hai costretto A venire a mangiarti Io non sono un cibo Masha Attaccato Ma questa minaccia Se ne va Lasciamo perdere Le minacce di Masha Adesso l'importante È verificare Che non sia già Dentro casa nostra Perché potrebbe Già essere entrata Vediamo se effettivamente Masha è entrata In casa nostra E se effettivamente Ha fatto quello che ha detto Ok ci siamo Ragazzi sul tavolo Ci sono delle cose Che io non avevo visto prima Sul tavolo Come potete vedere Abbiamo la pozione di Masha Che è blu E non mi chiedete il perché Non lo so È un mistero anche per me Nella vita non si può sapere tutto Ma si possono imparare Più cose possibili Oltre questo Abbiamo il miele Che per orso Il miele È come l'orsacchiotto Di Granny Guardate Sentite I battiti di orso Lo devo lasciare Perché se no arriva orso I battiti di orso Ci sono Poi abbiamo La candela Che a quanto pare Qualcuno ce l'ha già portata Qui Ho portato Il foglio Per le domande E abbiamo anche I panini Con ketchup Umano Voi sapete che cosa intendo Queste sono tutte cose Che sicuramente Arrivano dal dark web Ma una tra tutte Mi interessa di più Ed è la pozione di Masha Perché tramite questa Si attiverà tutto Quindi io direi Beviamola E vediamo cosa succede Vado eh La vedi la mia testa da teschio Se non lasciami pace Non ti scrivi in tre prossimi Tre secondi Masha.exe Ti mangerà stanotte Era un filtro quello Stavo scherzando Per il momento Non ha avuto effetti particolari Raga La mano Guarda la mano È rossa Si è andata Oh mio Raga Mi sa che Il veleno può essere blu Secondo voi Non è che mi ha avvelenato questa Sto un po' meglio ragazzi Ragazzi Questa è l'allarme di casa Questa è l'allarme di casa Raga C'è accesa la tv C'è l'allarme di casa È partito Che c'è scritto Allerta Intruso rilevato dal sistema Di sicurezza della casa Le autorità sono state avvertite Arriveranno tra 30 minuti Nel frattempo Nascondetevi E funziona anche se Non c'è l'audio Funziona ancora Questo significa che c'è qualcuno in casa Ma io non ho visto nessuno Voi avete visto qualcuno? O mio Dietro forse? Secondo me lei è da qualche parte Io non l'ho vista Se voi l'avete vista Scrivetemelo nei commenti Ragazzi Ma voi veramente vi pensate Che mi mangio questa roba? Ma non è che credete Di chiedere un po' troppo? Cioè Io questa roba Non la tocco Ma neanche se mi paga Ragazzi Ma è Masha È quella vera Che ci fa Masha Che ci fa Masha in casa mia? Secondo me è venuta L'hai letto il mio libro? Ragazzi Non risponde Mi sa che non lo apprezza Lo sapevo che li aveva fatti lei Mmm Sono proprio buoni Se quando li ho finiti Se quando li ho finiti Non mi risponde Ragazzi Li rifaccio ingoiarle L'ho finito Masha Ma Masha dove è andata? Ma fino al secondo fa era lì Ma questa statica non si toglie Raga ma è partita Masha È partito il cartone di Masha Lei non è più lì Ma è qui Avete visto gli occhi di Masha Come erano diventati? Tornate nei secondi video Per vederli Se non l'avete visti Ma che cavolo sta succedendo stasera? Si è spinta Sta chiamando E mi è partita da sola ragazzi Ciao Frostinox Perché mi hai videochiamato? Siamo su Discord Ragazzi non mi sente? Però mi senti? Ma che ho dei problemi io ragazzi E non so il perché Mi è partita sta videochiamata davvero La sua videocamera ha glicciato Ma non mi sente? Ragazzi scrivetegli qualcosa anche voi Non mi sente Ma che è successo? Che è successo? Ragazzi continua a non sentirmi Sta parlando da solo Ma non è che Mi è sembrato di vedere qualcosa dietro eh Mi è sembrato di vedere qualcosa Non sono sicuro Ti ha lampeggiato la luce Guardati dietro Guardati dietro Oh mio Dio raga guardate Cosa cavolo è successo? Io spero Spero che non arrivi anche qua E la chiamata si è interrotta Secondo me cosa gli ha fatto? Io non credo che abbia fatto una bella fine Oddio Hai visto? Torna dietro con i video se non l'hai visti C'erano due occhi qua che si illuminavano Io li ho visti dalla telecamera Li ho visti qui Che sia lei che è diventata indemoniata adesso Mi sta videochiamando di nuovo no? Devo rispondere però Anche se ho paura devo rispondere Ok rispondiamo Hai lasciato che i tuoi amici venissero mangiati Ma non ti senti nemmeno un po' in colpa? Sei stato lì senza fare niente Ma se non potevo fare niente Eravamo in videochiamata Masha Mi hai tenuto con le mani legate Gli hai fatto tutto in videochiamata In modo che io non potessi fare niente Quindi cosa vuoi da me adesso? Adesso però è il tuo turno Non sono qua perché me lo hai chiesto tu Sono qua perché io voglio mangiarti Voglio sacciarmi E tanto che non faccio un pasto Tu provaci Ma io ti smaschererò prima Perché devo scoprire chi sei in realtà Lo farò e ti smaschererò davanti a tutti quanti Adesso vedremo cosa sai fare contro di me Che intendi? Raga Ha attaccato Dobbiamo andarla a cercare ragazzi A questo punto Non ci ha lasciato altra scelta Ricordati che il libro tu lo trovi in libreria Nel link in descrizione La scuola dei mostri Ti protegge da tutti i mostri Ragazzi secondo me non è tanto lontana Masha Raga Raga era dietro Era dietro Io me ne vado qua Spero che non ci abbia visti Dobbiamo scoprire che cosa ha in mente Ragazzi Masha è uscita Dobbiamo assolutamente scoprire chi è Io la devo inseguire Chissà dove si è cacciata Masha ora Ragazzi è dietro avete visto Guardate se ne va se ne va Devo seguirla in qualche modo La dobbiamo trovare Ragazzi non c'è più Ragazzi guardate per terra Ci sono le impronte di Masha e Orso Le vedete sono qui Io le devo seguire assolutamente Se le seguiamo arriveremo sicuramente Nel nascondio segreto di Masha Guardate sicuramente dietro questo c'è spuglio Ragazzi ma quella è Masha Riconosco il giacchetto Questa è Masha Adesso ce l'ho fatta Adesso voglio vedere la tua vera faccia Vediamo Adesso ti smaschero Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio c'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guardala hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe dalla foto però eh Ci fanno queste vespe E vabbè Delle api stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio Dio si è aperta la finestra Lo sapevo che è entrato qualcuno No c'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è? Sì Però l'acqua come l'ho toccata È esplosa quindi Ancora la finestra che si apre Cos'è? Si muoveva il mobile C'era un occhio dentro No raga però Non mi puoi dire che non è niente Oh che cosina interessante Che cosina interessante Lo so signora russa Ma magari non alle 3 di notte Perché rischi di trovare hit Orso si è già addormentato Perché che sfortuna che è successo Non è un canale adatto a Masha vero? Ora trova un horror Quanto ci scommettete ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire anche gli altri personaggi Ma qua Orso è spaventato Che è successo? Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli giustamente È buio Io sento dei versi orribili sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è? Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma raga mi sto Mi sto spaventando eh Direi di sì Masha Che li sento Bene È stato velocissimo Adesso vai O lui Ti troverà subito Ragazzi lo sentite? Ma mi sembra di sentire versi di Orso Oh mio Dio è passato È passato dalla sala Ma come cavolo fa? Non mi ha distrutto niente No no Ho un orso dentro la casa E non mi ha distrutto nulla? Ma questo è finto Non può essere un orso vero Sarà uno travestito Però è troppo reale raga Non mi sembra uno travestito Dentro la camera? Sentite che ci sono rumori? Devo trovare il tasto della luce Porcavoli Che cos'è sta cosa che mi tira? Lasciami Lasciami Orribile Guarda cosa mi ha fatto Di nuovo Ancora Ma ce l'avete sempre con me voi però eh Oh mio Basta Non indago più Basta Ti chiudo qui dentro Buonanotte Mi chiudo qui Guarda cosa mi ha fatto Mi sa che se n'è andato via Ok torno in camera allora Prima che ritorna mi fa male Mi chiudo qui dentro Non può sfondare la porta in tempo Sai come ho fermato Orso? Con il nuovo libro di GameTime Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti permette di sopravvivere A tutti i mostri E ti insegna tante cose epiche C'è pure il fratello segreto Di Agiwagi Ti consiglio di correre A prenderlo in libreria Sono tornato mercoledì Masha scusate Mi confondo Iniziano uguali E sono brutte uguali Sei tornato Non ha portato a termine Il suo compito Vero? Bene Adesso ti faccio vedere io Un altro episodio di Masha e Orso No ne ho visti anche troppi Masha Non ci tengo a vedere Un altro episodio di Masha e Orso No ragazzi Guardate cosa ha fatto il tablet Sta sgocciolando roba So che il sangue non ti piace Ed è proprio per questo Che ti obbligo a vederlo Smettila Masha Smettila Ci tortura psicologicamente Così io non lo guardo Sì mi obblighi Io se sto così come mi obblighi Però devo leggere i messaggi Continua Continua a guardarlo Ma come scrivi Masha? Io guardo la tua carigrafia Mi fai tu sanguinare gli occhi Scrive malissimo ragazzi eh Oh si è rotto il tablet Beh è tempo scaduto Cioè Prima mi spacchi il tablet E poi te ne vai così Tutto questo ragazzi è incredibile Perché sarà diventato io Masha.ex E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga a mangiare Guardate Orso che faccia orribile che ha Oh mio Dio C'era Jeff the Killer fuori Guardate che faccia orribile nella finestra Guarda ma hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Per favore dici la tua età E per attivare l'easter egg Dobbiamo mettere l'età 666 Che non compare il terzo 6 giustamente Ma per noi è come se fosse comparso Andiamo Eccoci Iscriviti e gioca senza la pubblicità Oh Orso si sta davvero trascurando Portalo alla doccia così può lavorare Grazie al cavolo che Orso si sta trascurando Con una roba come Masha Che cosa possiamo usare per far fuori Masha Ci avranno fornito qualche oggetto Ma quanto è brutta Masha Uh il cibo Vediamo vediamo Forse riesco a farla avvelenare Allora questa carne non mi sembra che abbia un bel aspetto Buono Masha Mmm Ma è andata male A me non sembra che ti faccia tanto bene sto cibo Ma com'è già contenta È davvero buono Adesso è ora di giocare No Masha Anzi si Adesso è ora di giocare Dobbiamo cercare la bicicletta ragazzi Eccola Ragazzi anche a voi Masha ricorda solo l'enigmista così Scrivetemelo nei commenti che sono curioso Ma Dove è andata Masha Dobbiamo Dobbiamo correre più veloci del panda Vai Masha Vai ti schianti Se la faccio schiantare può fare una brutta fine No niente Non si è schiantata Speravo si schiantasse Invece è contenta con una faccia un po' creepy Uh Chi è questa ragazzi Io non lo so chi è Forse ce la darà lei l'oggetto per far fuori Masha Una chiave Vediamo E ci sono altri due pacchetti regalo Con altre due chiavi Una è una pistola ragazzi Quindi forse effettivamente ce l'abbiamo degli oggetti per farla fuori E cosa me ne faccio di questa roba Si è sbloccata la chitarra E adesso si sblocca anche la pistola Un'aspirapolvere Possiamo sbloccare la prossima volta E una pistola non ad acqua Quanti oggetti che stanno comparendo nella casa di Masha Ragazzi questo è Masha.ex Masha.ex deve andare in bagno ragazzi Sembra il bagno di Shrek Masha invece deve andare a dormire Vediamo se compare Masha.ex qua Lascio mi piace scritto entro prossimi 3 secondi Oppure Masha.ex ti mangerà stanotte Guardate Orso che faccia orribile che ha Ce l'ha tolto per metterci tutte le animazioni Ma penso che voi lo abbiate visto Hai fame di Masha Orso? Andiamo a mangiarci Masha Oh c'era qualcuno dentro l'armadio L'ho visto eh Si era mosso l'armadio prima ragazzi avete visto Masha ha dormito Vieni Orso Andiamoci a mangiare Masha Guardate Orso Si avvicina molto creepy E c'è la testa di Masha qua Tieni Orso Gnam Che verso orribile che ha fatto Ragazzi è stato spaventoso Secondo me alla fine sarà Orso che farà fuori Masha Dov'è Masha? Ciao Masha 1 e Masha 2 sono insieme Non credo che sia una bella situazione questa eh Credo che tu abbia bisogno di dormire Orso Vai buonanotte Ma non ha bisogno di dormire a quanto pare Ma chi è questo ragazzi? Masha deve far fuori una tigre Speriamo che però sia la tigre a far fuori Masha qui Sì la bomba vabbè ho capito Mi fai giocare e devi scassare le scatole ancora Abbiamo preso gli orsi cattivi che si introducono in casa nostra No quella è una bomba Guarda pure un leone c'è Abbiamo un sacco di nemici però Questo è l'importante Quindi Masha se non la facciamo fuori noi Sicuramente qualcuno ci sarà che la fa fuori No ha preso la bomba Guardate lo schermo inizia a essere tutto rotto Mi sa che Masha sta soffrendo qua eh Per via della bomba Però abbiamo vinto Non credo che faccia ricaricare lo sfondo Ragazzi Avete visto cosa c'era nella foto? Masha non sta bene Guardate che c'è tutto cibo avariato Adesso glielo do Speriamo che si senta male stavolta eh Guardala Hai fame to Orribile Mmm È svenuta Ragazzi si è sentita male per davvero Ma si è andata Cosa gli trascino Che non esiste più questa Che ha fatto una brutta fine Ragazzi avete visto che fine brutta ha fatto? Si sta ricaricando però Quindi Masha può tornare in vita Ma sembra che si sta caricando Masha.exe dalla foto però eh Oh mio dio Guardate nella televisione Si vede qualcosa Non so chi sia quello della televisione Però si vede qualcosa Si è andato Voglio vedere dagli occhi di orso Se qualcuno ci sta spiando Oppure dagli occhi di questa Masha strana Guardate Però mi sembra Guarda negli occhi Si è vista una faccia mi sa eh Guardate bene che in questa foto Si vede la faccia Anche il gioco me lo dice Sto facendo un ottimo lavoro Sto scoprendo delle cose Che non dovrei scoprire Mmm Sta pubblicità Però guardate Sembra tipo Masha Prima di diventare .exe dopo .exe Cioè tipo l'evoluzione Alla fine ste pubblicità Non è vero che non servono a niente A te ti devo Vieni che ti curo Cosa facciamo Una bella puntura Totti da TV Questo e buonanotte Perfetto Stai bene adesso Benissimo Ma non hai fatto niente Come fa a essere completamente Pulisci Vabbè ti metto a letto Ogni volta che passo con orso Si vede qualcuno Che ti arriva da dentro l'armadio Allora nel gioco Sembra Masha normale Ma nella foto che la rappresenta C'è Masha.exe Secondo me questo significa qualcosa Guardate qua dietro Sembra di vedere degli occhi In lontananza però eh Sta arrivando Masha Quella cattiva stregonna Te c'entri qualcosa vero Se riusciamo a prendere Tutti gli ingredienti Che ci servono Possiamo fare una roba Per curare Masha Come abbiamo fatto Per TolkienJuan Una bella pozione di cura Uh lui aveva un cuore L'abbiamo preso Quindi il cuore ce l'abbiamo Ho vinto Guardate Masha.exe Con orso Che aspetta i regali E orso Sembra un po' Cattivo Non sembra contento Di questa cosa Vediamo I pattini abbiamo ricevuto Vedete che si muove Forse ci tengono qualcuno Si sentono anche Delle canzoncine strane Di sottofondo Prendiamo Masha streghetta Portiamola al cibo E vediamo di fargli fare Una bella pozione Vieni Perfetta Allora Usa il cuoricino E tira fuori Sta cavolo di boccetta Grazie Masha Per fare la pozione Totti Da da mangiare Ma tu falla però È svenuta pure lei Ma mi sembra normale Che questi quando mangiano Svengono Ce l'abbiamo fatta Guardate Le pozioni si stanno creando Si è creata la pozione Lei è svenuta Dalla paura della pozione Perché è molto strana Masha Bevi Ti sta cavolo di pozione E non scassare più Eccola la pozione Vai Masha Bevi Guardate i suoi occhi Stanno cambiando Sta tornando normale Sai qual è il libro Che tiene lontano A Masha.exe Il nuovo libro di Game Time Che trovi in libreria Nel link in descrizione Che ti protegge da tutti i mostri E ti insegna a superare Le tue paure E ci sono anche Delle avventure epiche È tornata normale Per fortuna Anche se ha fatto Una luce verde Strana Che sembra che puzza Ha distrutto ragazzi Il frigorifero Avete visto cosa aveva combinato Ad orso Masha Adesso sono tornati Tutti normali Eccoci Che è questo gioco Dove ci fa vedere La notte di Masha e orso Lo continuiamo Nei prossimi video Se vi interessa Però intanto Vi faccio vedere Il primo pezzo Ma chi è che sta parlando Come una madre russia Ho creato Un'ambulanza Sicuramente sarà per me Dopo la fine di questo video E c'è un lupo Che sicuramente sarò io Dopo la fine di questo video E ce n'è un altro ancora Stanno mangiando Quella è Masha ragazzi È solo l'interiore di Masha Se stanno a mangiare Ma state scherzando È un gioco per bimbi Guardate che bello Cosa dovremmo disegnare Guardate che bel disegno Abbiamo completato La casa di Masha Ma cosa salti Non lo vedi che sotto il tuo letto C'è un mostro Cosa ridi A parte che anche sopra il tuo letto C'è un mostro Visto la faccia che ti hanno fatto Ragazzi è bruttissimo Guardate che brutto C'è il temporale Oh mio dio C'era Jeff the Killer fuori Masha è scomparsa Oh io non ho visto dove è andata Forse voi lo sapete È andata da orso E allora va a svegliare orso Orso Non usa le candele Già paura di mio Poi usi le candele Per andare a trovare Jeff the Killer Ma usa qualcos'altro Guardate Era entrata una cosa Dalla finestra C'è una vespa Ma era entrato Jeff the Killer Cos'è successo questa volta Non lo so Signora russa Cosa ci fanno queste vespe E vabbè Le lapi stavano raccogliendo il miele E questi si spaventano Oh mio dio Si è aperta la finestra Lo sapevo che era entrato qualcuno No C'è qualcos'altro Signora russa Io lo so che c'è qualcosa Guardate Masha dietro spaventata Sembra che sta pregando pietà Cosa c'è Ragazzi Eccoci Ha trovato i cartoni Ora che l'ho spenta Masha non è Samara Sono io Oh le candele Il buio Così arriva E hit Guardate Era uscito fuori Una roba orribile Ma non scassare Ho visto qualcuno di orribile Abbiamo completato per Masha Dobbiamo far dormire Anche gli altri personaggi Ma cos'è questa risata Orribile Bravo Mangiatene così Sei tranquillo Che devo fare E vabbè Ma chi è che è entrato Dentro il frigo Ha fatto sto schifo Però Non è che se il frigo Era ridotto così Non potete Ecco Ora possiamo dormire Con queste bambole brutte Come la fame Guarda là Sono delle bambole maledette Queste Dormi dentro Eh dormi qua Dentro il Qua Dentro il cappello Coniglio Che devo fare i libri Eh qui Dentro il cappello Te l'ho detto Sono più intelligenti di te Dormi dentro il cappello Vai coniglio Ciao Vai ti spengo la luce Perché sennò Non ti lascia dormire Cioè dobbiamo aiutare A sopravvivere A Jeff the Killer Dobbiamo aiutare a sopravviverli Adesso faccio l'ultimo livello Poi ragazzi Lo continuiamo nei prossimi video Se vi interessa Questi sono degli scoiattolini Che dobbiamo fare Guardate che faccio Orribile nella finestra Ma perché compaiono Ste facce Sarà forse l'orario A cui sto giocando Che fa comparire sta roba Perché sto giocando A luna di notte Oh Puliamo le fa Questa qua Con orso No dammi quella con orso Che sono curioso Di vedere cosa è successo Guardate qua orso è spaventato Che è successo Ma c'è la Jeff the Killer Nell'immagine ragazzi E voi dormite tranquilli È buio Io sento dei versi orribili Di sottofondo Non so cosa è successo Ma direi che lo scopriremo Nei prossimi video Se vi va Effettivamente però ragazzi Inizio a vedere tutto rosso È normale Sarà un effetto ottico forse Non lo so Vedo tutto rosso Ma non di nuovo però Mi ha riferito un'altra volta Ma quanto ce n'è Ragazzi scusatemi un attimo eh Guarda Cioè da quanto ce n'è È diventato rosso il fazzo Il tovagliolo Ma è normale Ragazzi di nuovo Episodi di Masha Guardate ci sono gli episodi di Masha Fatti strani Sta parlando Sentite Pensi che sopravviverai sempre No che non lo penso Masha Però almeno con te spero Questa volta perderai E invece sarai tu a perdere Masha Io ho bisogno della tua anima Per continuare il gioco Di che cosa sta parlando ragazzi Quale gioco Ma di che parla questa Lo show continuerà Con o senza di te Maggirai tre amici Uno ad uno Dopo di te E poi passerai i tuoi scritti Piano piano Conquisterai un mondo Non ti azzardare a toccarli Non ti azzardare Masha forse stai esagerando Un po' troppo stavolta Non puoi fermare Sono una bambina Molto molto cattiva E sono Non è vero Perché io ho gli allarmi E non sono suonati Quindi non ci sei Attaccato Perché sono diventato io Masha.exe E adesso iscriviti Se non vuoi che ti venga A mangiare Sono tornato dal McDonald's King Burger Mega Galattico Perché ho preso Gli Happy Meal Di Masha e Orso Questo è l'Happy Meal Di Orso Non lo voglio Non voglio sapere Cosa c'è dentro E qua c'è L'Happy Meal Di Masha Che è molto carina Io direi Iniziamo subito Ad aprire L'Happy Meal Di Masha Perché forse è meglio Abbiamo anche la Coca Cola Che possiamo Con la cannuccia corta corta Che la possiamo bere Dopo Ovviamente Magari dentro Il nostro bicchiere Quello horror Quello qua Coiteschi Questo è Gianfranco Luigi Mattia E Antonella Perché non hanno messo Mi piace Quindi mettilo Perché se no farei questa fine Andiamo ad aprire L'Happy Meal Di Masha Ragazzi ma Guardate Si sono mossi gli occhi Si sono mossi gli occhi Di Masha Sei viva Ora non più sicuramente Andiamo ad aprirlo E vediamo cosa c'è Il dentro Ma è normalissimo Ragazzi Prima volta che ordino Un Happy Meal Maledetto Ed è normale Abbiamo Guardate Abbiamo queste Che sono le nuggets Di pollo E poi abbiamo Le mega patatine chips Ragazzi A questo punto Direi Lasciamo l'Happy Meal Qua E andiamo subito A provare La mega Coca Cola Che sicuramente Sarà gustosa E sicuramente Voi non vedete L'ora di vederla Ragazzi ma Mi è sembrato di sentire qualcosa Guarda dietro Sembra che si vede un'ombra Ma dove c'è la porta Sembra che si vede un'ombra Forse è un effetto visivo mio Andiamo a vedere la Coca Cola Facciamo finta che Mascha Non l'abbiamo vista Se l'hai vista Scrivilo nei commenti Facciamo finta di niente Ok Proviamo Ragazzi È tutto buono È tutto buono per una volta Ma che forza Oh mio Dio Ragazzi Che botta Sto bene Raga Oh mio Dio Oh mio Dio Guarda È cambiato È un altro Happy Meal Scusa se t'ho sputato Ma sono spaventato È un altro Happy Meal Ma state scherzando Ma non è credibile Sta cosa Guarda Ha gli occhi diversi adesso Oh mio Dio Sembra di sentirla ridere quasi Vero Ok apriamo Ecco le Happy Meal Guardate Ora lo apriamo Questa era la giusta punizione Per non aver usato Il nostro bicchiere fantomatico Della gente che non metti Mi piace Andiamo ad aprire le Happy Meal E vediamo cosa c'è dentro Stavolta Raga C'è quello che mi manca Un cervello Forse il cervello di orso Può essere un cervello di orso Grande così Tra l'altro Non è fresco È duro L'ha fatto fuori Prima di venire qua Guarda È bruttissimo Sembra Impacchettato Da qualcuno di orribile No io non ce la faccio ragazzi Raga non ce la faccio A me fanno paura A me fanno paura i ragni Guarda Ci sono finti per fortuna Però mi fanno paura Fate cacare Brutti esseri orribili E ci sono Le sue ragni a tele con i figli Guarda C'è il mondo Ma perché hanno fatto tutto questo Non dirmi che Ma questi mi sa che sono di mascia Hanno litigato mascia e orso Mi sa Non sono stato io polizia Se stai guardando sto video Me l'hanno mandato Guarda Deve essere stata Deve essere stato orso Magari mascia L'ha fatto andare di fuori Lui ha detto Basta Infatti in questa foto Non è che sia tanto carino Da vedere Poi abbiamo Un altro dito di mascia Poi abbiamo Poi abbiamo Delle pozioni horror Questo abbiamo proprio Butterò via Guarda Sono pozioni horror Io non ne provo neanche una Ma se raggiungiamo il mio Mi piace Le provo E questo chi sembra Sembra lo zio fester Ma non hai capelli Devono essere delle pozioni maledette Queste Guardate come si muovono tutte Questo ragazzi Sappiamo che cos'è Non lo posso dire Perché youtube è cattivo Ma sappiamo cos'è Poi c'è Aia Questo è vero però Avete visto i denti rossi Guarda cosa mi ha fatto Che schifo Speriamo che non sia venenoso Secondo voi che tipo di ragno è Secondo me è il ragno tombino Sono quei ragni che arrivano da dentro i tombini E ti fanno BV7 Fanno schifo sti ragni Adesso mettiamo tutta la roba Che non ci serve dentro Tanto questo l'abbiamo visto Passiamo al prossimo Happy Meal Che è quello di orso Raga Ma si sente ridere Oh mio dio ragazzi Sembra che c'è il terremoto Guardate Oh mio No raga non è normale Guarda C'è Masha C'è Masha L'ho ripresa ragazzi L'ho ripresa Ce l'abbiamo fatta Riprendere Masha.ex Però è vero Mi sono scordato Di vedere la coca cola Di quell'Happy Meal Ecco perché si è arrabbiata così E dobbiamo berla qua Perché io ve l'avevo promesso Che l'avrei bevuta qua Quindi Guardate Non ha un bel aspetto Guardate ragazzi Questa potrebbe essere una pozione È brutta È orribile Io la vado a bere Siete pronti? 3 2 1 Sia appena di plastica Guardate ragazzi Guarda Il naso Un'altra volta Ha fatto di nuovo questa cosa Guarda Col naso che va a giro È bruttissima Sto effetto ragazzi Guarda Oh mio dio Sembro Dumbo Guardate Se non ti scrivi Non lasci mi faccio In tre secondi Vengo in casa tua Stanotte con un'arma da fuoco Nuove pill Questa volta invece Abbiamo orso E infatti ragazzi Dentro ho trovato Questo Fuori ho trovato questo E guardate Sono gli action figure Di FNAF Perché l'ho trovato Proprio nell'Happy Meal Di orso Secondo voi Perché c'è anche lui C'è anche lui E io giustamente ho trovato Il mio preferito Che è Foxy Ma quello che si Ma quello è un castoro È un castoro Vabbè È il chip Ragazzi fatemi sapere Qual è il vostro Animatronics preferito Nei commenti Il mio è Foxy Ma non fatevi influenzare Perché ad altri Potrebbe far brutto E questo ragazzi Ce l'ho davvero È il mio pappagallo Chris Oh mio dio Mi è sembrato di sentire Qualcuno che si muoveva Tu stai qua Anzi guarda Guardatelo attentamente Perché a me ogni tanto Sembra che si muove Non lo so se vedete Se gli si muovono gli occhi O qualcosa A me ogni tanto Sembra che si muove lui Boh Lo terremo qua Lo terremo qua In bella vista E andiamo avanti Con gli happy meal Ma prima Se vuoi sopravvivere A tutti i mostri E non essere mangiato Da mashup.exe stanotte Compra il nuovo libro di game time Che trovi in libreria In le mie descrizioni Ci sono tutti i segreti Su come faccio A sopravvivere ai mostri E come sopravviverà Le tue paure Mi raccomando Link in descrizione In libreria Richiedi La scuola dei mostri Apriamo l'happy meal Non vi ho ancora fatto vedere niente Abbiamo Guardate Sono le chicken nuggets Sì prima sono checiappate Di umani E poi abbiamo anche Cioè sono mangiate No però Io pago E io pago E io pago E io pago Cioè Ragazzi queste Allora non so voi A me non sembra pollo però Non so da dove arrivi sta roba Ma non mi sembra pollo E questo non mi sembra ketchup O è un pollo di tre giorni Ma guardate dentro È strano Sembra più gatto ragazzi Cioè Non l'ho mai mangiato Non mi sono mai informato però Ragazzi questo mi sa che è un occhio eh Lo mangio Ma voi dovete lasciare mi piace Perché se no mi sento male eh 3 2 1 Mmm che schifo Mmm E poi mi fanno anche le pubblicità Del McDonald's Alle tre di notte Dove c'è uno che fa Questo è il my selection Vieni a provarlo E poi ci trovi sto schifo dentro Scusatemi Io vado avanti Patatine Di quattro giorni fa Non so se neanche se sono patatine Se sono pezzi di legno travestiti da patatine Anche qua ketchup Si vedono anche i nervetti ragazzi Oltre quelli che mi stanno salendo a me a mangiare Questo schifo Aia Raga Fu malissimo sta roba Fu malissimo sta roba Raga mi sento qualcosa che mi scorre Oh cavolo Non mi dire di nuovo E che l'ha rifatto Però da vede essermi tolto tutto Non mi dire che l'ha rifatto di nuovo Anche l'altra volta ha fatto guare Masha Secondo voi ce l'ha preparata Masha Sta roba Ragazzi mi ero scordato una cosa da parte C'era veramente anche lui Sono stupido Me l'ero scordato E c'è veramente freddi ragazzi Di FNAF Perché è l'Happy Meal degli orsi Il prossimo Happy Meal potrebbe essere quello di FNAF Vado ad aprire L'ultima cosa del nostro Happy Meal Che è questo A molti di voi potrà sembrare un occhio vero Ma Sappiamo benissimo che non è così Sappiamo bene che questi sono i famosi trolli Infatti Quest'occhio non è vivo Non si muove Ma che E invece si è mosso O è una mia impressione O si è mosso Forse mi hanno Stordito un pochino Le caramelle dentro l'Happy Meal Ragazzi Guardate Si muove Però non si apre questa roba E allora io la lascerei qua Direi andare a provare la Coca Cola Di quest'altro Happy Meal Non credo che ci faccia un bel effetto Ma io la provo uguale Tanto oramai siamo in ballo per giocare no? Mmm 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 Cos'è successo? Dove mi trovo? Mmm Ehi Frost Non devi preoccuparti Perché è uscito il nostro nuovo libro Che si trova adesso preordinabile su Amazon E presso in tutte le librerie d'Italia Perché fai non lo preordini? Andere Che 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 Che